Difensori, c'è l'Avvocato De Cataldo, ecco c'è anche l'Avvocato Gulti per Dio Dallegno. Le mettiamo allora in sostituzione degli altri. Da Ascoli ci sentite, vero? Buongiorno, Signor Presidente, da Ascoli vicino, l'imputato Giuseppe è presente. Se si vuole avvicinare al microfono, signor Calò, approfittiamo del fatto che non c'è ancora l'imputato Vittor, che deve arrivare con l'aereo, se vuole fare le sue dichiarazioni approfittiamo di questa occasione. Dica pure, naturalmente molto stringato, che già ha parlato tanto. Signor Presidente, purtroppo non è che io non ho concluso l'altra volta queste collaboratori, perché io gli ho detto che tutto quello che dirò io posso documentare. Allora, cominciamo con Giuffre, perché dobbiamo definire il discorso della Giuffre. Ha detto che io usavo un documento fornito da Gesù di Ayaloro, cioè uno con un paesano forse che si chiamava Ayaloro. Allora, una volta che lui sicuramente attraverso o la televisione o sul giornale, perché purtroppo il mio nome è stato divulgato in tutte le televisioni o nel giornale, che mi facevo chiamare Ayaloro, allora ha preso lo spunto, essendo che aveva un paesano che si chiamava Ayaloro, ha detto che Ayaloro era quello, il documento mio era Ayaloro il suo compaesano. Invece, signor Presidente, siccome è un grande calunnatore questo Giuffre, ma non solo per questo motivo, ma per altri motivi, ha fatto diventare a di Gesù un briacone, che poi era una persona dignitosa e non era vero, non è vero che era un briacone, perché doveva dimostrare che aveva fatto delle confidenze a lui, essendo in quello stato di ubriachezza. Ma in ogni modo, signor Presidente, vorrei dire al Pubblico Ministero che questo Ayaloro, questo nome che io usavo, e avevo la patente al nome Ayaloro, ma era un mio compagno di lavoro, cioè è stato dieci anni nel magazzino dove io lavoravo, di tessuti, ed era, a parte che era rimasto come amico, anche poi dopo, dopo che io me ne sono, mi sono licenziato di quel magazzino. Quando io, purtroppo nel 73, mi fecero un mandato di cattura, ricordai questo, perché anche perché conoscevo sia tutta la famiglia, conoscevo il nome del padre, che si chiamava Nicasio, conoscevo il nome della madre, conoscevo pure i fratelli, allora mi venne facile usare questo nome nativo, però per non metterlo nei guai, anziché dire che mi chiamasse Ayaloro Antonino, come si chiamava lui, io dicevo Antonio Ayaloro Mario, però io la patente me l'ero fatto falsa a quel nome di Ayaloro. Ora, se lui, il Pubblico Ministero vuol sapere se esiste questa persona o non esiste questa persona, è facile, perché sia alla, sicuramente lui non so se è morto, è vivo, perché aveva qualche anno in più di me, attraverso l'impas, perché sicuramente sarà stato pensionato, e poi le dico anche un'altra cosa, nel 73, nel 72, 71, 72, siccome dopo che io sono stato liberato dal processo di Catanzaro, dove ero imputato, e poi sono stato liberato nel 69, nel 71, io rivedo questa persona, ed era sofferente di pissorisi, non poteva più lavorare, ed era proprio nei guai, tanto che io dopo aver ricoverato mio figlio a Roma, nell'Istituto dell'Immacolata, conoscendo questo istituto, gli consigliai di andarsi a curare lì, in questo istituto, e così ha fatto, perciò, se il Pubblico Ministero vuol sapere, anche attraverso questo istituto, può sapere se era stato ricoverato o no, questo Ayaloro Antonino. Allora, questo quanto riguarda Giuffre, poi Giuffre, ma come fa a sapere che io, oppure di Gesù frequentasse gente, oppure la banda della Maiana, se non gli è stato suggerito, perché questo personaggio, io non avevo mai un rapporto, non ho avuto mai un rapporto, non ho avuto mai una presentazione. Quando lui dice che io sono stato ospitato a Caccamo, signor Presidente, Termini Merese è a 5 km da Caccamo, e io avevo un appartamento a Termini Merese, per cui non avevo manco, non avevo bisogno, questo bisogno di andare lì a Caccamo, andare a abitare lì a Caccamo, non c'era. E questo ci sono testimoni che lo possono dire, che avevo questo, perché poi ci sarà Franco Scrima, se il Presidente, perché poi le faccio una richiesta, se è possibile, fa ritornare a Franco Scrima, perché quanto riguarda questa mia abitazione a Termini Merese e per quanto riguarda la mia posizione finanziaria, che lui conosce tutto di me, Franco Scrima, ad ogni modo. Questo quanto riguarda Giuffè, non mi voglio prolungare ancora, perché è assurdo, perché se no non la finiamo più di fare questa direzione spontanea. Questo quanto riguarda Giuffè. Quanto riguarda Di Carlo, signor Presidente, io, a parte quello che hanno detto i collaboratori con Torno e Brusca, che Brusca era sostituto di suo padre, cioè rappresentava un capomandamento, e che questo Di Carlo faceva parte del mandamento di Brusca Giovanni, meglio di lui chi lo può sapere quanto riguarda che lui è stato allontanato e che doveva essere ucciso dopo aver sentito che lui frequentasse, frequentava con Torno nel 1981. Ma non c'è di più, signor Presidente. C'è una dichiarazione di un collaboratore di giustizia che il Pubblico Ministero conosce bene, che si chiama La Barbera Gioacchino, che è stato sentito nel processo per la strage del dottor Borsellino, l'udienza del 7.499, nel procedimento 29-97, dove lui, questo Di Barbera, faceva parte del mandamento della famiglia di Di Carlo, cioè del mandamento di Brusca. E allora cosa dice a proposito di Di Carlo La Barbera? Di Carlo fu, dice così, Di Carlo Francesco fu allontanato da Cosa Nostra nel 77-78. Non doveva più tornare in Italia. Poi si è saputo che frequentava con Torno e per questo hanno deciso che se lo vedevano in qualsiasi posto in Italia si doveva uccidere. La Barbera ha fatto parte in questa organizzazione nel 1981, perciò già nel 1981 lui sapeva che questo Di Carlo non era più a Palermo, ma lo ripete pure in altri processi. Allora io poi farò la richiesta, se avessero l'avvocato, di sentire questo La Barbera e la Barbera Gioacchino. Questo quanto riguarda Di Carlo. Poi parliamo di Mancini. Mancini, signor Presidente, che è stato sbugiardato, almeno per quello che si è saputo lì a Perugia, ma quello che è venuto a raccontare in questo processo. Ha parlato, a parte che io non potevo conoscere cosa, adesso non mi ricordo come si chiama, ha parlato che attraverso il suo amico, non mi ricordo in questo momento come si chiama, ha parlato di un fatto, cioè che io ho avuto uno schiaffo da un signor Cosentino. Allora lui si è messo a disposizione con il suo amico per eventualmente vendicare questo schiaffo mio. Se l'è segnato, signor Presidente, oppure era drogato quando l'ha riferito. Continua e dice che questo Cosentino poi è sparito. Allora, signor Presidente, io vorrei pregare al Pubblico Ministero di indagare se questo Cosentino è sparito oppure è morto con morte naturale. Io so che è morto con morte naturale perché nell'82 gli andai a fare visita all'ospedale. Questo è quanto riguarda le falsetà, le bugie di questo Mancini. Quanto riguarda Pennino, signor Presidente, Pennino, altro collaboratore, che dice di avermi, che questo qui abitava nello stesso piano Erottolo dove ho abitato io quando mi sono sposato. Questo qui cosa dice? Che nel 74 bontate gli confidò che io, Cosentino, Faldetta, frequentavamo una loggia massone a Roma nel 74. Roma nel 74. Signor Presidente, a parte che io ero latitante e lui forse non lo sapeva, non lo sa, non lo sapeva. L'altitante mi ha accusato di cose grave, anche se poi sono stato assolto. Frequentare una loggia dove io potevo incontrare chiunque, addirittura c'era pure Sindone in questa, frequentava, lo frequentava questa loggia pure Sindone, dice lui. A un modo, signor Presidente, nel 74, io questo ne parlo perché processualmente si può verificare. Bontate era stato arrestato nel 71 per un processo intitolato processo 174. Questo processo, lui nel 73 fu liberato e subito dopo andò a soggiorno brigato e mancò cinque anni da Palermo. Io non so nel 74 dove lui ha potuto incontrare questo Bontate a fargli questa confidenza. E poi, essendo che era, come ha detto lui, che non era un uomo d'onore, io non credo che Bontate si prestasse a confidarle Pippocalò. Ma questo pensiero di dire Pippocalò frequenta questa loggia massona. Questo per me è un'assurdità. A ogni modo, per me è bugiardo. Lanzalaco, signor Presidente, io non voglio dire niente sull'anzalaco. C'è stato tutto quello che è venuto a dire qua. E mi dispiace se il Pubblico Ministero non era a conoscenza, ma io credo che era a conoscenza. Il risultato di questa dichiarazione che è venuta a fare qua le ha fatte a Palermo, alla Procura di Palermo, ma tre anni fa. La Procura di Palermo ha indagato per due anni, addirittura mia moglie, ha indagato mia moglie. Anzi, io devo ringraziare questa Procura di Palermo che non ha arrestato, perché di solito prima arrestano e poi fanno indagini. Si vede che non hanno creduto ad otto principio quello che ha detto questo Lanzalaco e per due anni è stata indagata mia moglie e hanno archiviato il caso. Queste stesse dichiarazioni che ha fatto allora l'è venuta a fare qui in questo processo. Che cosa voglio aggiungere? Che cosa debba aggiungere di Lanzalaco? Non debba aggiungere niente. Quanto riguarda Cangeme, signor Presidente? Di Cangeme debbo perdere un po' di tempo. Cangeme, bugiardo su tutti i punti di vista. Quando l'hanno arrestato, quando l'hanno arrestato, quando lui si è presentato per dire che voleva collaborare con la giustizia, la motivazione di questa sua collaborazione era perché ha detto allora che volevano ucciderlo e allora lui preferì presentarsi e fare il collaboratore. Che poi ha cambiato visto che forse gli è stato suggerito, guarda, allora ti conviene dire un'altra cosa, un'altra motivazione. Ora adesso dice un'altra motivazione perché lui si è presentato. Ma ci sono le dichiarazioni che ha fatto allora ai carabinieri. Allora, quando cominciò le prime dichiarazioni che ha fatto Cangeme, ha fatto trovare in Svizzera seppellite un milione e ottocento mila dollari dicendo che questi soldi erano miei e di un altro. Credo che di Rina. È venuto il procuratore di Lugano, di Lugano, di Lugano, di Lugano, la dottoressa Ponte, assieme con il procuratore di Palermo, dottor Caselli, a venirmi a contestare queste dichiarazioni. Ma io non le ho potuto rispondere perché era assurdo. Ora si è venuto a sapere quando Scrima cominciò a collaborare che questi soldi non erano miei ma erano di Scrima e di Cangeme. Ora quando viene qui e dice, quando in questo processo che non aveva mai detto che io sono stato in Svizzera a prelevare 4 milioni di dollari, questo non l'aveva mai detto, si vede che qui voleva dare una mano a questo processo e ha fatto quella dichiarazione. Signor Presidente, di Cangeme, io ho molte cose da dire. Cangeme è stato quello che ha accusato parecchi magistrate, avvocate, che poi non c'è stato, sì, ci sono state indagini. Per esempio ha accusato un magistrato, faccio il nome perché c'è stato un processo, signor Presidente, il dottore Aiello. Io sono stato chiamato come teste perché Cangeme ha detto che io avevo rapporti con questo, questo Presidente è stato anche Presidente in Cassazione per un periodo, non lo so, sì, sì, senz'altro. Dicendo che io avevo rapporti e potevo fare di questo magistrato quello che io ne volevo. Bene, gli hanno fatto un processo su queste dichiarazioni a Caltanessetta e il Pubblico Ministero sicuramente lo sa. Allora sono stato chiamato come teste, io di solito non ho mai risposto, questa volta ho voluto rispondere. Poi prima ho voluto sapere di cosa si trattasse e mi dicono che Cangeme aveva fatto queste dichiarazioni. Signor Presidente, io nel 91, questo è successo nel 94, non pare, 93, 94, in questo periodo, nel 91 io sono stato ricoverato in ospedale e avevo un problema alla vescica, avevo un tumore alla vescica, avevo chiesto gli arresti ospedali e a una corte d'assisi di Palermo, sono stato controllato da alcuni periti e la malattia l'hanno riscontrato, però la corte ha deciso che, dato la pericolosità dell'individuo, dice ci sono i mezzi in carcere di potersi curare. Eh beh, e mi hanno rigettato questa. Parlando con l'avvocato ho fatto ricorso in Cassazione. La Cassazione, chi è presedeva la Cassazione? Era il dottor Aiello. Non solo che me l'ha rifiutato, ma me l'ha motivato come se fosse stata una sentenza di condanno. Io questo ho detto lì al Tribunale di Caltanessetta e credo che poi l'avranno riferificato. Ecco, se io avessi avuto un rapporto con questo Presidente di Cassazione, io penso che, non è che stavo chiedendo la luna, che stavo chiedendo gli arresti ospedaliere con la malattia che avevo. E' stato assolto. Poi accusato, io non voglio fare il nome, ma sono stati poi scritti sul giornale. Io sono stato giudicato, signor Presidente, di tutti i Presidenti accusati dei collaboratori. Non c'è stato un Presidente che ha giudicato me e che non è stato accusato di Cangeme e qualche altro collaboratore, ma di Cangeme in parte. Purtroppo questo è il Cangeme, che poi sono state archiviate tutte perché non è stato creduto. Ha accusato degli avvocati che la Cassazione, infatti c'è stata pure una sentenza di Cassazione dove dice che la Cassazione è sentenza Cangeme e inattendibile. Questo è il 26 maggio del 2005. Ha accusato un avvocato come colluso con la mafia. E poi altre sentenze. c'è stata una sentenza, signor Presidente, che io vorrei leggere cosa dice, cosa ha detto il Presidente di questo, di questa, il Presidente di appello di questo processo, che accusò me per un delitto. Mi scusi un attimo, signor Presidente, ce l'ho qui. E allora, una delle tante motivazioni della Corte di Appello di Palermo nel procedimento numero 10-2000, sentenza 10-2000, sentenza 10-2000, così dice, come ha giustamente rilevato il giudice di primo grado, perché il primo grado mi hanno assolto pure, come ha giustamente rilevato il giudice di primo grado, le popolazioni di Cangeme per l'omicidio sorrentino non si presentano dotate di lealtà e genuinità e non fanno altro che confermare il non limpido percorso della sua collaborazione, già profilatosi nel non ammettere le sue personali responsabilità della strage di Via D'Amelio e nell'avere accusato di avere commesso omicidi, ganchi, calogero, che ne è invece il risultato estraneo. Questa è una parte della motivazione, ma ne dirà di più la Corte. Questo è Cangeme, signor Presidente. Un'altra cosa, ora, lasciamo stare Cangeme, perché il Pubblico Ministero di queste cose li sa, perché tutte queste cose sono state sviluppate nelle strage del Dottor Falcone, dove il Pubblico Ministero era lì, pure lì, come Pubblico Ministero. Ora, quanto riguarda la sentenza che il Pubblico Ministero ha inoltrato alla Corte della sentenza per la loggia Scontrino di Trapane, facendo capire che Agate Mariano era imputato in quel processo, io le devo dire, dato che Mariano Agate si trova qui, in carcere con me, in questo carcere, ho chiesto, dico, ma lei ha avuto un processo? Io, dice, non sono stato mai interrogato, mai indagato, se è stato qualche accertamento fosse in quel processo, per la dichiarazione di un collaboratore. Però io non ho avuto mai un processo, allora in quel processo, perché il Pubblico Ministero vuole far capire che la Cosa Nostra è coinvolta pure, si può fare parte in Cosa Nostra e anche in masoneria. Allora, Mariano Agate non è stato mai giudicato per questo processo Scontrino. Ora, signor Presidente, per quanto riguarda la mia posizione finanziaria, io quello che ho detto, signor Presidente, si può riscontrare, perché io vengo da impiegato, mio padre muore nel, sono stato rimasto offano nel 78, nel 48 di mio padre e mi sono andato a impiegare. Io dopo l'impiego ho gestito un bar, aveva al nome mio, la licenza al nome mio, che io farò richiesta per vedere, per controllare queste cose, queste mie dichiarazioni. Dopodiché nel 63, io mi spicca il mandato di cattura del processo 114, il processo che si è celebrato a Catanzaro. Ne esco nel 1969. Franco Scrima, che è adesso collaboratore, quando io sono uscito io non avevo attività, avevo una società di un affitto, cioè di un sopraffitto di una pompa di benzina, che in società con una persona, che questo mi ha garantito la famiglia, purtroppo rimettendoci forse i soldi della tasca, per tutto il periodo che io sono stato carcerato. Quando io sono uscito, io che cosa ho fatto? Ho lasciato libero quella pompa di benzina, l'ho ringraziato di tutto quello che aveva fatto per la mia famiglia, questo mio socio, che si chiama Maggiolini Salvatore. Nelle misure di prevenzione io ci ho tutto presentato, tutte le mie situazioni le avevo presentate allora quando mi hanno fatto le misure di prevenzione. E Franco Scrima, essendo allora ancora non sposato, era scapolo, aveva una macelleria, mi prese con lui, cioè mi ha messo in società con lui per guadagnare e poter vivere e campare la famiglia. Dopodiché lui si è aperto un'altra macelleria e quella macelleria dove lui, che era di mio zio, che lui gestiva, me l'hanno ceduta a me, mio zio è Franco Scrima. E sono stato per 3 anni, 4 anni, facendo il gestore di questa macelleria con la licenza a mia moglie e io come collaboratore che risulta, io sono pensionato e nella mia pensione risulta che io ero collaboratore di questa macelleria. Quando io me ne vado a Roma, signor Presidente, l'additante nel 73, dal 73, nell'inizio del 74 me ne vado a Roma, io che non posseggo niente, io ho una piccola cifra, tant'è vero che io ho voluto investirli nelle sigarette per poter vivere l'additante a Roma. Mia moglie viveva con la macelleria, con l'impiegato e io che vivevo a Roma, per vivere a Roma ho dovuto chiedere aiuto a Balducci e questa piccola cifra ho messo nelle sigarette, ho partecipato per le sigarette, però devo dire che io non vivevo male, perché con il guadagno delle sigarette, non è che ho impiegato 5 milioni, mi hanno dato il guadagno, io le ho lasciate quei soldi, per cui andavano crescendo e io ho potuto comprare, con l'aiuto poi che mi dà Balducci, facendomi guadagnare nella sua attività di compravendita, io ho potuto comprarmi, ho avuto l'anticipo della casa che ho comprata a Roma e la proprietà che ho comprato a Tuscania, che poi, questa proprietà venduta da questo Giudo Oberdan, si chiama Oberdan, c'è una dichiarazione che ha fatto nel processo Angelini, come è stato, perché me l'ha trattato Balducci questa proprietà, con i soldi che mi ha fatto guadagnare lui, mi ha comprato questa proprietà, poi nell'82 signor Presidente, io per necessità di cose che non vi voglio prolungare, io ho dovuto per forza fare parte in una società, nel traffico della droga, società con me, c'era Franco Scrima e Cangemi Salvatore, loro possono dire, e io ripeto signor Presidente, voglio risentire Scrima, perché è l'unico che mi può dire tutto quello che io ho potuto guadagnare con le mie situazioni finanziarie, e io quello che ho guadagnato io l'ha guadagnato Franco Scrima e tutti questi miliardi, Cangemi quello che ha guadagnato le ha date allo Stato, Scrima quello che aveva l'ha dato allo Stato, e io quello che ho guadagnato signor Presidente, sono da 22 anni in carcere, sono andate gli avvocati e quelle spese che ho bisogno di fare, io adesso vivo con la pensione, tutti questi miliardi che i collaboratori dicono che ho avuto soldi di qua, soldi di là, signor Presidente, questa è la mia situazione, lo può confermare se è onesto, Cangemi, ma Franco Scrima che non è che mi ha trattato bene con questa sua collaborazione, perché ho preso due gastole con le sue dichiarazioni. Lo risentiamo signor Presidente, e così lei si renderà conto la mia posizione finanziaria a che punto era, e che adesso non c'è più, non ce l'ho più perché non ho più niente, ho solo la pensione che devo pagare avvocate, ci devo vivere e ci devo vestire. Signor Presidente, io per adesso devo fare queste richieste signor Presidente, appena io mi sentirò con l'avvocato, non so se a Roma c'è già l'avvocato, qualche mio avvocato, oppure quando viene l'avvocato Gianni, farò fare queste richieste alla corte signor Presidente. Va bene, tanto c'è te. La ringrazio, grazie a lei per la sua concisione. Grazie. Non è arrivato Vittorio. Presidente, qualche minuto sta per arrivare. Allora facciamo, non so se non ci sono richieste o altre cose di cui dobbiamo parlare, possiamo fare una pausa in attesa che arrivi. Va bene? Si vuole accomodare? Signor Vittorio, prego. Presidente, il signor Vittorio chiede di non essere ripreso e poi di potersi avvalere di quel foglietto. evitiamo di riprenderlo, anche se fino adesso l'hanno ripreso, non vuole evitare di dire. Comunque va bene, il suo diritto. Si accomodi, lei vuole rispondere, lei vuole essere sottoposta all'esame. Prego, il pubblico ministero può rivolgere domande. Signor Vittor, buongiorno. Buongiorno. Vuole iniziare a spiegare alla Corte come mai lei è diventato l'accompagnatore di Roberto Calvi? Ma, certo. Io praticamente conoscevo molto bene Carboni, Carboni Flavio. Il giorno tra il 10 e l'11 mi chiamò. 10 e 11 di che mese? Di giugno, dell'82. Ma lo conoscevo molti anni prima. Se frequentavamo in seguito le due ragazze che erano due sorelle e una era praticamente affinanzata di Carboni, se si può dire. E il giorno tra il 10 e l'11 mi chiamò e mi diceva se avevo una barca per fare una gita in Dalmazia. E lui dice, sì, si potrebbe anche fare questa gita. E mi disse che mi avrebbe chiamato il giorno 11, venerdì 11, all'ora di pranzo, per chiedermi delle cose. Gli ho detto, va bene. E così, praticamente, tra l'1 e le 2 ho ricevuto questa telefonata di Carboni, il quale mi diceva che era una persona, si era in grado di portare una persona in Austria. Io le disse che andava bene, prendemmo l'appuntamento, adesso non ricordo se l'ho fatto io o se l'ha fatto lui all'hotel di Trieste, alle 6 del pomeriggio. Mi disse che veniva un segretario suo, però io forse avevo sentito il nome di Pelicani qualche mese prima, però non posso essere sicuro, non li escludo comunque che non abbia fatto il nome di Pelicani, però non lo conoscevo assolutamente. E io li ho descritti come ero vestito, pantaloni bianchi, una maglietta, me la ricordo molto bene, verde, bianca. E così, io andrei alle 6, dall'appuntamento alla palestra del pomeriggio, aspettare Pelicani e l'albergo del Celso di Trieste. E così è iniziata la sua avventura. Esattamente, la mia odissea, più che avventura. Allora, le volevo chiedere, lei è responsabile dell'omicidio di Roberto Cali? Assolutamente no, ne escludo categoricamente. Lei, quanti anni ha? Adesso ho 63 anni, presto. 63 anni. E l'epoca dei fatti? 30, 38, 37, 38 anni. 37, 38 anni. Lei, quando fu indagato per la prima volta per concorso in omicidio di Roberto Cali? Del 2003. Lei, o perlomeno così da risulta, lei fu interrogato come indagato dal pubblico ministero, ricorda, il 13 dicembre del 2003? Sì, certo. Le chiedo, lei ricorda di aver avuto nel corso di questo interrogatorio delle crisi emotive, con sospensione di fatto dell'interrogatorio e mantenimento della fonoregistrazione per il tempo necessario a consentirle di riprendersi, di avere pianto a più riprese? Sì, mi ricordo qualcosa così, sì. Sì, senta. In particolare, esaminando quella trascrizione, ne risultano due crisi emotive, chiamiamole così. Ma non era che ero crisi, ero insomma, non era crisi emotive, insomma, ero un momentino così dispiaciuto. Dispiaciuto, e a ciò aveva fatto seguito, come dire, una commozione, il pianto. Sì, certamente, certamente. Senta, lei mi ricorda in corrispondenza di cosa, di quali momenti, ecco, si sono verificate queste crisi emotive, chiamiamole così, ecco. Se mi aiuta, sarò più preciso, posso essere, non vorrei dire delle cose, purtroppo, anche se sono passati due anni mese o tre, però mi farebbe piacere che lei mi aiuti a ricordare. Allora, esaminando la trascrizione di quell'interrogatorio, risultano queste due crisi emotive, quando si è trattato di spiegare chi ha deciso di andare a Londra. Sì. Chiedo scusa, però, c'è opposizione, nel senso che io credo che la testimonianza dovrebbe essere sui fatti. Prima gli facciamo ricostruire, casomai, i fatti, poi andiamo a chiedergli come ha ricostruito i fatti nel corso di un interrogatorio del 2003. Vediamo se gli vengono le crisi emotive oggi. In base a quale norma lei fa questa opposizione? In base alla norma che il testimone riferisce sui fatti oggetto del processo, non su quello che è successo nel corso degli interrogatori, nell'ambito dei quali gli è stato chiesto di riferire sui fatti. Facciamogli prima riferire i fatti. Sì, ma sono fatti anche questi, che comunque sono rilevanti ai fini dell'accertamento della verità. Quindi l'opposizione respiro. Ecco, le stavo dicendo, signor Vittor, che, diciamo, le due crisi emotive ci sono state quando si è trattato di spiegare chi ha deciso di andare a Londra. Sì. Sì. Sì, dalle pagine 11 e 13 della trascrizione. Sì. Allora, in quell'occasione, ecco, che cosa ha generato questa situazione di crisi e che cosa disse con riferimento alle sue precedenti dichiarazioni rese agli inquirenti sul punto? Ecco, vuole spiegare le ragioni del perché nel passato aveva mentito al riguardo. Non ricordo, posso aver detto delle cose perché, a taglio al riguardo dei verbali precedenti, anche perché, cioè, avevo paura, non sapevo nemmeno io dove, da che parte sono finito, ecco. Non sapevo, dicevo le cose così, ero sotto socca, dicevo le cose a caso, quello che mi capitavano, cercavo di dire anche la verità, no? Per questo che ho detto tutte le bugie, assolutamente no. Però, qualcosa, posso aver raggiunto delle cose o non aver detto delle cose, per esempio, diciamo, del percorso che ho fatto io. Ho capito. Senta, ci arriviamo per un altro verso. A Bregenz, già la Corte conosce molto bene l'itinerario, che avete seguito. Sì. Soffermiamoci per un momento a quello che accadde a Bregenz. Sì. Ecco, chi avete incontrato a Bregenz il lunedì 14 giugno 82? Allora, io e Calvi stavamo cenando e si è presentato Carboni, che io non conoscevo allora, e un certo che si presentò come Hans Kuntz, una cosa del genere, un cittadino svizzero. Sì. E dove l'avete incontrato, lo ricorda? Sì, certamente, un ristorante a pochi metri dal dove noi praticamente lo giochiamo. Sì. E, grosso modo, ricorda quando è stato? Ma era la sera, dopo le nove, non ricordo l'ora, anche perché non era che stavo a quello reggioso a guardare le ore, se si mangiava le otto, le nove, comunque era la sera tarda. Ecco, cosa venne detto nel corso della cena a Bregenz? Chi ha deciso che Calvi doveva recarsi a Londra e dove e quando è stato deciso? Ripeto, chi ha deciso che Calvi doveva recarsi a Londra, dove e quando è stato deciso? Praticamente dove è stato deciso non lo so. Io ho sentito parlare là che parlava e Kuntz, e Carboni e Calvi, che diceva che praticamente era rischioso farlo passare in Svizzera, dove lui, praticamente noi siamo partiti per la Svizzera, anzi io non dovevo andare in Svizzera, io dovevo ritornare a Klagenfurt. Lo disse Flavio, ma più di tutto penso che l'ha detto Kuntz, però loro due, di là è partita via, così, ho sentito che parlavo, è pericoloso attraversare i confini, ormai un allarme, è stato pubblicato sulla televisione, sui giornali, e là praticamente, così ho sentito io, che la Svizzera praticamente non era più la destinazione. Ecco, quindi chi ha adottato questa decisione? Chi l'ha presa? Io penso che, cioè penso anche a diversi dittori, non vorrei sbagliarmi, io penso che è stato Kuntz e anche Flavio, però principalmente è stato Kuntz. Kuntz e Flavio? Sì, sicuramente me l'avrà detto Flavio, però di quello che ho capito io, Flavio me l'avrà detto sicuramente lui, però di quello che ho capito io, l'idea di questa qua è stata cambiata da, almeno Kuntz diceva, sì è pericoloso, passare i confini, io con la macchina non posso farlo, se vengo fermato qua, insomma questi discorsi qua era così, però io non è che sono stato tantissimo a sentire, in un certo momento mi hanno fatto con gesto così allontanare e sono andato all'albergo, io non sono stato a seguire tutti i discorsi che praticamente hanno fatto loro. Lei ricorda di avere cambiato la sua versione sul punto nel corso di quell'interrogatorio che abbiamo richiamato nel 13 dicembre del 2003, con riferimento a chi assunse la decisione? Sì, io avevo detto Calvi, di fatti la mattina Calvi quando io mi sono alzato, che siamo andati a fare quell'azione, mi ha detto lui, guarda che quella sera, quando io sono praticamente ritornato all'albergo da solo, non è che mi è stato detto a me direttamente, io sentivo che loro parlavano, non è che mi è stato detto a me direttamente si cambia, si va in Inghilterra, il posto della Svissera, no assolutamente, alla mattina mi ha detto Calvi che non andava più in Svissera e che doveva partire per l'Inghilterra e praticamente che si tornava a Innsbruck. Ho capito. Allora io devo effettuare alcune contestazioni. Allora, innanzitutto lei a pagina 11 e 12 della trascrizione 13 dicembre 2003 ha dichiarato, praticamente chi ha deciso, ha deciso Carboni di quello che ho sentito io. È vero. Allora, pagina 11 e 12. Quindi lei in precedenza aveva dichiarato che principalmente era stato Kunz ad adottare questa decisione. invece qui quando è stato sentito ha detto che praticamente la decisione l'ha presa Carboni. Ora, io volevo rappresentarle questo. Leggo proprio esattamente il punto in modo che dei la possibilità di ricordare esattamente le cose come sono andate. Allora, pagina 11, Bruno Misteriosi. Quando è che avete, quando è che si decide e chi decise di andare a Londra? Lei dice praticamente chi ha deciso, ha deciso Carboni di quello che ho sentito io. Carboni è arrivato con Kunz, ha detto che, io dico, io voglio essere chiaro. Kunz, ha detto Kunz, lei dice sì, Kunz e Carboni. Io voglio essere chiaro su questa cosa qua, perché io su questa storia purtroppo non c'entro niente io. Io ho solo detto, e qui si interrompe di fatto l'interrogatorio e diciamo lei ha una crisi e piange, senza sapere niente io non so un cazzo, non l'ho fatto. Allora, ancora pagina 12, lei dice, che è stato, Carboni dice, ha detto, io sono stato a Braggens, mangiando, ha detto, no, è cambiato il programma. Quindi nel corso di quella cena è Carboni che dice che è cambiato il programma. Pagina 12, allora, Carboni ha deciso che Calvi doveva andare a Londra. Allora, lei dice, Carboni dice, ha detto, io sono stato a Braggens, mangiando ha detto, no, è cambiato il programma. E più sotto, ancora, nella stessa pagina 13, lei ha una nuova crisi emotiva e piange. Ancora. 15 e 17. Sì, stavamo mangiando qualcosa, va bene, dopo è arrivato Kunz e Carboni. Allora, salto un pezzo, lei dice, cioè per capire la situazione, come stava, i Carboni con tutti e due, e adesso, io non so, ma penso di tutti e due, di queste, di tutte e due volte, è uscito fuori praticamente che il programma è cambiato, che è troppo rischioso a farlo passare in Svizzera e quindi bisognava andare a Londra. E quindi che... Sì, questo ha detto pubblico ministero, però. Sì, questo ha detto pubblico ministero. E quindi bisognava andare a Londra, e lei dice, e quindi che loro avevano preparato tutto. Adesso non posso dire una parola in più. Adesso non so se aveva preparato Flavio o se avevano preparato loro due. Chiedo scusa, un attimo solo che diamo la parola ad Ascol, al Calò. Dice che vuole rinunciare. Vabbè, appena c'è di nuovo il collegamento, pare che abbia manifestato l'intenzione di rinunciare. Ad assistere ancora l'udienza. Sì, ancora, a pagina 18 e 19, lei dice, però la decisione era di Flavio e di Kunz. Ora che le ho ricordato queste dichiarazioni, lei cosa dice? Vuole precisare, intende precisare le sue precedenti dichiarazioni? Certo, la cosa è sempre la stessa. Comunque l'ha detto Flavio, l'ho sentito dire tra loro due, però il succo della cosa è questa, che loro sono arrivati là dicendo che il programma è stato cambiato e che non si andava più in Svizzera. Non è che ho cambiato versione assolutamente, è solo una confusione di parole, però l'hanno detto loro che non si andava più in Svizzera. Ho capito. Allora, io le richiedo ancora... Possiamo parlare un attimo, Calò che vuole rinunciare. Prego, dica. Mi scusi se è disturbo, signor Presidente, vorrei rinunciare perché non credo che mi possa interessare. Allora, la prossima audienza è il mercoledì. Mercoledì prossimo c'è l'altra audienza. Va bene, grazie, buongiorno. Buongiorno, prego. Allora, la decisione dove è stata adottata di andare a Londra? Cioè, dove è stata adottata appunto questa decisione? Ma io non so dove è stata adottata, io ho sentito parlare che non si andava più a Londra, io non ho chiesto a Carboni o a Kunz perché non si andava, io non potevo fare niente. Io non è che decidevo io cosa fare. Chi decideva era o Carboni o Kunz o principalmente era Calvi che decideva sì o no. Era lui l'ultima parola che aspettava di dire se andare o non andare. Lui non ha fatto posizione nemmeno quando ero io là. Dopo non so cosa loro hanno parlato tra di loro. Ok. Allora, le contesto che a pagina 5 del verbale del 712-90 lei ha dichiarato la decisione di andare a Londra venne presa a Bregenz in occasione dell'incontro con Kunz. Quindi anche in questo periodo del verbale. E' questo che sto dicendo io. E' una cosa diversa, lei ha detto prima che non sa dove è stata adottata la decisione. No, non posso sapere, io ho sentito parlare, io non dico che la decisione... Scusi, non sovrapponiamo le voci. Lei ha fatto in più di un'occasione, già la seconda volta che glielo contesto, in due verbali diversi, dove lei dice che la decisione di andare a Londra è stata presa a Bregenz. Questa è la contestazione che le rivolgo. Lei quale risposta dà? E io do la risposta, che io non so se è stata prega a Bregenz o se l'hanno loro praticamente presa prima. Come faccio a dirlo io queste cose? E' impossibile? Non lo so, non l'ho mai chiesto dove è stata presa questa decisione. Io praticamente non facevo niente, non è che parlavano con me. Non è che Carboni mi disseva, mi consigliava, devo andare qua, devo andare là. Facevano loro, io praticamente sono stato là, non so nemmeno io perché adesso. Mi sto chiedendo cosa stavo facendo là. Ho capito. Senta, io le devo contestare anche un altro punto, perché lei nel corso dell'interrogatorio successivo, del 13 febbraio 2004, alla pagina 130, lei dichiara, il pubblico ministeriale dice, lei lo ha detto, che a portare Calvi a Londra lei lo ha avuto come incarico da Kunze e da Carboni. Lei dice, più da Carboni che da Kunze, perché Kunze l'ho conosciuto là. E' vero. E' vero. Grazie. 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 Allora, vediamo, lei da chi ha ricevuto l'incarico di portare Calvi a Londra? Di Slavio Carboni. Dove voleva andare Calvi? Nel momento che siamo partiti via di Klagenfurt o successivamente? Dove voleva andare anche via Bregenz? Noi eravamo diretti in Svizzera. In Svizzera. Quindi lui voleva andare a... Noi praticamente siamo partiti per la Svizzera. E quindi lui voleva sempre andare in Svizzera? Penso di sì. E meno così... Lei a pagina 205 ha dichiarato, lui voleva andare a tutti i costi in Svizzera. Sì, sto dicendo che voleva andare in Svizzera, non sto dicendo che non voleva andare. Ho detto, siamo partiti per la Svizzera. Ecco, Calvi voleva andare a Londra? Successivamente sì. Ecco, lei ha dichiarato di no invece. Leggo le pagine. Pagina 16 e 17 della trascrizione 13-12-2003 lei dichiara no. Poi a pagina 205, trascrizione 13-12-2003, dichiara no. No, le leggo i passi in modo che sia più chiaro. 16-17. Allora, le leggo. Impostiamogli la domanda. Se continuiamo a leggere tutto quello che ha dichiarato prima, poi cerchiamo di porgli la domanda in modo che risponda in modo più completo. Lei ha detto che, ha sentito questo discorso che facevano tra di loro e che c'era questa proposta di Carboni e di Kunz di non andare più in Svizzera perché era pericolosa. Esattamente. Era pericoloso. Si disse ormai... Nel corso di quella conversazione lei ha sentito Calvi dire qualcosa, replicare qualcosa, dire no io non sono d'accordo, voglio andare lo stesso in Svizzera? Ha sentito qualcosa? Oppure la mattina dopo parlando la sera stessa, parlando con Calvi, ha sentito invece opinioni diverse da parte di Calvi? No, anzi, assolutamente, stavamo aspettando la telefonata per sapersi regolare come dovevamo raggiungere Londra, però l'ho visto, cioè, non era il contrario di non andare, anzi. Sì, vorrò anche detto, sì, ho visto, vorrò anche detto forse quelle parole là, però, ne ho detto tante, tantissime cose, però, io che mi ricordo, non è che lui era stato obbligato ad andare a Londra. Non è stato obbligato, nemmeno penso, non è stato obbligato, assolutamente, poteva andare dove voleva, un uomo libero era, non è che lui è stato messo su un aereo con forza, assolutamente, ecco, questo voglio precisare. Se dopo loro le hanno imposto, questo qua io non lo so, non posso dire, questo posso fare solo supposizioni, io, lui voleva, cioè, nel momento che è stata annullata la Svissera, siamo messi d'accordo per andare a Londra, basta, finito qua, insomma. Ho capito. Senta, allora, io, lei ha chiarito molto bene ora questa nuova versione che ha fornito, e io le devo contestare, quello che lei ha dichiarato, la pagina 16 e 17, allora, lei, e quindi che loro avevano preparato tutto, si riferisce a Carboni e Kunz. Adesso non posso dire una parola di più, poi più oltre, il pubblico ministero, quindi non fu Calvi che disse a lei quando eravate, no, pubblico ministero, mi faccio finire la domanda, non fu Calvi che le disse al ristorante, a Bregenz, il programma è cambiato, andiamo a Dinkluck, prendiamo l'aereo. Lei dice, no, ancora, a pagina, lei è più chiaro, a pagina 205, lei dice, siamo andati a Londra, ho visto che la cosa non quadrava, perché lui voleva andare in Svizzera, Calvi, lui voleva andare a tutti i costi in Svizzera, lui è stato, scusi, è molto diverso rispetto a quello che ha dichiarato prima, però mi lasci finire per piacere, perché altrimenti poi nella trascrizione la contestazione non viene intellegibile. Siamo andati a Londra, ho visto che la cosa non quadrava, perché lui voleva andare in Svizzera, lui voleva andare a tutti i costi in Svizzera, lui è stato, pubblico ministero, lui voleva andare a tutti i costi in Svizzera, lei dice, lui voleva andare in Svizzera e io dovevo portarlo in Svizzera e là finiva il mio compito. Ancora, più avanti, questo lei lo ha detto e lo ha ammesso, indagato, lo ha ammesso, però non sono uno che vado ad ammazzare una persona, pubblico ministero, ma se lei, 206, ma se lei ha capito che le cose stavano precipitando già quando eravate a Preghenz, pubblico ministero, quindi a Preghenz, lei dice sì, perché ha cambiato le carte in tavola. Come ha capito lei che le cose... Che pagina? La terza volta che lo ripeto, 205, 206, adesso sto leggendo 206. E però... Sì, sì, ho risposto... Perché me le hanno chiesto più volte, chiedo scusa della ragione. Allora, come ha capito lei che le cose, pubblico ministero, e ma perché lei ci dice, perché lei ci è andato, perché lei ci è andato assieme e come mai Calvi, pubblico ministero, quindi Calvi non voleva andare a Londra, lei dice no, no, pubblico ministero, e lei dice no, voleva andare in Svizzera, gli si chiede? E Vitto risponde, voleva andare in Svizzera lui, lui voleva andare in Svizzera, voleva andare. E poi le chiedo, quindi risulta chiaramente che qui lei, diciamo, quando è stato interrogato, aveva dichiarato una cosa diversa. E le voglio chiedere, per quale motivo lei, diciamo, in precedenza non aveva mai dichiarato questa cosa? Qual era stata la ragione di questa sua falsità che aveva detto in passato? Delle sue molteplici falsità che aveva detto in passato? No, assolutamente, lui voleva andare in Svizzera perché anche se me l'aveva detto per strada facendo quella notte che partiamo via di quella, l'aspettavo, anche aveva la figlia fatta arrivare in Svizzera, non so se i giorni prima o questo non lo so, non me l'ha detto, o anche forse me l'ha detto, non me lo ricordo. Comunque lui voleva andare in Svizzera, noi siamo partiti per andare in Svizzera, il programma è stato cambiato solo successivamente e lo confermo tuttora, che lui voleva andare in Svizzera, siamo partiti per la Svizzera, il mio compito era accompagnarlo fino al confine e ritornare indietro. Senta, lei voleva proteggere i carboni? Proteggere per cosa? Io l'ho fatto la domanda, voleva proteggere i carboni? No, assolutamente, per cosa doveva proteggerlo? Allora, le contesto, che a pagina 60, 61, lei ha dichiarato, sempre 13-12-2003, pubblico ministero, è stato, mi scusi, se le cose sono così, perché lei dopo pochi giorni dichiara al magistrato una cosa falsa, per coprire carboni? E dice, è stato Calvi che ha detto che dovevamo andare a Londra, invece sappiamo benissimo che la decisione di andare a Londra l'ha presa Carboni con Kunz, indagato, sì, è vero, sì, ho sbagliato, lei dice. Allora, ci dica perché, non va bene che ha sbagliato, questo l'abbiamo capito, ma ci dica perché lei ha coperto, sì, gli ho detto io, pubblico ministero, scusi, ma perché lei ha coperto Carboni? Lei dice, l'ho coperto perché aveva una simpatia, cioè Carboni lo conoscevo, una simpatia, non so, ho fatto sbaglio. Pubblico ministero, no, ma per dire una falsità di quel genere, lei doveva avere un motivo preciso, cioè perché lei, e lei risponde, non mi è stato detto, pubblico ministero, non l'è stato detto, indagato, non è stato detto, indagato, non lo so, le viene richiesta ancora perché, lei dice, non lo so, ho sbagliato, pubblico ministero, perché? Perché questo ha un significato, è una cosa di fondamentale importanza, lei si rende conto, no? E lei dice, sì, ho sbagliato, io potevo adesso dirgli che ha detto qua e là, non sapeva nessuno, io sono sincero, voglio essere sincero fino in fondo, questa è la verità, se volete credere, credete, se no fate, sono qua, fate quello che volete, io cosa posso fare? Io sono una formica, voi avete il potere, avete tutto, io sono, io ho la coscienza, io sono pulito dentro e fuori. Quindi in questa occasione, ma anche in un'altra, lei ha detto che voleva, cioè in più occasioni ha detto che voleva proteggere, voleva coprire Carboni, voleva riparare in un'altra occasione, ha detto sempre in quel verbale. E allora, che cosa mi dice sul punto? Io lo dico sul punto che quella sera l'ha detto Carboni, però la mattina successiva me l'ha detto Calvi quando io mi sono lasciato, andiamo a Breghes che si va per Londra. Tutto qua, solamente ho fatto una confusione di parole, però la sostanza è quella. Alla sera l'ha detto Carboni e Kunso, adesso non so esattamente, non potrei precisare, e la mattina successiva me l'ha detto Calvi, tutto qua. Il punto è diverso, cioè lei ha dichiarato in fase di indagine che non aveva in passato mai dichiarato che la decisione di andare a Londra l'aveva presa Carboni e l'aveva presa Carboni, e questo lei non l'ha mai detto in passato, lo ha ammesso dopo crisi emotive in quell'interrogatorio e ci dice, ci ha detto in quella occasione, che in precedenza aveva sbagliato e aveva mentito e ha ammesso di avere mentito perché voleva riparare Carboni, perché voleva proteggere Carboni. Questo è il punto. Allora, adesso che io gliel'ho contestato, su questo punto specifico, su questa dichiarazione che ha reso, cosa dice? Dico che Carboni me l'ha detto la sera, ho sentito parlare più che mi ha detto a me direttamente, che il programma è cambiato, parlavano Carboni e Kunz, che il programma è cambiato che non si va più in Svissera, la mattina successiva me l'ha detto Calvi, tutto là, confermo quello che ho detto, non cambia niente, non so cosa devo dire, ho detto che la sera me l'ha detto Carboni, la mattina me l'ha detto Calvi, io invece di dire che l'ha detto, prima sul primo interrogatorio che me l'ha detto Calvi, non l'ha detto Carboni, però alla fin fine è così le cose, me l'ha detto tutti e due. Questa è la sua risposta? Certo, è questa la risposta, è la verità. Allora, la pagina 18 e 19, pagina 17 prima, allora, perché lei, chiedo scusa, perché lei quando è stato sentito la prima volta, e anche mi pare la seconda, quindi nel 82 giugno, luglio del 82, invece ha detto subito, ero a Bregenz e Calvi ha detto che aveva cambiato idea, che il programma era cambiato, che non andava più in Svizzera e andava a Londra, perché lei ha mentito? No, non ha mentito. La prego, mi faccia finire. Scusi. Perché lei ha mentito? La sua risposta? Perché volevo riparare Flavio. Ancora, a pagina 18, avvocato, se vuole io leggo tutto il verbale, se c'è il consenso, io chiedo l'acquisizione di tutte le dichiarazioni, se il Pubblico Ministero è disponibilissimo, anche perché questo apprevierebbe i tempi dell'esame. Pubblico Ministero, ancora, ecco perché voleva riparare Flavio, indagato, non so, pagina successiva, 18, allora, lei esattamente, credo una settimana circa dalla morte di Calvi, lei viene chiamato al magistrato, viene sentito per ben due volte, sì, e lei prende e dà questa versione dei fatti, sì. Quindi lei oggi ci dice che lo fa per coprire Flavio, per coprire Flavio. Indagato, no, ho fatto per coprire, ho detto io così, ho detto però la decisione era di Flavio e di Kunz, lasci stare, la mia domanda è più precisa, io le chiedo, io le chiedo, perché a sette giorni, mi faccia finire la domanda, sì certo, perché a sette giorni dalla morte di Calvi, lei dice di raccontare queste bugie ai magistrati per coprire Carboni, è vero, glielo ha chiesto Carboni e via di seguito, e lei salta un pezzo, questa è la verità. Quindi le chiedo ancora, lei, e poi non rivolgo più domanda sul punto, lei voleva riparare Carboni, lei voleva coprire Carboni, dicendo questa cosa falsa, sul riferimento a chi aveva deciso che Calvi dovesse andare a Londra? No, assolutamente, coprirlo di cosa? Non vedo il motivo di cosa dovevo coprire Carboni, il fatto è, praticamente, sono loro venuti, lo ripeto ancora una volta, è arrivato Kunz e Carboni la sera, hanno praticamente cambiato questo programma in seguito che non voleva andare, successivamente me l'ha detto Calvi, me l'ha detto sia Carboni, sia Kunz, sia Calvi, tutto qua. Senta, ma quando sono arrivati Carboni e Kunz, lei sa se avessero già preparato tutto per la nuova destinazione? Ma questo non lo so, posso averlo detto, ma come posso saperlo io? Non è che io sono andato a indagare se loro avevano programmato un viaggio per Londra, a me, dicendo adesso, mi pare di no, perché la mattina successiva si stava aspettando tutta la mattina per partire per Londra, non si sapeva niente, nell'orario, nessunissima roba, dunque questa è una mia sola supposizione. Va bene, allora le contesto che a pagina 16, trascrizione 13-12-2003, lei ha dichiarato esattamente il contrario, è uscito fuori praticamente che il programma è cambiato, che è troppo rischioso farlo passare in Svizzera, puntini, e quindi che loro avevano preparato tutto, quindi già a Bregenz lei aveva detto che già tutto era stato preparato. Come spiega questa diversa dichiarazione? Posso aver giunto io delle cose inutili, oppure immaginazioni, però io non posso saperlo, noi che loro, ho parlato con loro e mi hanno detto, guarda abbiamo preparato il viaggio per Londra o via di seguito, può darsi che anche l'hanno preparato, però io, nessuno me l'ha detto, assolutamente. Lei sa se Calvi sia stato manovrato per farlo andare a Londra? E come faccio a dire questo, se è stato manovrato o no? Come faccio a dire? Chi lo conosceva Calvi? Lo conoscevo, era solo con me pochissimo tempo. Ho capito. Io le devo contestare che a pagina 210 della trascrizione del 13 dicembre 2003, lei ha dichiarato una cosa radicalmente diversa. Lei dice, signor giudice, lui, quello che io so per certo, al 100%, lui voleva incontrarsi con delle persone per lavoro, o ecco, lei dice, che doveva incontrarsi in Svizzera, doveva incontrarsi. Dopodiché, sotto suggerimento di chi è stato, che lo manovrava, che mi manovrava, anche a me, a fin di conti, che mi manovrava, anche a me, a mia insaputa, mi ha fatto venire là. Però, io, sto gioco, se sia stato sporco o pulito, però, io sto gioco, scusi, se io, se sia stato sporco o pulito, io purtroppo non l'ho fatto, e sicuramente sono stato un cretino. Quindi, in questa dichiarazione, lei ha dichiarato, che Calvi è stato manovrato, non solo, ma anche dichiarato, che pure lei è stato manovrato. E allora, come stanno le cose? Quali sono le due versioni della verità? Chiedo scusa, ma Calvi, qui non si evince che Calvi sia stato manovrato, cioè, adesso, se dobbiamo interpretare anche, quello che non c'è da interpretare, poi volevo dire un'altra cosa, Presidente, cioè, il discorso è questo, qui sono 40 minuti, che il pubblico ministero, sta facendo una domanda, su una contestazione, alla quale, il mio assistito, ha risposto anche a me. Ora, se l'esame va condotto, secondo questa tecnica, la tecnica della decontestualizzazione, definita, quella del pubblico ministero, allora, io non ho nessun problema, a esprimere il mio consenso, per l'acquisizione degli altri. Se il pubblico ministero lo vuole, io do il mio consenso, perché, non si possono contestare, una sola circostanza, per 40 minuti. E' ovvio che, qui ci saranno, una marea di opposizioni, anche da parte del collega, che ha un interesse, per il suo assistito, ma, mi pare che, una volta che si fa, la contestazione, ed il test risponde, alla contestazione, e chiarisce, ritornarci sopra, per, con altre 20-30 domande, e sullo stesso punto, mi pare che sia, diciamo, ultroneo. Quindi, io credo che, per potersi iniziare, sentire bene Vittor, tutte le domande, che il pubblico ministero, può fare, Vittor risponderà, ma, decontestualizzare, l'esame, credo che sia, non sia utile, né per i difensori, né per la Corte. Grazie. non possiamo impedire, al pubblico ministero, di condurre l'esame, come, nel modo che ritene, più opportuno, perché, possiamo solo invitarlo, a cercare di, di stringere, di non ripetere, le contestazioni, una volta fatte, insomma, andiamo avanti, se non perdiamo ulteriormente tempo. Se c'è l'accordo per l'acquisizione, che questo, dei verbali, questo può servire per abbreviare, l'esame. Niente, mi riservo, devo sentire l'avvocato Borzone. Vabbè, andiamo avanti, allora, cerchiamo di, di non ripetere, il momento, eh Presidente, non ho chiesto. Cerchiamo di non ripetere, le contestazioni, di limitare, nel tempo, l'esame. Prego. So che il pubblico ministero, intende fare l'esame, quindi, guardi, se mi consente, di lavorare di meno, io sono felicissimo. Di lavorare? Di lavorare di meno, io sono felicissimo, vado in maniera selettiva, a fare le domande. No, di non perdere altro tempo. Allora, le ho fatto questa contestazione, la quale risulta, sotto suggerimento, sotto suggerimento, di chi è stato, che lo manovrava, che mi manovrava, anche a me, a fin dei conti. Che mi manovrava, anche a me, a mia insaputa. Allora, da questo verbale, risulta, in maniera molto chiara, che Calvi, era stato manovrato. E allora, in, eh, riferimento a quello che ha detto prima, emerge, con riferimento a quello detto prima, emerge una netta, eh, con difformità. Come spiega questa differenza, di dichiarazioni? Beh, adesso, manovrato, non so, io, tendevo a dire forse un'altra cosa, e ti devo dire che sono stato obbligato, praticamente, a stare tutti quei giorni, eh, con, con Calvi. Manovrato, in questo genere qua, io pensavo, che sono stato costretto, un certo momento arrivare in Isbruck, partire per Londra e via di seguito. Ecco, in questo modo, io, pensavo di dire, esso è manovrato, praticamente, che non potevo, eh, abbandonarlo, ecco, sono stato, diciamo così, costretto a, a proseguire il viaggio con, con Calvi. In questo modo qua, io, pensavo di, di dire, praticamente, manovrato. Per quale ragione Calvi venne fatto andare a Londra? Lui doveva, Calvi mi diceva sempre che doveva lavorare, di fatti aveva anche comprato delle scarpe molto leggere, delle pantofole, abbiamo comprato, eh, Breggens, doveva incontrare delle persone, non mi ha detto che persone, però sapevo, me l'ha detto più volte, che doveva incontrare dei personaggi, molto importanti. Allora, lei, decontesto, la pagina 20, la trascrizione, dell'incidente produttore del 27.11.97, lei ha dichiarato, non so, questo decideva solo Flavio. Quindi la decisione di andare a Londra è una decisione di Flavio Carboni. E, lo conferma questo? Beh, la decisione era di Flavio, quella, praticamente, lui aveva, lui voleva andare in Svizzera, la decisione è stata cambiata, adesso, non so se Flavio è stato, l'ha detto qualcuno, l'ha imposto qualcuno, però è stata cambiata a Breggens, l'ha detto Flavio, non so che era pericoloso andare, che era stata più sicura per Calvi, per poter lavorare, era Londra. Senta, lei si è chiesto perché Calvi non poteva andare in Svizzera? ma, insomma, mi sono chiesto, mi sono chiesto sì. E che risposta si è dato? Praticamente, è stata denunciata la sua scomparsa da Roma o da Milano, non mi ricordo dove, lui praticamente non voleva, non voleva passare i confini, tutto l'anno. scusi Presidente, forse il Vittorio non ha capito bene. Così perdiamo più tempo ancora, Avvocato, per la mia pazienza, già dobbiamo sopportare questo modo molto lento di... Ma non ha capito la domanda. Ma l'ha capita, come no, ha risposto, l'ha capito benissimo. Cerchiamo di non ripetere sempre la stessa domanda, però andiamo avanti, cambiamo circostanza, andiamo avanti nel viaggio, se no veramente non la vediamo più. Senta, quanto tempo doveva trattenersi a Londra Calvi? Qualche mese. Lei ha parlato, la pagina 25 della trascrizione dell'ottava giornata, in questi termini, da quanto potevi capire se sarebbe trattato di 10-15 giorni, un mese, qualcosa del genere. Esatto. Lei disse alla sua ragazza Michela che si sarebbe recato a Londra? La sua ragazza lo sapeva? No, non lo sapeva assolutamente, mi aspettava di... Io di fatti ho saputo che Michela stava in Svizzera con sua sorella, che io non ho avuto il modo di poter telefonicamente mettermi in contatto con lei, anche perché non c'avevo nessun recapito, non eri cellulari da allora. Senta, lei quando seppe che avrebbe incontrato Michela a Londra? Potevo supporre questo che... perché Flavio era abituale portarsi tutte le ragazze, non era la prima volta che andava a quelle ragazze e fare i diseri in Sardegna, Londra o differente, adesso non so i posti dove sono andati, però potevo tolirlo che sicuramente se era Flavio poteva essere Michela anche. Senta, la sua fidanzata e la sorella Manuela, quando lei era a Bregenz, sapevano che sarebbe... che si sarebbe recato a Londra con Calvi? E questo non lo so, perché io non ho avuto modo di... Domenica che sono partito via non ho avuto modo di poter comunicare né con Michela né con Manuela. Allora, il contesto che ha dichiarato è una cosa diversa, a pagina 6, il verbale 712-90, ADR, le due sorelle sapevano benissimo già da Bregenz che io mi trovavo a Londra con Calvi, ma ignoro le ragioni per le quali si recarono in una certa località. Lei parla e poi ne vedremo. Senta, ma volevo precisare che lei mi ha fatto un'altra domanda, lei mi ha detto se io sapevo se loro erano a Londra. Loro sapevano sì perché erano con Flavio, Flavio le ha detto, guarda che Silvano... No, io le ho fatto una domanda diversa e già la ripeto. Comunque c'è la... Sì, grazie, se me la puoi ripetere... La sua fidanzata, la sorella Manuela, quando era a Bregenz, sapevano che si sarebbe recato a Londra con Calvi? Io? Certo. Penso che le ha detto... Certo, non lo so, penso che le ha detto Flavio, guarda che Silvano è il partito per Londra, però io non lo so queste cose, non posso... questa è solo supposizione mia, non posso essere preciso. Non ho mai parlato con Michela di queste cose. Io le ho chiesto se la sua ragazza, Emanuela, sapevano quando lei era a Bregenz, va bene, che lei si sarebbe recato a Londra. Ma questo non lo so, come faccio sapere? Allora io le ho fatto questa contestazione di pagina 6, per bari 712-90, la quale risulta che sapevano benissimo quando lei era a Bregenz che si sarebbe recato a Londra. Quindi, cosa vuole rispondere sul punto? Ma voglio rispondere praticamente non capisco la domanda, praticamente voglio rispondere a questo, che loro sicuro sapevano perché Flavio le tenevano informate, però io non potevo sapere se loro venivano a Londra. Tutto qua. Capito. Forse che io faccio... cioè non riesco a capire la domanda. Senta, lei ha riferito o comunque ha parlato con Eligio Paoli del fatto che Flavio Carboni, che fu Flavio Carboni a far sì che Calvi si recassa a Londra? No, io con Eligio Paoli ho parlato di nessunissima cosa di queste qua, assolutamente. Ecco, come spiega che Paoli ha dichiarato parlando con le sorelle Kleinzig e con lo stesso Vittor Costoro mi dissero che fu Flavio Carboni a far sì che si recasse a Londra? Allora voglio precisare che Manuela non ha mai parlato con Paoli, assolutamente, e nemmeno Manuela e nemmeno io non le ho raccontato queste cose perché Paoli è venuto solo tre volte in Austria è venuto e assolutamente non ha mai chiesto niente a prescindere del fatto Manuela non è una ragazza che si dà la confidenza così facilmente che va a raccontare delle cose a Paoli che erano sconosciute per tutti noi Senta, le faccio presente che anche Carlo Calvi ha dichiarato che fu Carboni ad indurre Calvi che ha indurre il padre a recarsi a Londra l'ha dichiarato alle pagine 68 e da 68 a 71 trascrizione 16 maggio 2006 l'ha ripetuto nella trascrizione seguente l'udienza seguente la pagina 25 a pagina 255 come lo spiega? Io me lo so questo qua Senta se da lei ricorda di aver avuto un'altra crisi emotiva nel corso di quell'interrogatorio di cui abbiamo detto prima del 13 dicembre 2003 vi ricorda con riferimento a cosa? Non so se mi aiuta Purtroppo sono tanti verbali che sono quei nari non me lo ricordo veramente tante cose è impossibile ricordarsi gli anni passano Allora risulta che lei ha avuto una nuova crisi emotiva con pianto dalla pagina 174 della trascrizione di quel verbale allorché gli viene chiesto se avesse visto il cadavere di Calvi e come era vestito vuole spiegarne le ragioni di questa crisi emotiva e perché è derivata dalle domande che le sono state rivolte con riferimento a questo tema del rinvenimento del cadavere di Calvi Per una crisi emotiva nelle condizioni che mi trovavo penso che è una cosa normalissima per qualsiasi oltre a dire questo anche perché io sono sicuramente non ho partecipato a nessunissima cosa sono praticamente entrato dentro che non sono nemmeno io e sono qua che sto rispondendo delle cose che assolutamente non appartiene a me L'ultima volta in cui vide Calvi com'era vestito? Da vivo? Sì Aveva camicia in vestito un vestito pesante anzi Lei sa se avesse lo stesso vestito che aveva quando fu trovato cadavere? Una buona percentuale di sì lo stesso Senta Lei ha mai visto Calvi con la cravatta a Londra? No portava sempre era sempre senza cravatta Ecco come spira come spira il fatto che il tester Cumber nell'affidavit del 20 gennaio 89 ha dichiarato l'uomo più anziano che aveva visto la sera del giovedì 17 giugno che ha riconosciuto essere Calvi assieme a due persone indossava un vestito grigio blu e portava la cravatta Questo non lo so io non l'ho visto mai era caldo anche qua io non l'ho visto mai con la cravatta sinceramente almeno se non mi sfugge qualche particolare però io assolutamente ne l'ho visto sempre senza cravatta Senta Lei abbiamo già visto che oltre ad essere stato interrogato come indagato per la prima volta il 13 dicembre 2004 è stato poi nuovamente interrogato il 13 febbraio del 2004 Ecco in quella occasione quindi l'ultimo atto che lei risulta aver compiuto sul tema l'ultimo verbale ha nascosto qualcosa delle sue conoscenze o comunque aveva qualcosa da nascondere Non so Non mi ricordo Lei ha dichiarato io non ho niente da nascondere pagina 34 prescrizione 13-2004 Cosa dovrei nascondere non capisco Senta Lei in dibattimento qui ha chiesto tramite il suo difensore di essere interrogato dopo Carboni sostenendo che altrimenti sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere Ci vuole dare una spiegazione se lo ritiene Ma non è vero questo mi scusi Presidente Non mi ricordo questo qua sicuramente Cioè mi sembra che sia importante Io vogliamo chiarire questa situazione perché è giusto che la Corte anche venga idotta Chiedo scusa io ho rivolto una domanda rispondere e poi l'Avvocato Greco dirà tutto ciò facciamolo prima rispondere se no veramente vanifichiamo completamente il senso della domanda In dibattimento lei ha chiesto tramite il suo difensore di essere interrogato dopo Carboni sostenendo che altrimenti si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere Ora le chiedo per quale motivo ha adottato questa scelta lo vuole spiegare Non so volevo non so nemmeno io non volevo proprio cioè non volevo essere non lo so è stata una decisione così lampo Ok decisione lampo Se l'Avvocato vuole precisare quello che voleva dire A parte il fatto che non mi pare che questo possa rappresentare oggetto di esame in un processo del genere ma a parte questo la scelta difensiva l'opportunità di poter concordare anche col pubblico ministero laddove consenta il pubblico ministero di posporre un proprio assistito credo che sia del tutto legittima e quindi non debba dare adito a sospetti di alcun genere Allora andiamo avanti passiamo alla borsa di Roberto Calvi lei cosa sa sulla borsa nera mostrata in tv il primo aprile 1986 nel corso della trasmissione di condotta da Enzo Biagi so che la borsa era di Calvi lei ci vuole dire faccio come dire una domanda a piacere per consentirle di spiegare quello che vuole sul pubblico mi chiede cosa vuole sapere questa borsa come è saltata fuori lei che ne sa io so che la borsa Calvi l'ha portata in Austria è rimasta là successivamente ho compagnato Flavio solo oltre le confine poi ho proseguito lui il viasso per andare a prendere questa borsa e il giorno successivo dopo qualche giorno è arrivata la borsa in Italia e Flavio se l'ha portata a Roma ho capito ecco così però gli diciamo brevi ecco dopo se vuole qualche altro più chiarimento ora le faccio qualche domanda allora innanzitutto quando Calvi giunse a Trieste aveva con sé la borsa nera certamente che è stata mostrata in tv certamente ce l'aveva allora io le devo fare diverse contestazioni sul punto allora verbale del 24 giugno 82 ore 010 pagina 1 retro e questo verbale lei non dichiara di avere visto quella borsa a Trieste dice in pratica che Calvi aveva con sé una piccola borsa o d'un'agenda nulla di grosso poi il 23 dicembre 1982 3 dicembre 1982 verbale delle ore 17 e 05 lei si rende una dichiarazione analoga 3 dicembre 3 dicembre lo scusa 15 dicembre 65 pagina 3 lei dichiara non è vero che usciti dall'hotel Savoia io abbia preso in mano la borsa nera che Calvi portava con sé ancora il 16 giugno 1983 nel confronto con Pellicani 16 giugno 83 pagina 3 lei dichiara Presidente non voglio intralciare ovviamente l'attività del pubblico ministero giusto per dare un contributo siccome poc'anzi il teste ha detto che per quanto attiene alla borsa sulla domanda era stata portata da Calvi in Austria ora a mio avviso la domanda è diversa avvocato quando Calvi giunse a Trieste aveva con sé la borsa nera il suo pietto se si chiede al teste come mai ha fatto questa affermazione probabilmente lui spiegherà che la borsa è stata portata da Calvi suppongo e quindi si evitano tutta una serie di contestazioni per dare un contributo perdiamo ancora più tempo concludere pubblicamente riserva come ho già dichiarato tantomeno prelevai la borsa del Calvi ancora infatti prima di leggere cerchiamo magari di fare la domanda più completa e di dire prima di chiedere spiegazioni se no continuiamo a leggere tutti i verbali si fa una domanda brevissima invece dopo aver fatto la domanda brevissima cerchiamo di ampliarla per potergli consentire di dare una spiegazione può darsi che in questo modo dica le stesse cose che ha detto in passato continuiamo a leggere quello che ha detto prima ha detto che a Trieste aveva la borsa e risultano numerosissime dichiarazioni dalle quali dice il contrario Calvi aveva a Trieste la borsa quando giunse a Trieste quello che ha fatto aveva la borsa e invece lei nelle precedenti occasioni aveva detto il contrario ho detto il contrario perché mi è stato detto ad una persona che non dovevo mai toccare praticamente nessun argomento la borsa e chi gli ha detto me l'ha detto il mio avvocato Augusto De Mano di allora il mio avvocato Augusto De Mano me la ripeteva sempre guardi Vittor lei assolutamente non deve mai parlare di questa borsa ho capito altrimenti io praticamente avevo anche paura avevo dice guardi meglio per lei insomma mi ha messo così in un momento sugli attenti e io praticamente dice guardi lei della borsa lei può parlare tutto quello che vuole di questa borsa lei non deve assolutamente mai parlare niente io a quell'epoca avevo anche paura non sapevo nemmeno dov'ero senta io devo far presente quindi nel contesto ora mi pare molto chiaro il dovere avremmo evitato c'era ragione l'avvocato in questo caso insomma cioè lui ammette di aver detto delle cose diverse e ha dato una spiegazione quindi diamo per pacifico credo però sia anche significativo dimostrare quante volte ha mentito sul punto diciamo il numero delle volte così facciamo prima anziché leggere tutto e poi oltretutto con una pausa tra una lettura e l'altra quindi il tempo passa purtroppo ho capito cerchiamo di usare un sistema che ci consenta di perdere meno tempo se no veramente allora pagina 2 verbale 7.12.90 Calvi non aveva con sé né la borsa né alcun bagaglio ricordo che portava con sé un'agenda o una cartella o qualcosa del genere quando parlo non vengo assolutamente ascoltato insomma abbiamo capito cioè ha detto in più occasioni esattamente il contrario lui ha dato una spiegazione è utile rileggerle tutte non lo so io allora in queste circostanze lei ha detto anche cose false in ordine a quello che aveva Calvi per cercare di mascherare questo discorso relativo alla borsa no assolutamente solo della borsa senta allora le chiedo ancora quando uscì dall'hotel Savoia portò con sé la borsa di Calvi certamente anche su questo in passato risulta che in tre occasioni a pagina 2 confronto con Pellicani 23 12 82 ore 22 pagina 3 verbale 23 12 82 ore 17 e 5 pagina 4 verbale 28 gennaio 83 lei ha dichiarato esattamente il contrario cioè che quando uscì dall'hotel Savoia Calvi quando uscì dall'hotel Savoia Calvi non aveva la borsa e lei non portò la borsa esattamente non volevo parlare della borsa perché avevo paura quindi in tre occasioni con riferimento a questa no tre sono vent'anni tutte le mie deposizioni praticamente faccio domande specifiche se da lei prelevò la borsa di Calvi e la depose nel bagagliaio della sua autovettura no assolutamente come potevo neanche lo avevo conosciuto tre minuti prima gli prendo via una borsa della mano una cosa assurda assolutamente sì ma Calvi gliela consegnò la borsa no qualcosa doveva consegnarmela io mi davo la macchina mi consegnò assolutamente l'ha messa in bagagliaio sì è vero ho aperto il bagagliaio io perché allora si doveva aprire ho preso le chiavi in tasca la teneva a lui anzi ho fatto un gesto di cortesia come per aiutarla posarla dentro lui l'ha tirata via e l'ha posata a lui ecco lei a pagina 2 confronto diciamo a pagina 2 confronto 16.6.83 dell'ore 11.45 con Pellicani in quell'occasione le viene contestato dal Pellicani che lei prelevò la borsa di Calvi e la depose nel bagagliaio della sua autovettura ma assolutamente no la pose lui l'aveva lui in mano assolutamente perché dovevo posarla io a parte che non sarebbe nessuna cosa l'ha messa lui personalmente dentro del bagagliaio allora come mai Pellicani dice una cosa contraria a quello che ha detto lei Pellicani non lo so adesso ne ha detto tante però va bene allora Calvi lasciò la sua borsa presso la sua abitazione di Trieste assolutamente no le disse qual era la combinazione no perché doveva dirmi la combinazione secondo quello che ha dichiarato Pellicani invece Calvi ha lasciato la borsa presso la sua abitazione e le ha dato anche il numero della combinazione siamo sempre nel confronto del 16683 pagina 4 e 1145 ma se le avrebbe lasciate era più facile lasciare la sala aperta che darmi la combinazione no non vedo il motivo che doveva darmi una combinazione la sala aperta era fatto durante il trasferimento in barca da Trieste a Zusterna aveva con sé quella borsa Calvi sicuramente allora lei pagina 2 il verbale del 71290 ha dichiarato il contrario sicuramente le ho detto il motivo quando lei uscì di casa intorno alle 18 Pellicani aveva con sé una borsa quando siamo senti di casa non era il 18 ma era intorno alle 19 qualcosa dopo non ricordo questo motivo questo particolare se aveva qualcosa in mano o no ma non poteva essere il 18 perché sono arrivati all'hotel Savoy alle 18 18 e 15 lei sa se Calvi avesse un foglietto sul quale aveva trascritto dei numeri di telefono ed altre sigle non so io ho visto Calvi che aveva vari foglietti però non so cosa non sono andato a curiosare nelle tasse o nelle mani di Calvi per vedere cosa 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 era cosa aveva o cosa scriveva ecco allora clare in furrei ha detto che la borsa Calvi ce l'aveva sì esattamente allora io solo perché rimanga a pagina 2 del confronto con Carboni del 16 83 e a pagina 3 del verbale del 7 12 90 pagina 14 trascrizione incidente provatorio del 27 11 97 risulta che lei ha dichiarato di non avere visto la borsa di Calvi a Clarenford la ragione qual è sempre la stessa perché sono stato praticamente mio avvocato da allora Augusto Damiano mi ha detto non parlare mai della borsa io non ne ho mai parlato tutto qua adesso ho trovato il momento più opportuno voglio chiarire la mia situazione come mai non ha ritenuto di farlo in precedenza quando è stato interrogato come indagato per questo omicidio perché avevo paura adesso questa paura è passata la paura è sempre però è molto minore è giusto che io dico le cose come sono andate anche quando fu interrogato come indagato nel 2003 e nel 2004 lei ha detto che quello che aveva dichiarato era la verità esattamente però in quell'occasione non le disse queste cose ho detto che la borsa era se lei legge bene il verbale mi ricordo che ho detto che la borsa non ho raccontato i minimi particolari però ho detto che la borsa c'era se lei lei non ha affatto dichiarato di aver accompagnato Carboni per andare a prelevare poi la borsa questo non lo ha detto non me l'ha chiesto è stata rivolta una domanda nel corso del quel verbale con la quale si faceva presente che Carboni indicava lei come persona a cui ci si doveva rivolgere per poter avere la borsa quindi la domanda l'è stata fatta e l'è stata fatta in maniera molto specifica ma mi pare che Flavio qua ampiamente ho sentito io che la borsa era praticamente diciamo così diceva la borsa era mia o parole del genere ha detto qua io non potevo assolutamente disporre della borsa o decidere cosa fare della borsa questa è una cosa molto diversa io le ho detto semplicemente le ho fatto notare che in realtà le domande le domande specificatamente sul punto le sono state rivolte quindi non è vero quello che lei ha dichiarato che non ne sono mai state rivolte domande sul punto le è stato chiesto espressamente le è stato chiesto esattamente questa domanda le è stata posta come è saltata fuori questa borsa a che pagina avvocato io adesso le farò tutte le contestazioni però ho aderito alle sollecitazioni al presidente di non rallentare non si può fare una contestazione sullo specifico se gliela fa troppo specifica si lamenta se gliela fa generico si lamenta lo stesso le assicuro siccome si fa riferimento ad un interrogatorio del dicembre 2003 si può sapere il punto esatto quando è stata fatta la domanda ecco una bella lotta allora siamo alle pagine 5 6 7 8 11 12 trascrizione 13 2 2004 allora si dice allora domanda mi spiega come è possibile che ad un certo momento questa borsa salta fuori risposta questo non lo so non lo so questa da dove è saltata fuori io sicuramente queste qua che assolutamente le nego categoricamente domanda ma come spiega allora che sia riaffarsa questa borsa risposta questo non lo so domanda come spiega che poi questa borsa è stata riesumata quindi tre volte le viene rivolte alla domanda sì sì l'ho saputo poi sempre dalla televisione domanda per quale motivo Carboni dice che bisognava rivolgersi a lei per recuperare questa borsa risposta questo non lo so che venga che venga qua Carboni che lo dice davanti a me se lui sa qualcosa che io avevo questa borsa che lo dice qua davanti a me sono qua a disposizione oggi domani quando vuole domanda Carboni provvede provvede ad ospitarla in albergo va bene e poi si va avanti quindi come vede le domande sono state almeno quattro consecutive sul punto specifico allora perché ha dichiarato il falso in questa occasione dicendo che non l'era mai stata rivolta una domanda specifica sul punto perché io non disponevo della borsa capito addirittura lei usa un atteggiamento di sfida invocando anche un confronto sul punto tanto per avvalorare la sua posizione quando viene sentito in sede di interrogatori certamente perché io non ero in possesso della borsa non potevo decidere prendere la borsa o farne uso lei disse a religio Paoli che la notte caldi dormiva con la borsa sempre vicina o con un occhio aperto assolutamente è pure invenzione è pure invenzione anche perché non è vero senta risulta sempre nella dalla trascrizione dell'interrogatorio del 13 dicembre 2004 pagina 104 che lei ha chiesto di interrompere la fondoregistrazione per consultarsi con il suo avvocato mentre si stava parlando della borsa dopo la domanda se l'aveva vista sull'aereo e da Londra vuole spiegarci le ragioni non me le ricordo non me le ricordo è stata qualche ragione però non ricordo adesso se mi vuole senta io le voglio che rimanga anche una contestazione che è questa pagina 2 confronto con Pellicani 16 183 11 45 lei dichiara non ho mai visto la borsa di Calvi in maniera assoluta ancora le chiedo dopo averla vista a Klagenfurt dove l'ha vista lei la borsa dopo di averla vista a Klagenfurt in televisione quanti bagagli aveva con sé Calvi quando ha lasciato Klagenfurt due è più un'azienda che la teneva sempre in mano vuole descrivere questi due questi bagagli si era una balisa se non vado erato quadrato facsimile risida e più aveva un borsone abbastanza grande senta lei sa che cosa c'era dentro la borsa di Calvi qualcosa ho visto che cosa ho visto quando a Londra che siamo arrivati che abbiamo un sacco di scatole di medicine e dell'abbigliamento io mi riferisco alla borsa quella che è stata fatta riapparire in televisione quella che lei avrebbe contribuito a far recuperare se mi puoi ripetere la domanda perché l'ho capito bene che cosa c'era dentro la borsa quella che venne fatta riapparire riapparire in tv nell'86 io non l'ho mai aperta non avevo la borsa mai in mano che potevo aperla e controllare cosa era dentro allora andiamo avanti senta lei sa se Enzo Biagi fosse al corrente delle varie vicende della borsa come ha dichiarato Carboni nel corso della sua deposizione questo ne lo so io faccio presente che Biagi ha dichiarato il 5 aprile 1986 desidero sottolineare che non ne conoscevo le varie vicende sia perché l'aveva con sé un senatore e sia per altre ragioni quindi a differenza di quello che ha detto Carboni Biagi non è a conoscenza delle vicende della borsa io non so ci vuole dire come dove e quando ha conosciuto Flavio Carboni io Flavio Carboni lo conosco nel gennaio se non vado erato dell'80 lì a metà mese circa tra il 20 e il 30 gennaio lo conosco in seguito da Michela siamo andati a trovarlo praticamente che è la sua sorella con Flavio all'albergo Grand Hotel Milan lei a pagina 120 trascrizione 13 dicembre 2003 ha dichiarato di averlo conosciuto nel dicembre del 79 ho sbagliato posso aver sbagliato la data posso aver fatto confusione comunque era possibile però quella è data insomma torno nell'anno 80 adesso non so se era un anno primo un anno dopo però non posso essere preciso dopo 25 anni quando come dove ha conosciuto Roberto Calvi io Roberto Calvi l'ho conosciuto la prima volta a Trieste conosciuto a Trieste senta io le devo contestare che lei ha dichiarato delle cose diverse sul punto e prima di farlo le chiedo lei ha avuto contatti telefonici con Roberto Calvi prima dell'incontro a Trieste dell'11 giugno adesso non ricordo penso di no penso posso non so se ho chiamato ma non credo penso di no quindi lei diciamo in epoca precedente all'incontro di Trieste non ha prima della fuga non ha conosciuto Roberto Calvi no no assolutamente non l'ho mai visto prima dell'ora altrimenti non serviva che le davo delle spiegazioni né Calvi né Pelicani non allora io le devo come dicevo effettuare delle contestazioni e lo faccio in maniera molto sintetica allora lei ha detto di avere effettuato delle telefonate in precedenza con Calvi nel corso di 5 verbali il 23 giugno 82 il 24 giugno 82 il 28 gennaio 83 pagina 1 riga 29 e nel corso del processo inglese della non aggiornata secondo inchiesta pagina 17 18 e il 20 novembre 1985 nel corpo di un di un memoriale a pagina 1 appunti sui scritti a mano quindi una sorta di memoriale poi ha dichiarato di avere ricevuto quindi telefonate precedenti di Calvi e lei ha anche parlato sempre in 5 occasioni di avere ricevuto una telefonata da parte di Calvi durante la mattinata dell'11 giugno una telefonata nel corso della quale Calvi le chiedeva di venire le chiedeva diciamo un appuntamento con lei a Trieste e lo fa 23 giugno 82 pagina 2 24 giugno 82 pagina 2 3 0 10 non aggiornata secondo inchiesta processo inglese 20 novembre 85 e il 28 gennaio del 1983 posso dare anche lettura dei punti relativi e in particolare 23 giugno 82 pagina 2 dichiara di avere ricevuto una telefonata da Calvi nel 11 giugno 82 poi 24 giugno 82 ore 0 10 pagina 2 aver riferito di aver avuto da Carboni i numeri di telefono di Calvi di avervi parlato 20-30 giorni prima telefonicamente a Milano e di essere stato chiamato da Calvi venerdì 11 giugno 82 poi ancora 24 giugno 82 pagina 2 riga 11 e Carboni mi fornì il numero telefonico del Calvi sia del Banco Ambrosiano sia della Casa del Trezzo parlai effettivamente con il Calvi per la prima volta circa 20-30 giorni orsono rintracciandolo a Milano verbale 28 gennaio 83 pagina 1 riga 29 e avevo solo telefonato una o due volte presso il Banco Ambrosiano e questo a seguito di una richiesta di Vittor di Vittor a Carboni di fargli conoscere persone influenti per espletare qualche attività lavorativa allora come mai ha dichiarato queste cose false aggiungo anche chiedo scusa per completezza che nell'ottava giornata pagina 19 del processo inglese ha dichiarato di aver incontrato per la prima volta Roberto Calvi materialmente l'11 giugno 82 a Trieste nella seconda inchiesta non aggiornata pagina 17 18 lei ha confermato le dichiarazioni rese il 24 giugno 82 ed in particolare che circa un mese prima dell'11 giugno Carboni gli aveva detto che voleva presentargli Roberto Calvi che era disposto a fargli da autista che Carboni gli aveva dato il numero di telefono di Calvi gli aveva parlato telefonicamente con Calvi circa 20 o 30 giorni prima dell'11 giugno a Milano che Calvi gli aveva telefonato a Trieste l'11 giugno poi nel memoriale del 20 novembre 85 pagina 1 ha dichiarato dopo aver premesso di voler raccontare la storia vera di come si sono svolti i fatti che nella primavera dell'82 Flavio gli aveva detto che aveva la possibilità di trovarle un lavoro nella banca cattolica del Veneto o al Banco Ambrosiano gli aveva dato il numero di telefono di Calvi che forse Calvi l'avrebbe presa come uomo di fiducia che aveva telefonato e parlato con Calvi aveva ricevuto nel corso della mattinata dell'11 giugno una telefonata di Calvi quindi risulta complessivamente che ha mentito parecchie volte cinque volte per quanto attiene le telefonate precedenti all'11 giugno cinque volte per la telefonata ricevuta il giorno 11 da Calvi e allora io le chiedo perché ha detto queste cose false a più riprese in passato ma non lo so adesso non me lo ricordo il motivo non potrei dare una spiegazione l'ho detto anche non so per così per tenermi per essere importante in seguito che ero su tutti i giornali dico ecco questo qua è arrivato dentro l'ultimo momento no volevo farmi praticamente valere ecco che conoscevo gente importante e invece non era vero senta qualcuno le disse di mentire su questa circostanza no assolutamente senta risulta invece che quando fu sentito il 13 febbraio del 2004 pagina 4 per il barriassuntivo e pagina 59 trascrizione ho detto queste cose perché suggeritemi da Carboli pagina 59 può darsi che me l'ha detto Flavio Carboni dice dai digi che lo conosci che è così e io dico queste cose qua ma può darsi che l'ho detto così però Flavio assolutamente non credo che mi averne detto ho capito quindi c'è qualche ragione per la quale invece quando è stato sentito il 13 febbraio 2004 lei ha dichiarato che è stato Carboli a dirle di dire queste cose no no assolutamente Carboli non mi ha mai detto queste cose qua lo scludo categoricamente Flavio non ha mai a prescindere del fatto Flavio parlava ben poco anche le cose più importanti che si doveva parlare così non mi ha detto mai niente non disseva niente aveva altre cose da fare non so nemmeno io però lui non mi ha detto mai niente assolutamente non ha detto mai di dire una cosa o dire l'altra senta diciamo sulle ragioni per le quali Calvi si è allontanato dall'Italia lei sa qualcosa e ne ha parlato con Carboli no con Carboli non ho parlato assolutamente niente io so che doveva Carboli scusi aggiungo una cosa che Carboli mi ha detto che questa persona doveva andare a sistemare dei affari in Svizzera allora e che non doveva praticamente non poteva oltrepassare la frontiera diciamo regolare dove era un posto di blocco ovvero e proprio per farsi conoscere altrimenti non serviva che veniva da me ecco io le devo far presente contestare quindi che a pagina 2 del verbale del 2 giugno 83 si legge prendo atto delle dichiarazioni rese in contrario da parte del signor Flavio Carboni e ribadisco quanto ho appena dichiarato negando di aver avuto confidenza alcuna dai Calvi e di avere a mia volta riferito tali confidenze a Flavio Carboni quindi come mai il 2 giugno 83 ha dichiarato il contrario eh non lo so non mi ricordo a parte che ero sotto soco e quella volta mi era caduto il mondo d'osso potevo anche dire delle cose involontari senta allora vediamo un po' quello che qualcosa che attiene al 19 giugno e al 20 e all'11 giugno cioè chiedo scusa al 10 giugno giovedì 10 giugno e a venerdì 11 giugno 82 allora il giovedì 10 giugno lei che cosa ha fatto? beh cosa ho fatto non me lo ricordo so che Flavio mi ha chiamato adesso non posso dire se mi ha chiamato il 10 o a cavallo tra il 10 e l'11 ecco lei parla a pagina 1 del memoriale consegnato il 21 85 di una telefonata di Carboni e lo fa per la prima volta ricevuta nel corso della notte tra il 10 e l'11 giugno esattamente ecco non aveva mai parlato in precedenza vuole spiegarle vuole spiegare per quale motivo l'ha fatto solo in quell'occasione non me lo posso ricordare non lo ricordo assolutamente senta che cosa ha fatto lei quindi il venerdì 11 giugno 82 se lo ricorda? certo se lo vuole dire cerco di ricordarlo io praticamente facevo un traffico di frontiera quel periodo e la sera ormai avevo già preparato tutte le cose che facevo una preparazione e io quella sera praticamente mi recai prima di portare Calvi in Jugoslavia feci un lavoretto mio che genere di lavoro è? ma lavoro di caffè di zins il solito lavoro di confine contrabbando certamente si entra lei sapeva quali compiti doveva svolgere l'11 giugno chi ne parlarono nel corso delle telefonate che ha ricevuto? si quando arrivò Calvi entriamo dentro io ero già dentro però siamo io e Pelicani troviamo Calvi proprio vicino che conosceva la macchina perché non sapevo non era neanche la macchina mia ho trovato una macchina un amico mio perché avevo una 124 molto vecchia mi vergognavo a presentarmi a un appuntamento così che mi ha detto Carboni guarda che è una persona molto importante ho chiesto un amico se mi prestava una macchina e siamo entrati dentro all'hotel e disse Pelicani dobbiamo telefonare a Flavio devo telefonarsi devo telefonare a Flavio e dire dell'avvenuto incontro la mia domanda era un po' diversa perché io le ho chiesto se lei sapeva quali compiti doveva svolgere l'11 giugno già prima di questo incontro sì mi ha detto qualcosa però non esattamente solo quando Calvi arriva a Triesti io sapevo esattamente cosa dovevo fare ecco io le devo contestare che in tre occasioni lei ha dichiarato cosa diversa pagina 2 verbale del 23 12 82 alle ore 17 05 pagina 2 verbale 24 dicembre 82 ore 010 quest'ultima occasione dice né Calvi né Carboni mi diedero indicazioni sul motivo dell'incontro e poi a pagina 1 verbale 28 gennaio 83 io non sapevo perché venisse Calvi ecco come mai in passato in queste in queste tre occasioni lei ha dichiarato di non sapere nulla al riguardo no non sapevo niente lo sto dicendo che solo ho avuto indicazioni ha dichiarato cosa diversa perché ha detto qualcosa lo sapevo mi è stato riferito sì mi è stato riferito invece è stato assoluto quando venne escusso in fase di indagini nel 82 nel 83 dicendo che assolutamente non sapeva il motivo Flavio solamente tra l'una e le due quando mi chiamò per fare l'incontro mi disse che era di portare una persona a Klagenfurt di farla passare il confine della della Jugoslavia Senta lei ha detto dove ha accompagnato o meglio ci vuole dire dove ha accompagnato Roberto Calvi quando lo ha incontrato a Trieste l'ho portato a casa mia e poi? poi siamo arrivati a casa mi ha chiesto era tutto sudato perché portava secondo me aveva anche un vestito abbastanza pesante aveva un vestito di mezza stagione non un vestito estivo appena entrati appena saliti nell'appartamento mi ha chiesto subito se era possibile di rinfrescarsi un pochino voleva andare in bagno praticamente è entrato e gli ho fatto ricordare il Presidente si accomodi qua dentro si è accomodato in bagno è rimasto adesso non so posso dire qualche minuto in più tra 5 a 10 minuti potessi anche 15 è rimasto in bagno e mi ricordo mi sono stato è stato un momento così meravigliato è uscito fuori in mutande in canottiera è uscito fuori di questo bagno e si siamo messi praticamente così fare il piano per il suo espatrio come l'avete attuato questo piano? praticamente io pensavo io quella sera dovevo uscire fuori di prima serata io al momento pensavo di uscire fuori con Calvi direttamente però Pelicani mi disse che subentrava un altro problema che doveva arricarsi a Ronchi degli Zonari che restava ben 40 km di Trieste a prendere un passaporto o una cosa del genere no? quel momento parliamo no? e non ricordo esattamente che ora aveva l'appuntamento a Ronchi comunque era lì per lì diciamo verso le 8 io nel frattempo purtroppo avevo già preso dei impegni precedenti non potevo mancare perché avevo questi miei collaboratori che avrei dovuto litigare e così decidemmo di accompagnare Pelicani a una stazione di taxi che desta a qualche chilometro e io lo accompagnai alla stazione di taxi prima di scendere Calvi mi disse se poteva aprire la televisione io dico guardi Presidente qua c'è il telecomando si accomodi pure e là è stato praticamente una cosa molto breve perché Pelicani aveva diciamo così non posso dire una gran fretta però aveva un appuntamento che il tempo ormai era praticamente vicino ecco l'appuntamento che doveva incontrare Pelicani a Ronchi delle Zonari sì io le avevo chiesto come si era attuato il progetto che avevate pianificato secondo quello che lei ci dice oggi per far espatriare Calvi io praticamente così abbiamo gli ho proposto due soluzioni una che si poteva passare Trieste di Udine Udine Tarvisio e Clagenfurt era quella che era anche per me era più così diciamo più breve più semplice però Calvi assolutamente disse no la scattò immediatamente Pelicani non non diceva niente lui stava praticamente era Calvi quello che parlava non Pelicani stava solo ascoltando il fatto è questo che mi è rimasto impresso che quando noi siamo partiti via dell'hotel Calvi era già conoscenza che lui sapeva già con certezza matematica che lui praticamente espatriava con una barca perché mi chiedeva informazioni la barca che barca c'hai grande piccola io dicevo sì sono una grande una piccola voglia sapere ma quanti cavalli sa che velocità si teneva informato di questo viaggio che lui aveva già programmato prima di penso prima di venire a Trieste o quel momento adesso non so mi chiedeva tutta la strada che noi praticamente fino arriviamo a casa mia che ha durato una quindicina 20 minuti si parlava sempre di queste diciamo così era il discorso infondato su un motoscafo ecco quindi lei lo ha accompagnato con un motoscafo sì e dove lo ha accompagnato praticamente siamo partiti via da Trieste e l'ho accompagnato alla costa esteriana un posto tra Capodista che si chiama Susterna è un portisoglio comodo che mi faceva comodo e per me poi lei che cosa ha fatto una volta che l'ha accompagnato a Susterna sono tornato a Trieste sono tornato e sono tornato a Mila io devo contestarle che alla domanda che le venne fatta molte volte nel passato lei ha fornito dichiarazioni diverse allora ha dichiarato in sei diversi verbali di aver accompagnato Calvi alla stazione e in un'occasione dichiara di aver consigliato a Calvi di prendere il taxi allora esattamente pagina 2 verbale del 23 giugno 82 lei ha dichiarato mi limitai ad accompagnarlo alla stazione pagina 2 verbale 24 giugno 82 ore 20 lasciai Calvi alla stazione ferroviaria gli viene contestata in quell'occasione che non vi sono treni in partenza da Trieste per Klagenfurt e lei ribadisce la sua versione il 24 giugno 82 ore 010 lei dice poiché il Calvi insisteva per partire con la Mercedes lo accompagnai alla stazione di Trieste dove lo lasciai davanti ai giardinetti idem pagina 4 del verbale 27 82 a pagina 2 del verbale 23 dicembre 82 ore 17 5 lei dice le ribadisco la verità di questa affermazione pagina 5 dello stesso verbale saliti sul 131 Fiat a portato Calvi nei pressi della stazione ferroviaria e ribadisce la dichiarazione a pagina 6 del verbale del 23 12 1982 ore 22 e ancora un'altra occasione quindi diventa la settima volta ribadì il 4 gennaio 83 pagina 1 ribadisco che intendo richiamarmi a tutto quanto sinora riferito nei miei interrogatori resi del PM di Trieste Roma e Milano poi ancora pagina 3 verbale 28 gennaio 83 dissi a Calvi il quale insisteva per andare in Austria di prendere un taxi per farsi condurre sino a Tarvisio qui avrebbe potuto chiamare un taxi austriaco per farsi portare in Austria perché in tal modo non avrebbe avuto difficoltà di frontiera ancora ripete la circostanza anche in un altro verbale allora io le devo chiedere a questo punto perché innumerevoli volte ha dichiarato di aver accompagnato Calvi alla stazione di treni a prendere un taxi allora vuole dirci quando ha mentito se ha mentito allora e ha tanto mentito o se invece mente adesso no ho mentito allora è semplicemente per questo motivo ho mentito perché portando fuori a Calvi andavo in rischio che mi venivano sequestrate la barca era l'unico mezzo mio oltre del mio eravamo parecchie persone praticamente proprietarie di questa barca è l'unico mezzo di sopravvivenza che avevo attualmente quel momento e allora io non potevo dirlo perché oltre di fare i conti con la finanza devo fare i conti con i miei colleghi che avevo preso la barca l'insaputa sua e io non potevo dire assolutamente che l'ho portato fuori quella barca senta ci vuole dire che cosa accadde una volta che siete arrivati a Zusterna con l'imbarcazione arrivati a Zusterna Calvi che fece prego Calvi che fece arrivati a Zusterna io nel frattempo dalle sette mesi fino alla mesanotte che abbiamo fatto l'attraversata ho messo a punto praticamente un piano che doveva due miei amici jugoslavi condurre Calvi dalla costa jugoslava a a a a a Clagenfurt arrivati là ho visto come se dicevamo come stiamo raggiungendo la costa jugoslava ho visto già la macchina così ben vista e parcheggiata mi sono come se dicevamo vicino come stiamo raggiungendo la costa jugoslava ho visto già la macchina così ben vista e parcheggiata mi sono diciamo così affrettato e dopo aver camminato sul moglio una decina di metri si è seduto in macchina ho aspettato per vedere se andava tutto a buon fine e sono partiti alla volta di Clagenfurt chi sono queste persone a cui ha consegnato Calvi erano due erano perché adesso purtroppo li ho persi di vista tanti anni erano due diciamo così che facevano gli stessi traffici che facevo io due jugoslavi ci vuole dire i nomi di queste persone beh i nomi uno si chiamava si chiamava Franco però si faceva chiamare Branco roba del genere e l'altro era Dusan ci può dare qualche altra indicazione siccome non l'ha mai fatto in precedenza ma indicazioni erano diciamo così vivevano in zona diciamo così vicino alla frontiera italiana però erano dell'interno delle jugoslavi non saprei nemmeno io precisare il posto esattamente la località che venivano loro perché non è che io sono stato a casa sua si conoscevamo solo perché loro acquistavano questo caffè questi jeans in Italia io praticamente li facevo avere in un posto sicuro ma che tipo di legame aveva con queste persone lei? ma di lavoro di lavoro di quello che stavo facendo io erano persone con le quali aveva fiducia? al 100% e quindi se lei aveva fiducia al 100% di queste persone vuol dire che dovrebbe essere anche nelle condizioni per consentirci di identificarle queste persone lei non l'ha mai fatto ha negato di voler riferire i nomi come mai? perché avrebbero passato tantissimi guai come ho fatto quella telefonata a un amico poliziotto che ha perso il posto e quell'anno non volevo dargli dispiaceri perché non centravano niente su questo fatto perché dovevo metterli farli non avrebbero più potuto venire in Italia e via di seguito cercavo di tenerli lontano di questa faccenda perché purtroppo come non centro io non centravano nemmeno a loro ho capito senta c'è un dichiarante Pino Cillavi che dice che Casillo incontrò a Trieste Calvi non è che queste due persone erano Casillo e un suo accompagnatore io di Casillo ho sentito il nome neanche non so chi sia non ho mai sentito questo nome non so senta quindi lei aiutò Calvi a lasciare l'Italia in sostanza quindi lei ha aiutato Calvi a lasciare l'Italia esatto sì certo come mai lei pagina 46 della non aggiornata del secondo processo inglese ha dichiarato mi sono limitato a dargli dei consigli ma non lo so non potrei dare una spiegazione non mi ricordo l'ho portato io comunque l'ho portato io fino alla costa l'ho fatto io arrivare a Clagenfurt guardi lei l'ho ricordato perlomeno 10-11 verbali in cui ha dichiarato cose diverse in cui ha mentito scolorgatamente ecco il motivo della menzogna qual è in sostanza non me lo ricordo questa lei sa come Calvi giunse alla villa di Clagenfurt alla villa dei Clancy a Clagenfurt ma io esattamente non lo so me lo dice Michela quando io arrivai dopo due giorni a Clagenfurt era così diciamo mi dice ma come l'hai fatto venire questo quell'altro che mi hanno dato perché ancora non era chiara la cosa dico guarda che Calvi è venuto non per parte mia ma devi devi chiedere la tua sorella e Flavio come Calvi è arrivato a Clagenfurt io Calvi mi ha detto di portarlo qua dice sì perché è arrivato di mattina ha bussato la porta e poi l'ho mandato in un albergo ha fatto un po' di confusione ma noi che sono stato là io tanto a chiedere per me quando era arrivato il mio compito era esaurito ero soddisfatto e contento che sia arrivato sano e salvo a Clagenfurt e tutto il resto non è che mi interessava tantissimo anche perché quando io sono arrivato di domenica era Flavio il mio compito era praticamente completamente esaurito sì ma lei sa chi ha accompagnato Calvi a Clagenfurt certo tutti i miei amici li ha accompagnati senta il suo cognato ha accompagnato Calvi a Clagenfurt mio cognato no assolutamente senta nel verbale del 712-90 viene detta questa cosa e viene richiamata una dichiarazione delle cleansing sul punto sì come lo spiega non lo so il mio cognato assolutamente lo nego categoricamente non c'entra niente il mio cognato non si è mai cioè il mio cognato fa tutto un altro lavoro che non c'è niente da vedere con quello che facevo io prendo atto si dice pagina 3 che una delle sorelle Cleinsic ha dichiarato che Calvi sarebbe stata accompagnata a Clagenfurt da mio cognato ma lo escludo categoricamente allora senta quando lei ha incontrato Pellicani via Trieste con chi con chi era c'era qualcuno con Pellicani no era solo Pellicani è entrato da solo dentro all'albergo da solo senta non sa se ci fosse altre persone quindi con lui no io non ho visto nessuno era assolutamente era solo era senta ci sa dire chi è lei quel famoso biondino che in seguito nell'agosto del 1983 Pellicani che conobbe falsamente in Eligio Paoli no non esiste nessun biondino non so come è venuto fuori l'ha conosciuto anche su un confronto che abbiamo fatto un confronto l'ha giurato si ha giurato che era il biondino oltre di questo il biondino io non lo conoscevo assolutamente cioè Eligio Paoli nominato come il biondino io non lo conoscevo assolutamente l'ho conosciuto un'altra persona chi era realmente questa persona che è sempre stata tenuta nascosta in cui nome non è mai stato rivelato non saprei lui praticamente Pelicani dice che Eligio Paoli però Eligio Paoli non c'è assolutamente anche lo ha riconosciuto su un confronto o roba del genere assolutamente non è vero e poi è stato appurato che lui era in America a quel periodo lo ha giurato sta giurato Pelicani che era Eligio Paoli anche sui confronti adesso non so esattamente perché sono passati parecchi anni non so la memoria proprio fresca lei ha detto che ha contattato un poliziotto in precedenza che ha fatto perdere il posto di lavoro esattamente chi era questo poliziotto l'ha fatto il nome ha indicato chi era si chiamava Danilo il cognome non posso dirlo perché non lo so non ho mai saputo il suo cognome era uno che contava nella zona fatto sta però che non risulta essere stato identificato questa persona si è stato identificato Sinta lei ha fatto delle telefonate dall'hotel Savoia quando si è incontrato con Pelicani si se la fate con chi ha parlato ho parlato con questo poliziotto ho chiamato a casa sua si e poi con chi ha parlato e dopo non me lo ricordo sono fatto forse ho fatto ancora una telefonata o due ma non me la ricordo non sono sicuro può darsi che anche non ho telefonato nessuno non lo so adesso non ricordo non potrei dirlo lei ha mentito in precedenza nel corso delle indagini con riferimento alle telefonate effettuate all'hotel Savoia non volevo dire che era questo poliziotto perché sapevo cosa andava incontro scusi lei oltre al poliziotto sa se avete telefonato a qualcun altro lì all'hotel Savoia a Carboni avete telefonato a Carboni sì a Carboni e questo poliziotto su questo contatto su questo contatto con Carboni e con riferimento al poliziotto diciamo lei ha mentito quindi con riferimento ad entrambe le cose no ho detto sempre che ho parlato con Carboni perché dovevo mentirlo e invece risulta che lei ha mentito al riguardo per esempio pagina 2 del 28 gennaio 83 dice non ricordo minimamente che il Pellicani abbia fatto telefonate alla mia presenza dalla cabina dell'hotel Savoia tantomeno ricordo di avere fatto io delle telefonate dalla cabina e ancora il 23 dicembre 82 ore 17.05 non è vero pagina foglio 2 non è vero che nel pomeriggio dall'hotel Excelsior vi abbia confabulato con i Carboni telefonicamente dopo che la cornetta mi fu passata dal Pellicani almeno non ricordo di averlo fatto non è vero che io abbia fatto alcuna telefonata in Jugoslavia dall'hotel Savoia quando nel pomeriggio incontrai Pellicani e Calvi ancora il 23 dicembre 82 alle ore 22 nel confronto con Pellicani mi viene contestata la dichiarazione del Pellicani il quale dice ribadisco che quel pomeriggio dell'11 giugno 82 quando l'hotel Savoia chiamai Carboni a Roma per comunicargli che avevo trovato il Vittor passai poi la cornetta al Vittor il quale parlò con Carboni per una decina di minuti non ebbe modo di ascoltare e poi le dice era stato Calvi a chiamarmi quella mattina e comunque una persona che si qualificò con quel nome dicendomi di trovarmi nel pomeriggio al Savoia e ancora Pellicani ribadisco che quando Vittor concluse dall'hotel Savoia la telefonata con Carboni mi disse che doveva telefonare ad un suo amico poliziotto in Jugoslavia così fece chiamandolo alla cabina telefonica dell'hotel e lei dice nego la circostanza che sta riferita dal Pellicani ancora il 4 gennaio 1983 ore 17.30 lei dichiara dopo che vengono fatte delle indagini dopo che viene dato atto che allora in primo luogo il PM contesta al Vitto il fatto che le dichiarazioni del Pellicani sui contatti avuti dal Vitto stesso con funzionari di polizia di Urlavia paiono confermate dal riscontro operato presso il tabulato telefonico dell'hotel Savoia la quale risulta che alle ore 18.38 dello stesso 11 giugno 1982 nella cabina telefonica dell'albergo venne chiamato il numero 003866 22938 e che la telefonata ebbe la durata di 5 scatti dalla telefonata risulta immediatamente successiva ad altre due telefonate al numero 065139 218 di Roma corrispondente all'abitazione del Carboni l'utenza telefonica numero risulta intestata conformemente a quanto sostenuto dal Pellicano a tal fine l'ufficio dà lettura all'imputato delle dichiarazioni rese in data 2412 82 e 31 12 82 rispettivamente dei testi Candusio Livio e Cian Grande Bruno e lei risponde prendo atto degli scontri telefonici effettuati dall'hotel Savoia e prendo atto altresì delle dichiarazioni testimoniali rese dei testi Candusio e Cian Grande ma ribadisco di non conoscere alcun funzionario di nome Danilo non ricordo assolutamente di avere effettuato le telefonate l'11 giugno 82 ancora il 28 gennaio 83 non ricordo minimamente che il Pellicani abbia fatto telefonate alla mia presenza dalla cabina dell'hotel Savoia tantomeno ricordo di avere fatto io delle telefonate alla tale cabina anche assurdo dice poi più avanti a pagina 4 mi pare il fatto pure riferito al Pellicani che il predetto di tutta la presunta telefonata intercorsa a suo dire dall'hotel Savoia Ramelli e Carboni avrebbe percepito le assicurazioni che avrei dato ai Carboni che tutto stava andando bene e null'altro quindi sono diverse le volte in cui ha mentito sul punto e ha mentito e ha mentito anche sulla telefonata effettuata a Carboni e allora se ci ha dato una spiegazione del perché ha mentito sulla telefonata effettuata al funzionario di Polizia ci vuole dare non ci ha dato una spiegazione sul perché ha mentito con riferimento alla telefonata effettuata a Carboni come la spiega questa circostanza quello della Polizia l'ho già detto non volevo fare il nome perché sapevo come andate le cose di fatto si è rimesso il posto senza saperne perché nemmeno e secondo di Carboni non ricordo quella circostanza in quanto Carboni gli ho detto sempre che mi ha chiamato e lo avevo anche chiamato adesso non so con Pellicani però non vedo non ricordo questo particolare perché ho detto così forse ero in stato di confusione non ricordo esattamente bene da 20 anni fa 25 che sono passati quei periodi tragici che stavo passando quindi una confusione protrattasi per molto tempo ebbene ancora ora potrei dire non so un caso del genere non è che uno si può dopo aver fatto 15-20 interrogatori essere trassinato di una parte e l'altra penso che nessuno gli farebbe piacere senta ma come mai lei a più riprese nel corso delle sue dichiarazioni dice che quello che andava dicendo corrispondeva alla verità sempre diciamo c'è un tratto dominante che percorre le sue dichiarazioni che è quello per cui le sue affermazioni lei le accompagna sempre dalla dicitura questa è la verità dice questa è la sacrosanta verità ho detto la verità anche su dichiarazioni per le quali si è dimostrato lei stesso ha ammesso di aver mentito così il 24 giugno 82 lo ha ripetuto più volte nel processo inglese la non aggiornata pagina 40 pagina 41 pagina 16 non aggiornata posta in questi termini la domanda sia suggestiva la domanda come mai ha sempre usato questa espressione io penso che sia suggestiva io faccio posizione vuole rispondere vuole rispondere vuole rispondere è in grado di rispondere si volevo se mi poteva un momentino perché ho fatto un momento di confusione certo voglio rispondere il punto è questo lei nel corso delle sue dichiarazioni ha molte volte detto questo corrisponde alla verità poi però si è rivelato che verità non era allora c'è qualche ragione per la quale lei ha sempre dato l'imprimatur di affidabilità dicendo che era vero quello che diceva ma non avrei non so ho fatto delle confusioni ho detto delle cose anche inesate o l'ho detto sicuramente avrò sbagliato qualcosa sicuramente come senta con chi si è incontrato Pellicane all'aeroporto di Trieste non me l'ha mai detto lui doveva incontrarsi però non è che io sono stato a dire chi viene e chi non viene non me l'ha mai detto non l'ho neanche mai chiesto per essere sincero senta lei ci ha detto oggi che sapeva che Pellicane doveva recarsi all'aeroporto per prelevare il passaporto mi pare abbia detto esatto io però devo contestare che lei quando è stato sentito in passato ha dichiarato che non sapeva il motivo per esempio confronto 23 dicembre 82 ore 22 lei dice ne ignorava il motivo lo stesso a pagina 2 del memoriale ecco come mai ha dichiarato il falso in queste due circostanze ma può darsi che o invece ha dichiarato il falso oggi no io dico questo invece che praticamente ignoravo la la sua diciamo così per cosa andava all'aeroporto quel momento però successivamente ho saputo che è andato a prendere il passaporto ecco questo sarà stato il caso ho detto non è che io ho chiesto cosa deve andare a fare quella dopo successivamente ho saputo che è andato a prendere il passaporto ho capito senta adesso volevo devo fare una domanda che in realtà dovevo farle anche prima per il contributo che lei avrebbe dato a Carboni per recuperare la borsa ecco lei ha percepito del denaro certamente quanto denaro ha preso adesso esattamente dico così mi ha dato una busta per i cani mi consegnò una busta chiusa dovrebbe essere stato non oltre 7 milioni di lire 7 milioni di lire sì in grosso modo che serviva per fare questo espatrio me l'ha data quando io sono ritornato alla mezzanotte forse non ha capito la domanda presidente la domanda del pubblico ministero è sulla circostanza del recupero della borsa e lui sta parlando non ho capito mi scusi non ho capito io ho capito questo quanto mi ha dato Flavio per la spesa per portare per sfatriare che io l'ho detto per quel contributo che lei avrebbe dato a Carboni per recuperare la borsa ammesso che sia vero questo tutto nell'arco lei ha percepito che cosa ha percepito che cosa è stato dato nell'arco di quando ho iniziato a loro no no ne ho fatto questa domanda per quell'attività lei ha percepito qualcosa ma io posso dirlo che ho concepito in totale in questi 24 anni diciamo non ultimamente sicuramente questo non gliel'ho chiesto però ancora non me lo ricordo solo per il recupero della borsa la domanda è diretta specifica non me lo ricordo non me lo ricordo qualcosa mi avrà dato sicuramente mi dava sempre mi dava anche prima del caso Calvi mi dava qualche manzata di denaro però non me lo ricordo potrei dire mi avrà dato sicuramente qualcosa però come faccio ricordarmi adesso senta ma lei ha cercato di alzare il prezzo per il suo compenso in qualche modo a lui no io non è che ho chiesto a Flavio ho chiesto se poteva aiutarmi dopo il caso se aveva possibilità di darmi una mano per una sopravvivenza perché non potevo lavorare ero praticamente baraccato a tutte le parti però mi aiutava a volte mi ha dato qualcosa però non grosse cifre ecco poi abbiamo scritto Carboni ha dichiarato che non ci sono problemi è venuto da lei varie volte si ha chiesto e ha capito che questo era il fatto che lei non fosse disponibile era un modo per alzare il prezzo la chiama il fitre così no assolutamente il suo nome di battaglia Carboni no io non ho mai non ho mai chiesto una cifra specifica a Carboni lui praticamente quando mi ha dato mi ha dato di sua spontanea volontà e io non ho fatto mai nessunissima cifra ho capito quindi non è vera questa cosa che ha detto il Carboni ma io non so se ha detto Carboni queste cose io non ho sentito a me non mi ha chiesto l'ha scritto nel Memoriale del 94 per esempio dice che è venuto varie volte con lei che non era disponibile non ci era fatto trovare e quindi aveva capito che era un modo per alzare il prezzo per ottenere alzare il prezzo di cosa? non capisco io per questo supposto contributo che lei avrebbe dato per recuperare la borsa ma no assolutamente posso specificare di quale Memoriale si parla? quello diretto alla corte di appello per esempio nel 94 di Carboni ma no assolutamente no va bene senta allora visto che lei ha introdotto il tema del denaro che ha percepito le chiedo lei che cosa ha percepito per quello che ha fatto in questo arco di tempo in cui lei è stato vicino a Calvi esattamente la cifra non so perché le cifre non è che lui mi ha dato una cifra unica mi dava ogni tanto quando si incontravamo lui sapeva che ero in condizioni veramente pessime mi faceva di regali io dico così che siamo arrivati dai 40 ai 50 milioni in questi vent'anni così tanto sì lei ha dichiarato delle cose diverse nel corso delle sue dichiarazioni diciamo chi le ha dato il denaro e in quale occasioni ma io posso aver dichiarato differente perché era l'inizio del caso per ognuno di noi che mi dava 10 milioni così mi dava qualche milionata quando eravamo non so una volta siamo andati a fare un'intervista un'altra volta siamo visti da Giudice Massiotti praticamente io non avevo neanche i mesi per poter sostenere il viaggio e lui lo sapeva mi aiutava in questo modo qua scusi ma lei non è un contrabandiere quotato a Trieste a quell'epoca uno uno che fa qualche quintaglia di caffè o o qualche gins non so quanto può essere quotato senta allora diciamo quando vi siete visti a Trieste uno che scusi quando vi siete visti a Trieste con Calvi lei ha percepito del denaro è stato dato del denaro a Trieste sì per i cani mi dà 7 milioni 7 milioni 7 milioni allora io le devo dire che lei ha dichiarato il contrario o una cosa diversa completamente quando è stato sentito sul punto pagina 3 del verbale 23 dicembre 82 275 lei dice quando ritornai a casa non è vero che io abbia chiesto a Calvi dove fosse il suo passaporto non è vero che Calvi abbia allora aperto una busta chiusa e estrendo il passaporto non è vero che dalla busta abbia estratto anche una mazzetta di banconote da 100 mila dire per un totale di 8 milioni non è vero che mi abbia consegnato quel denaro non è vero che io l'abbia incassato voglio anzi far presente che quel giorno non ricordo in quale momento Calvi e Pellicani parlavano che erano a corto di denaro sì io ho detto che Calvi non me l'ha dato non Pellicani questo me l'ha dato Pellicani non Calvi credo che erano a corto di denaro che non le hanno dato il denaro io penso di sì pensa di sì questa è la mia supposizione allora vediamo un po' se siamo più fortunati con un altro verbale per esempio il 23 dicembre 82 alle ore 22 quello di prima era delle ore 17 e 5 allora Calvi prese viene ricordata la dichiarazione di Pellicani Calvi prese da Busta da Pri vide e diede a Vittor una mazzetta di banconote da 100.000 di ricontenuta dicendo questo è per le spese e lei dice pagina seguente non ricordo questa trafida di episodi che ha raccontato poi ancora il 16 giugno 83 ore 11 e 15 Pellicani dice insisti anche nel negare di avere esaminato il passaporto del Calvi e di aver intascato la somma di 8 milioni di lire che ti ho visto prendere e mettere in tasca anche se io in quel momento non conoscevo l'entità della somma lei dice ho visto tantissime volte il passaporto di Calvi quella sera non ho intascato alcuna somma di denaro ti faccio notare che se avessi dovuto prendere del denaro da Calvi e se avessi saputo che il Calvi era in fuga altro che 8 milioni di lire avrei chiesto di compenso avrei chiesto almeno 100 milioni faccio per dire oppure l'avrei fatto gratis per l'amicizia che mi legava a Carboni quindi queste ricostruzioni lei nega di avere percepito questi qualunque somma di denaro ecco in quella occasione e dice che avrebbe se l'avesse dovuto fare per denaro avrebbe chiesto una somma molto maggiore come mai ha mentito in queste si fa per dire una somma molto maggiore l'avrei fatto anche gratis come l'ho già dichiarato per Flavio non è che doveva mandarmi soldi del denaro pagarmi per fare questo lavoro senta un po' a Bregenz quando vi siete incontrati con Carboni con Kunz lei ha ricevuto del denaro sì qualcosa sì mi ha dato del denaro perché i soldi che mi sono stati lasciati dai pelicani io sono praticamente sono andato a prendere la Michela domenica ero non avevo soldi con me quanti soldi le ha dato se lo ricorda vagamente non so meno di 2-3 mila dollari circa 1500 non mi ricordo ho capito senta ricordo che me l'ha dati sì questo è vero perché io non avevo mesi per poter sostenere ulteriormente il viaggio ecco poi un'altra cosa dopo Trieste Bregenz lei ha ricevuto l'altro denaro in che occasioni l'ha ricevuto e dopo qualcosa mi aveva mi aveva dato Calvi a Londra però non mi ricordo adesso esattamente so che in queste tre circostanze sono sicuro io le ricordo questo che pagina 70 della trascrizione verbale del 13 febbraio 2004 lei dice che Carbone gli ha dato un 5 milioni una o due volte dopo due anni mi pare una volta me li ha dati a Roma ed una volta a Trieste sì è vero le ho detto anche prima che mi aveva dato a Roma in un'intervista e anche a Milano o a Trieste le ho detto io ho capito praticamente nel momento del viaggio che stavo svolgendo con Calvi Sena come ci arriviamo ai 50 milioni qui parliamo di due volte 5 milioni di una volta forse 8 milioni sono 5 5 10 18 io non lo so esattamente io potrei dire 50 potrebbe essere 30 non lo so esattamente perché non era che le cifre erano rilevanti erano sempre le cifre così non so qualche milionata al massimo 5 ecco e per questo che non è che tenevo il conto di soldi ogni volta che mi vedeva come sei come qua però io non è che gli stavo là chiedendo di soldi senta lei ha reso un'intervista su disposizione di Carboni a Dindro Montanelli sì per quale motivo non lo so non lo so va bene abbiamo un po' visto questa materia del denaro che ha percepito adesso riprendiamo un po' le fila in quello che stavamo dicendo in precedenza vediamo un po' di soffermarci sulla falsificazione del passaporto lei sa se Calvi avesse un passaporto falso nel corso della fuga? beh io ho saputo adesso non so il momento che l'ho saputo però quando siamo partiti non ricordo non posso dire se era falso o se non era falso dopo sono venuto a conoscenza del passaporto falso solo successivamente adesso non so in che occasioni non posso dirlo ho capito può darsi che lo sapevo anche nel stesso momento quando siamo partiti però non lo so non lo ricordo lei lo ha visto questo passaporto falso sa chi fosse intestato? ho saputo successivamente che era già Roberto Calvini successivamente io le volevo far presente questo il 23 dicembre dell'82 a pagina 4 viene ricordato che lei ha esaminato attentamente il passaporto falso lo dice Pellicani mentre era con lei e dice testualmente non è vero allora lei dice che lei ha fatto scorrere il suo dito sulla correzione apportata sul nome di Roberto Calvi sul nome di Roberto Calvi in Gianroberto Calvini per verificare che la falsificazione fosse stata fatta bene io non faccio né documenti né falsario faccio ben tutto altra cosa non potevo io giudicare se il passaporto era fatto bene o male come una cosa assurda assolutamente non è il lavoro che stavo suegendo io i documenti non potevo essere in grado di conoscere se un passaporto era buono o falso assolutamente lei si stava accingendo per aiutare Calvi a oltrepassare il confine quindi non si è preoccupato se Calvi fosse nelle condizioni di avere documenti che gli consentissero di passare dal confine posto che diciamo ha detto che ha saputo che Pellicani doveva andare a prendere un passaporto lei si è chiesto che cosa serviva cosa doveva servire questo passaporto che Pellicani doveva andare a prendere a ronchi di regionale per quello che riguarda me assolutamente non serviva il passaporto poteva anche privo di documenti essere non serviva assolutamente il passaporto tanto si passava il confine clandestinamente non serviva assolutamente il passaporto nessun documento ho capito quindi non aveva la circostanza riferita da Pellicani non vedo il motivo non mi serviva i documenti se faceva il confine via mare per qualcosa serviva il passaporto ho un documento la carta in città non serviva niente non serviva Pellicani è costante in queste dichiarazioni che rende allora quando siete arrivati a Londra chi è che ha compilato il foglio del pernottamento chi è che ha scritto il nome Gianroberto Calvini ma noi siamo io e Calvi siamo arrivati a Innsbruck all'aeroporto come siamo stati praticamente come l'ha detto me l'ha detto Calvi me l'ha detto che teneva i contatti con Cums arrivati all'aeroporto praticamente adesso non so se dopo qualche minuto erano già là questo non lo posso dire perché sono passato tanto tempo però la visione è molto precisa era un pilota inglese con una busta in mano io le faccio questa domanda specifica poi se vuole rispondere a questa domanda poi sul tema ci arriviamo dopo va bene mi dica me la puoi ripetere così io le ho chiesto diciamo quando lei chi ha compilato il modulo di alloggiamento al Cersia Cloister ah l'ha fatto io io l'ho fatto e ha scritto il nome di che nome ha scritto Vittor Silvano ho dato i miei documenti il mio documento ho dato lei ha scritto il nome anche di Calvi questo non me lo ricordo potrei dire di no potrei dire però può darsi anche che l'è stato omesso però non 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 ho una visione precisa su questo sul documento dell'affittanza del residence il mio sicuro anche perché sono arrivato là con un'intestazione che ero già fatta la prodottazione a nome mio capito senta allora io le faccio presente che pagina 50 e 51 della non aggiornata del secondo processo inglese le viene chiesto sul documento 23 sul documento 23 il nome del signor Calvi risulta essere così com'è sul passaporto GR Calvini risposta sua sì lo scrisse io ecco allora prese quel dato fu lui a dirmi come dovevo riempire il modulo è vero è vero è vero adesso c'è avuto un momentino di buio però adesso mi ricordo precisamente è vero ho messo anche il nome di Calvi non ricordavo sto particolare signor pubblico ministero senta io poi le dico anche questo che nel confronto tra Vittor Carboni il legge a 7 giugno 85 risulta che lei ha dichiarato sono salito in casa ho visto il passaporto di Calvi e poi tutti e tre io per i cani e Calvi siamo scesi in strada quindi lei dichiara anche di averlo visto questo passaporto ma sicuramente l'ho visto allora non si è chiesto come mai vi era riportato un nome un cognome quantomeno un nome e un cognome diverso sul passaporto rispetto a quello di Calvi no non mi sono interessato a parte che non mi interessava minimamente queste cose oltre di questo eravamo già a quell'orario abbastanza così si è fatto già tardi difatti io avevo anche sconsigliato di uscire fuori quella notte come mai aveva sconsigliato perché il mare era mosso era un'ora praticamente era già tra la mezzanotte e l'una l'una già passata era praticamente si rischiava leggermente più che passare di prima serata ho capito scusi presidente una piccola chiarificazione dato che si è parlato del passaporto e si stanno facendo tante domande volevo appunto dire quando si parla del quando il pubblico ministero ha fatto la domanda sul passaporto se ha visto il passaporto credo che sarebbe più corretto dire se ha visto il passaporto se l'ha sfogliato oppure l'ha visto così fisicamente perché probabilmente lui può dare una risposta più completa perché questo mi sembra il succo della domanda del pubblico ministero ma questo è un suggerimento più che poi sta facendo le domande del pubblico ministero poi lei quando farà le sue questo è un intervento che non è consentito senta quindi lei sa se Calvi avesse la disponibilità di un passaporto diplomatico straniero adesso non ricordo di che occasioni mi mi disse qualcosa riguardo a questo passaporto grazie a tutti Allora, in particolare di un passaporto nicaraguense. Adesso non ricordo, però mi aveva detto che era un passaporto, adesso non so se era Nicaragua o roba di facsimile. E chi è che gliel'ha detto? Me l'aveva detto Calvi. Scusi, come mai lei il 23 dicembre 1982, al foglio 3, lei dichiara che non è vero che si sia parlato di un passaporto nicaraguense intestato a Calvi stesso? Dipende come viene interpretato, se gli hai parlato. Io con Calvi, in un'occasione o più occasioni mi disse di questo passaporto, però adesso non so in che circostanza come è stata fatta questa domanda. Va bene, senta. Lei ricorda di aver ricevuto una telefonata da Pellicani o da Carboni nel corso della giornata di sabato 12 giugno 1982? Ma io ho ricevuto, sono su parecchie telefonate, 3, 4, 5, adesso non so esattamente, forse anche 3 sole ho ricevuto, può darsi che mi ha anche chiamato Pellicani. Non credo, però, pensandoci bene, non credo che Pellicani mi ha chiamato, se riferiamo dopo la partenza di Calvi, di Trieste, se non vado erato, no? Si può aiutare il test dicendo a che ora sarebbe avvenuta questa telefonata? Ecco, sarebbe, sì, se sarebbe... Cioè, se lo ricordo o non se lo ricordo, io non lo so. No, io... L'avvocato, però, per cortesia... Mi scusi. Dopo 24 anni... Un po' irrequieto l'avvocato Greco, questa volta. Un po' irrequieto. Cerchiamo di non intervenire. No, no, la telefonata ha una sua importanza, Presidente. Lei deve intervenire solo per opposizione. Ho detto soltanto se si può indicare l'ora. I suggerimenti lasciamo listare, perché... Il pubblico estero, adesso, poi, se il pubblico estero non segue le regole, intervengo io. Allora, ha detto, quindi, che non si ricorda di questa telefonata, anzi, lei esclude? No. Io penso che sì. Penso se... Adesso non... Non posso essere sicuro, comunque. Allora, non può essere sicuro. No, impossibile. Allora, visto che lei, insomma, è piuttosto preparato. In ogni caso, vi faccio presente che il 16 giugno 83, ore 11.45, e lei ha dichiarato... Allora... Pellicani ha dichiarato... Allora, saranno state all'incirca le 3.44. Chiamai, quando giunge a Fiumicino, all'aeroporto di Ciampino. Mi portai in taxi dall'aeroporto di Ciampino a quello di Fiumicino. Ivi saranno state all'incirca le 3.34. Chiamai, servendomi di una scheda magnetica e di un apparecchio telefonico, che era del tipo di quella presa dalle pareti dell'aeroporto, il numero di Trieste del cui presente Vittor, per avere le ultime notizie. Lei dice, escludo di aver ricevuto tale telefonata. Pellicani dice, non è vero quanto dici, e non capisco perché vi ho stignati a tacere circostanze vere e a tenere questo atteggiamento. Ti chiamai al telefono e mi rispondesti, mi dicesti che non riuscivi a metterti in contatto con Clarenford e comunque mi assicurasti di non avere preoccupazioni, giacché c'erano due persone amiche, ben conosciute da Michela Kleinsig, che accompagnavano i calvi a Clarenford. Mi specificasti di aver accompagnato tu personalmente il motoscafo Il Calvi in territorio iuroslavo e di averlo poi affidato a due persone amiche per la prosecuzione del viaggio fino a Clarenford. Aggiungesti ancora che ti aveva telefonato anche Carboni per chiederti notizie sugli ultimi sviluppi. Vittor, ti faccio rilevare che nel precedente confronto non hai mai detto di avermi telefonato direttamente quella notte, ma hai sostenuto che le notizie sull'avvenuto passaggio della frontiera da parte di Calvi e delle mie chiamate telefoniche a Clarenford le avesti dal Carboni. Poi lei ancora escludo tassativamente di aver ricevuto la telefonata dal Pellicani della quale il predetto ha appena parlato. Qua Pellicani dice che già in passato non aveva parlato, non aveva parlato dalla Commissione P2 e in altre occasioni. Allora, come mai Pellicani dichiara questa cosa, così precisa, particolarizzata, sul contenuto della conversazione? Io penso che alle tre mesi di quella notte non ero almeno arrivato a casa, perché siamo partiti via l'una, andata, ritorno, quella macchina, una cosa l'altra, sono arrivato su per giù, verso le quattro, dopo le tre mesi, adesso non so esattamente, dunque se lui lo dice che ha fatto le tre mesi, io penso, lo escludo categoricamente, che non può aver, o l'ha fatto più tardi, però non le tre mesi, perché se io sono tornato del... no, è impossibile. Va bene. Senta, lei ha avuto un colloquio telefonico con Flavio Carboni? Una mattina, presto, sì. O con Flavio, non mi ricordo se mi aveva chiamato Manuela o Flavio, comunque ho parlato con Flavio, ecco, questo sì. Questo sì. Si senta un po'. Io devo contestarle che lei ha dichiarato una cosa diversa, pagina 2 del verbale 23 dicembre 82, le ha detto di non ricordare questa telefonata. Come mai? È possibile. È possibile. Cioè, è possibile cosa? Che non... Che l'ha fatta, sta telefonata o non l'ha fatta? No, l'ha fatta, l'ha fatta sicuro, solo non ricordo in che periodo, che ora, però so che le ha fatta una telefonata. E come mai, dico, lei non se la ricordava il... Come posso ricordare tutte le... E se la ricorda oggi? Chissà quante cose non ricordo che potrei anche ricordarmi successivamente. Ho capito. Senta. Lei quando è che partì da Trieste per raggiungere Calvi a Clagenfurt? Domenica mattina a 13. Domenica mattina. No, no, voglio precisare, noi che io sono partito per raggiungere Calvi, signor Repubblico Ministero, io sono partito a casa di mia figlia e di dove andavo tutti i weekend. Io non sono andato di Calvi, io sono andato a famiglia Clenzi, dove abitavo. Ho capito. Senta, lei a che ora è partito, il mattino, se lo ricorda? Ma vagamente, però sono arrivato là verso prima di mezzogiorno. Prima di mezzogiorno. Senta, io devo far presente però che a pagina 135, la trascrizione 13.2.2004, lei ha dichiarato domenica sono stato a Trieste sino alle 5 di pomeriggio. Come stanno le cose? Io sono, comunque, io sono, adesso non so, comunque io sono arrivato domenica, domenica mattinata, o tarda mattinata, sono arrivato a Clagenfurt. L'orario esattamente, l'ho detto verso mezzogiorno, però prima di mezzogiorno, penso che sia stato così. Senta, ma perché il 4, perché il 7 dicembre del 90, la pagina 4, le dichiarate ad R, raggiunsi, come ho già detto, Calvi, il giorno dopo, il suo sabato a Clagenfurti? Passando regolarmente per il valico doganale di Tarvisio. Perché ho fatto semplicemente solo della confusione tra un giorno e l'alto, sono passato per il valico di Tarvisio, dove ero, abitualmente passavo, però il sabato era impossibile, perché io il sabato avevo la cresima di mio figlio, e avevo già preparato tutto quanto, e non potevo assolutamente mancarci, la cresima nel pomeriggio, le prime ore pomeridiane, e abbiamo preparato la cena all'hotel Soglie di Trieste, penso che dove è stato anche provveduto, chiede il dovere, se è la verità o no. Io il sabato assolutamente non potevo partire per Clagenfurti. Sono partito la domenica, l'orario non lo posso dire, se era mattina o se era pomeriggio, comunque sono partito la domenica, il 100%. Senta, ma, com'è che poi anche a pagina 3 del verbale, il 24 giugno 82, ora 010, lei dice, dopo la cresima e prima di completare la cena, sono partito per Clagenfurt, con il 131 Fiat, e giunsi tra mezzanotte e luna. Quindi è un'altra volta che parla di sabato? Non mi ricordo, ero in stato di confusione quel periodo, perché ero arrestato, non mi ricordo le date, comunque il sabato era impossibile. Ho capito. Lei sa se Calvi sia rimasto solo con Carboni e le Clancy a Clagenfurt, almeno una notte, un giorno? Lui è arrivato praticamente sabato mattina, presto, lo so l'ora, adesso comunque era, non so l'orario, potrei dirlo io così, però non posso essere sicuro, tra le 4 e le 6 è arrivato, però non lo so, con Michela era solo sicuro, perché Michela non voleva nemmeno farlo entrare, di fatto era incavolata con me, dicendomi, come ho detto prima già, come che lo avrebbe mandato io. La domanda è questa, un giorno, una notte, Calvi è rimasto solo con Carboni. Ma io non ero l'anno, posso dirlo. Lei ci è andato domenica? Io sono andato domenica. Lei sa spiegare come mai Calvi si sia recato a Clagenfurt, dal momento che quella non era la sua meta, e voleva recarsi in Svizzera? Penso su indicazioni di Carboni, non ci piove sopra qua, perché non era il modo, cioè, su indicazioni di Carboni. Lei sa se Calvi si sia incontrato con qualcuno a Vienna? A Vienna? Sì, dopo che è partito da Trieste. Di quello che so io, gli ho rimasto sempre in casa a Clenzi. Posso anche aggiungere una cosa, che noi il giorno siamo usciti per andare a mangiare qualcosa, e Calvi è solo perché ha visto due macchine con targa italiana, era in macchina con me, con Michela, con mia figlia, ha fatto dietrofondi, siamo ritornati a casa. Non mi ricordo se era ora di cena, o di pranzo, giù di lì. Senta, vediamo un po' di analizzare questi giorni della sua convivenza con Calvi. Ci vuole dire quanti giorni lei ha trascorso con Calvi, dopo l'espatrio? Praticamente domenica, come so, è così, domenica verso le otte e mese, a nove, adesso non so l'orario esattamente, oppure possiamo dire domenica pomeriggio, cominciò, e fino al giorno 17 di sera. Quindi è giusto dire che lei ha vissuto con Calvi prima del suo omicidio per cinque giorni consecutivi? Diciamo di sì. Da domenica 12 a giovedì 17 giugno? Sì, esattamente. Domenica 13? Domenica 13, sì. Domenica 13. A giovedì 17 giugno? Sì, al giorno 17. Dipende un po', se ci è andato sabato o se ci è andato domenica. No, no, sono andato domenica sicuro. Va bene. Penso che sia andato domenica, non mi ricordo, adesso non posso essere vera certezza matematica, come faccio a dirlo? Senta, domenica 13 giugno, ecco, dopo che lei è arrivato, che cosa ha fatto a Klagenfurt? Beh, cosa ho fatto? Sono stato con Michela e con mia figlia, che aveva un anno e mezzo, a codirla. voi quando siete siete andati fuori, siete usciti di casa, avete incontrato qualcuno? Siamo usciti solo una volta fuori, lui è uscito con me, e Clavio ha preso la macchina, non so, non mi ricordo che macchina, penso che era la macchina di Manuela, io praticamente ero con il 124, di fatto mi vergognavo, purtroppo quella volta avevo quelle possibilità di avere quella macchina e siamo usciti, ma forse mezz'ora, neanche, il tempo di recarsi a un ristorante nelle vicinanze e poi nemmeno, non voleva nemmeno scendere della macchina, e ha fatto come ha visto queste macchine, se un momentino così, dice no, no, torniamo a casa e basta, poi io non potevo fare niente, e lui che dice, cosa potevo dire io? Senta, voi quando state per partire da Clarenfort, ed eravate tutti quanti assieme, diciamo, no? Sì. Il programma era quello di andare dove? Quando siamo partiti la sera, di domenica? Sì. Di andare in Svizzera. Voi poi siete andati dove, una volta partiti? Una volta partiti, praticamente abbiamo trovato su un passo, che adesso non ricordo i nomi, un tempaccio tremendo, abbiamo messo per fare fino a Isbruck una distanza circa di 200 km, ci abbiamo impiegato un sei ore, perché non si riusciva, non si riusciva, non si riusciva a vedere niente, era una nebbia, ne vischio, un po' di tutto, abbiamo trovato un tempo molto brutto. di fatti ero stanchissimo, io, lui mi parlava sempre, mi stava chiacchierando, dice, Vittor, sto parlando che non facciamo un incidente che prenda il sonno, dico sì, fa bene presidente, abbiamo fatto due tappe strada facendo, lui non è mai sesso della macchina. Una volta che siete stati a Isbruck avete pernottato il primo albergo l'Europa Tirol esattamente, il primo albergo che abbiamo trovato sulla strada, praticamente non se ne passevo proprio più a proseguire, una forza forzata, una sosta forzata. Ecco, quante camere avete preso quella notte? Questo non lo ricordo. L'hai dichiarato, pagina 2, verbale 24 giugno 82, in una camera a due letti. Non ricordo questa circostanza, so che abbiamo dormito là però non potrei essere preciso. Passiamo al giorno seguente, lunedì 14 giugno 82, il trasferimento da Isbruck a Bregenz. Le chiedo, come mai dovevate incontrare Carboni a Bregenz? Perché Calvi doveva proseguire, non so se con Carboni o con Cus o con altre persone fare il passaggio per la... Io non dovevo andare in Svizzera. Il mio viaggio doveva finire a Bregenz. Anche, difatti, io sono partito via e pensavo che era un viaggio. Dato la distanza, così che ho guardato, ho dato un'occhiata che avevo una carta geografica perché le strade lì purtroppo non le conosco. Ho visto che non era tantissimo lontano. Io pensavo alla mattina o il giorno dopo, adesso non ricordo, posso aggiungere qualche parola di troppo. dovevo ritornare praticamente immediatamente a Clarenford. Non c'erano altri motivi? No. Almeno se... credo che mi sfugge qualcosa, penso di no. Mi aiuti lei? Qualcuno doveva farvi strada per arrivare in Svizzera. E questo non lo so. lo ha dichiarato lei a pagina 232 della trascrizione 13-12-2003. Lui doveva farci strada per arrivare in Svizzera. Lui? Carboni, sì. Ah, sicuramente. Sì, sicuramente. O Carboni o Kunso o qualcuno per loro. Non io perché io in quella zona assolutamente era la prima volta che scendevo giù di quelle parti. Ecco, durante la permanenza a Bregenz voi avete alloggiato in un albergo, esatto? Sì. Quale albergo? Eh, centrale, così qualcosa era. Hotel Centro? Hotel Centro, ecco. Senta, a Bregenz Calvi le disse quanto tempo intendeva trattenersi in Svizzera, a Zurigo? Sempre si è parlato, cioè, questo qua le date, non so se non ricordo bene se aveva detto a Londra che doveva fermarsi da 15 a un mese, però si girava sempre su un mese di quello che avevo capito io. Quindi, lei ha dichiarato a pagina 5 del verbale del 712-90 che a Bregenz Calvi mi disse che era sua intenzione lavorare in Svizzera per circa un mese e che quindi gli servivano delle pantofole. Esatto, e anche le abbiamo, non so se le ha comprate lui, sono andato a comprarle io. E' vero? Quindi a Bregenz le dice questa cosa, Calvi? Sì, sì, prima di vedere Carboni. Ora, vediamo martedì 15 giugno 82, che cosa accade? Cosa ha fatto quel giorno? Martedì? Sì. Martedì, vi svegliate dove siete? Cosa fate? Ah, sì, qui si svegliamo martedì mattina, martedì, adesso ho fatto un momentino di mente locale. Sì, ci siamo svegliati la mattina, noi era prestissimo, diciamo così tra le 8 e le 9. Abbiamo fatto colazione, non ricordo bene se Calvi aveva fatto delle telefonate, ma sicuramente ne ha fatte parecchie telefonate, due, tre, non so il numero esattamente, però si aspettava una telefonata per poter muoversi e per capire qualcosa dove, come si doveva proseguire il viaggio. Questa cosa lei non l'ha mai dichiarata nel corso delle sue precedenti dichiarazioni, come mai c'è da... A chissà quante cose non avrò dichiarato, capito? Noella, non sarà solo questa, ci sono parecchie... Senta, lei ha detto che quindi una volta che arrivate ad Innsbruck siete pronti per partire, che cosa accade? Quando siamo andati, praticamente, quando siamo arrivati a Innsbruck per la seconda volta? Sì, stiamo parlando di martedì, quindi ci vediamo. Sì, niente, siamo arrivati a Innsbruck, all'aeroporto, io ho posteggiato la macchina avanti, di fatto io ci pensavo e speravo che il compito mio, lui praticamente proseguiva il viaggio da solo, però già io avevo intuito che lui non aveva nessuna intenzione di proseguire il viaggio da solo che voleva la mia compagnia. Arriviamo all'aeroporto, all'aerostazione e dopo qualche minuto o adesso non ricordo esattamente bene, era un pilota inglese con una busta in mano il quale o è venuto lui, penso che è venuto lui, adesso non ricordo le circostanze esatte proprio come era, praticamente ha detto Mr. Vittor, Mr. Vittor praticamente mi cercava a me, mi cercava questo questo pilota inglese e siamo, non ricordo adesso con precisione se i bagagli li avevamo presi in sabbia della macchina o se sono rimasti macchina che era nelle vicinanze di qualche decina di metri possessata proprio davanti la partenza di sto quale praticamente in due, due, quattro diciamo in un arco di cinque, dieci minuti si troviamo già sull'aereo privato che è venuto a prenderci io dico privato perché l'ho saputo solo successivamente quindi fu Calvi che insistette per farla andare con lui non è che lui ha fatto grossi perché non è che io facevo delle grandi opposizioni di andare con Calvi perché assolutamente io sarei stato più avrei preferito tornare sicuramente a Clarenford anche perché avevo mia figlia che era già parecchi giorni che non la vedevo sono rimasto pochissimo tempo con loro praticamente diciamo così tra virgolette però non è che lui mi ha costretto con la forza assolutamente come non era neanche lui costretto di andare a Londra come ho già detto prima siamo andati a Londra così è stata fatta sono due piedi sono partito lei ha sentito la deposizione di Carboni ha detto che è stato lui che l'ha pregata di accompagnarlo sì io le decisioni a limite me le diceva sempre me le diceva Flavio non è che successivamente come per partire me le diceva adesso non ricordo un particolare me l'ha detto sia Calvi sia Carboni oppure me le diceva prima Carboni e successivamente me le diceva Calvi però le notizie veniva fuori di là non è che io potevo decidere cosa fare dunque fatto sta che questa cosa l'insistenza di Carboni la richiesta di Carboni lei non la riferisce nelle sue dichiarazioni non mi ricordo sicuramente non l'avrò detto però le cose sono date così insomma senta dove credevate di andare a stare a Londra ma come praticamente delle telefonate che abbiamo ricevuto della Svissera meno così si aspettava una casa una viletta in periferia molto lussuosa molto confortevole senta lei ha mostrato l'indirizzo a Calvi del Celsia Clovis prima di partire è certo che l'ho mostrato quindi una volta che voi siete arrivati a Londra e vi siete recati al residence dove risulta che avete pernottato che cosa accade? praticamente noi se vuole vi racconto anche il tragitto come è stato dall'aeroporto al residence altrimenti passo direttamente quando siamo arrivati come vuole lei come preferisce lei il pubblico ministero? io per evitare per avere tempo che hai fatto questa domanda se ci dice quello che accade una volta che arriva il Celsia Clovis va bene siamo arrivati al residence e mi sono presentato abbiamo fatto le solite procedure ed ho riempito un modulo adesso non ricordo qualcosa un stampato col nome mio come abbiamo già elencato prima e prendiamo l'ascensore non ricordo che piano comunque era un piano alto non so un quinto sesto settimo non so che piano era e andiamo in questa in questa stanza 881 entriamo dentro Calvin neanche non mise cioè una valizia la portavo io perché ero senza bagaglio la più grande la portavo io quella più piccola diciamo così la riserva a lui mise giù le valise e fece un giro per questo per questo diciamo questa camera non era una camera bensì era due camere con bagno e cucina la prima cosa ho visto subito che qualcosa non gli dava bene ha cominciato a agitarsi essere nervoso dice dove siamo dove siamo finiti dico presidente io non lo so prese il telefono per chiamare Kunz però la linea a quel momento non non ce l'avevamo non ricordo bene se siamo se sono seso come è stato praticamente finalmente è arrivata questa linea dopo qualche minuto 10 15 5 non lo so esattamente non ricordo con precisione fesse il numero di Kunz e praticamente le hanno dette di tutti i colori disse guarda in che posto che mi ha messo già venendo su l'ascensore una cosa orrenda e praticamente le hanno dette un po' diciamo così si può dire tutti i colori in un certo momento mi fa si vanno dagli turi delle spiegazioni a Kunz come in che posto siamo arrivati e Kunz mi ricordo queste testuali parole che non me ne dimenticherò mai più fino a che campo dice ma è tanto male io dico no è male è malissimo dico qua siamo arrivati in un bordello di anche se non siamo racisti siamo arrivati in un bordello di neri e dico è gente che cammina su e giù disse va bene va bene adesso vedo di parlare con Flavio se riesco a trovare qualcosa di meglio questa è la telefonata che ha durato non so 5 6 7 minuti però si era concentrata esclusivamente su questo residence e Calvi che cosa che cosa le disse dice che lui adesso non ricordo se l'ha detto quel momento successivamente ma ha detto io qua come faccio ricevere queste persone così importanti qua discludere di ricevere non posso lavorare in questo modo e con riferimento alla possibilità di risolvere il problema cosa disse Calvi ma Calvi praticamente voleva andarsene quanto prima di quella residenza quella sera è impossibile partire cioè era da escludere anche perché ormai cominciava a farsi tardi tra l'aeroporto arrivati non ricordo l'ora che siamo arrivati là comunque era ancora giorno però era le prime ore verso sera e disse ormai purtroppo dobbiamo rassegnarsi questa sera dobbiamo passarla qua dico Presidente per me va bene anche qua lui a quel punto mi disse così dice Silvano tu dormi qui all'entrata che era un tipo di letto neanche un letto era più una branda che un letto e lui praticamente si è accomodato in una camera matrimoniale un letto matrimoniale molto più molto più grande della mia io avevo la televisione per me dico guardi Presidente non è che assolutamente non guasta niente ma va bene anche qua dice no ma guarda qua come è possibile che noi viviamo in un appartamento del genere fa schifo questo guardi il bagno non si può neanche entrare la cucina tutto quanto nero il cuore del caffè che è collato fuori praticamente si stava lamentando era diciamo così agitato per questa faccenda dell'appartamento disse che avrebbe risolto lui la cosa il problema dell'alloggio se l'ha solta Calvi ha detto che avrebbe provveduto lui a risolvere il problema se avesse immaginato una cosa del genere ma può darsi anche l'ha detto ma non me lo ricordo adesso con precisione guardi allora io le contesto che il 7 dicembre del 1990 a pagina 6 lei ha dichiarato ricordo che il Calvi si lamentò dicendo che se avesse previsto una cosa del genere ma può darsi anche l'ha detto ma non me lo ricordo adesso con precisione guardi allora io le contesto che il 7 dicembre del 1990 a pagina 6 lei ha dichiarato ricordo che il Calvi si lamentò dicendo che se avesse previsto che tutta l'organizzazione fatta da Carboni e Kunza avrebbe comportato una soluzione di quel genere il problema l'avrebbe risolto lui personalmente e gli mi disse espressamente che per lui non sarebbe stato difficile anche in quel momento trovare un alloggio consono alle sue necessità poiché conosceva bene Londra esattamente mi ha detto così mi era sfugita lui mi ha detto per trovare un buco cioè in parole povere per trovare un buco del genere dice non correva che interviene Kunz per trovare una cosa del genere io sono in grado di trovare molto migliore ho capito senta subito dopo la telefonata di Kunz ricorda se si è giunta un'altra telefonata e se è giunta chi chiamò questo mi sfugge questo particolare non lo ricordo se mi aiuta magari guardi lei ha dichiarato sempre il 7 dicembre del 1990 pagina 6 continuando quello che proprio in continuazione rispetto a quello che l'ho appena letto dopo che Calvi ha detto il problema l'avrebbe risolto lui personalmente egli mi disse espressamente che per lui non sarebbe stato difficile anche in quel momento trovare un alloggio consono le sue necessità perché io conoscevo bene Londra dice fu il Carboni che telefonò poco dopo sempre nella stessa giornata tra il nostro arrivo o forse qui dice l'indomani mattina a dirmi di soprassedere di non muoverci dal Chelsea a Cloyster fino al suo arrivo a DR sono sicuro che fu il Carboni a dire a Calvi di non muoversi dicendogli che sarebbe arrivato all'ombra al più presto conferma questa dichiarazione confermo non me la ricordavo però la confermo questo è vero difatti stavamo aspettando i giorni successivi stavamo aspettando Flavio volevo anche far presente questo che a pagina 29 dell'ottava giornata del processo inglese lei ha dichiarato quando parlò e viene fatta la domanda quando parlò a Carboni per comunicargli queste istruzioni non appena arrivati in camera lei ha dichiarato domanda cosa ha detto non appena arrivato in camera quindi questa telefonata è immediatamente viene fatta subito dopo ecco dopo quella di Cunzi l'ho detto che ha fatto varie telefonate però non ricordo ma sicuramente ha parlato con Carbon Carboni o ha chiamato Carboni perché nel momento che Cunzi è stato avvisato sicuramente è venuto anche sapere Carboni di questa di questo residence sì allora quindi in sostanza lei diciamo questo residence come lei lo ha definito veramente squaldido tipo topaia lo conferma è vero verissimo allora lei ha detto prima che il telefono non l'avevate potuto utilizzare appena giunti in albergo sì è così? sì e sa per quale motivo? non so mi pare adesso non voglio essere così se potrei anche sbagliarmi mi pare che non c'era fondi che si poteva adoperare questo telefono me l'avevano detto non mi ricordo sono seso giù io due volte una o due volte sono seso giù per poter attivare il telefono quindi mancava il deposito esatto penso che mancava il deposito e c'era anche mi avevano detto che c'era anche di pagare la stanza perché volevano i soldi anticipati senta io vorrei chiedere questo adesso e quella sera quella sera del 15 giugno 82 dove l'avete passata? io non credo che siamo sesi giù quella sera non ricordo adesso potrebbe essere che siamo anche sesi perché siamo arrivati da ora inglese verso le 6 le 8 adesso non ricordo esattamente però non ricordo quella sera cosa abbiamo fatto non so la memoria questo momento lucido allora io le contesti mi ricordo la memoria che in due occasioni a pagina 3 il verbale del 24 giugno 82 ora ore 0 10 lei dichiara passammo la sera a casa e poi a pagina 3 28 7 82 lei dichiara il giorno del nostro arrivo era tardo pomeriggio come ho detto siamo entrati nel residence e non siamo e non siamo più usciti quindi il 15 sera il giorno del vostro arrivo una volta giunti non vi siete più mossi penso di no non vi siete più mossi senta un po' io volevo anche dare atto di una cosa vale a dire che quella sera quando voi siete arrivati il 15 giugno risulta diciamo risultano le telefonate effettuate il 15 giugno 82 la prima telefonata viene viene marcata alle ore 20 e 30 può essere questo è certo perché si si non lo escludo io ho detto che siamo arrivati dopo questa prima telefonata e dopo la telefonata che ha ricevuto da Carboni diciamo non siete più usciti giusto? sì allora senta lei sa se Carboni volesse andare negli Stati Uniti in quei giorni ma io avevo sentito che Flavio aveva di grossi problemi con suo figlio ma non so una cosa così che mi è passata diciamo non ricordo bene sentivo che parlava che doveva andare a Bosto pari filo non so cosa aveva non conosco i particolari senta lei sa se abbia cambiato idea Carboni in quel torno di giorni in quell'arco di giorni in quel periodo lì adesso così non mi ricordo assolutamente io le ricordo in aiuto alla memoria che a pagina 33 la prescrizione della non aggiornata della seconda inchiesta la domanda ma non si trattava di un uomo ansioso di raggiungere l'America si fa riferimento a Carboni lei dice no da quanto capì aveva cambiato idea non voleva andare in America penso fosse martedì quindi in quella occasione lei ha dichiarato che Carboni aveva cambiato idea penso martedì lo conferma? penso sì se l'ho detto adesso questo qua a me è una novità però non ricordo questo particolare perché era un particolare che secondario per me non è che avevo così intuito sentito parlare con Manuela adesso non ricordo questo particolare bene non so la mente è lucida diciamo ma quando lo ha dichiarato ma quando lo ha dichiarato sicuramente ne sapevo più di adesso senta lei sa se il figlio di Carboni si trovasse già a Boston in quei giorni? questo non non posso dirlo ecco pagina 47 della trascrizione della non aggiornata lei ha dichiarato mi sembrò di capire che fosse già a Boston mi sembrò di capire ma però non ero sicuro cioè ho sentito qualcosa di Boston che doveva fare gli interventi di cosa però non è che io posso essere preciso sono queste cose qua da lei sa se Calvi abbia dissuaso Carboni da recarsi negli Stati Uniti? non lo so almeno non mi ricordo se c'è qualcosa che l'ho detto vediamo un attimo di passare a mercoledì 16 giugno giorno seguente ci vuole dire che cosa avete fatto nel corso di quella giornata? mercoledì noi siamo arrivati giorno martedì siamo arrivati mercoledì praticamente la mattina ci svegliamo noi verso le 8 così anche forse prima qualche cosetta prima e decidiamo di scendere giù a fare colazione perché per essere sinceri avevamo fame era già non abbiamo fatto nel pranzo nella cena il giorno precedente e scendiamo giù usciti fuori da resident camminando facciamo sulla sinistra due o trecento metri forse anche cinquecento non lo so c'era una tavola calda un bar e andiamo lì a fare colazione se ricammo lì a fare colazione dove ci fermiamo forse anche più di un'ora un'ora e mezza da un'ora a due ore adesso non so è con precisione il tempo ricorda qualcos'altro di quello che accade quel giorno ma quel giorno facciamo colazione poi abbiamo fatto una colazione ricca mi ricordo che aveva mangiato delle uova perché aveva anche lui aveva molta fame e usciamo fuori di là di questo tavola calda bar e passando in giù così abbiamo visto dove vendevano i giornali ci fermiamo a prendere parecchi due uno due tre non so adesso quanti giornali ha preso lui più che io ha preso di giornali e siamo ritornati camminando dalla strada interna non quella che abbiamo fatto abbiamo fatto una traversale e siamo arrivati alle residenze ecco lei ricorda se quel giorno siano stati presi gli orari dei voli nazionali e internazionali se lo ricorda da chi e che cosa le venne detto da calvi quel giorno là mi ricordo che lui ritornati a resident dovrebbe essere sempre indicativo io adesso dico le ore praticamente però potrebbe essere differente anche di un'ora o due ore siamo arrivati verso le 10 saliamo in camera e lui mi diede di soldi non mi ricordo se mi diede quei soldi quel giorno un giorno successivo e sono dato a vedere sì sono dato a vedere mi ricordo ho preso un taxi che ho chiamato abbiamo chiamato abbiamo chiamato non mi ricordo se l'ha chiamato lui o io comunque è stato chiamato un taxi per portarmi a una compagnia aerea non ricordo esattamente che compagnia era adesso sono andato a prendere delle informazioni che me le aveva chieste lui quindi è andato a prendere gli orari della British Airways nazionali e internazionali sì mi pare così qualcosa senta siete poi usciti durante il giorno quel giorno là siamo usciti era il giorno sì alla sera siamo usciti siete usciti la sera alla sera siamo usciti sì senta quando lei si è recato a prendere gli orari della British Airways sì che cosa le disse di fare Calvi non me lo ricordo questo momento non lei a pagina 3 e 4 del verbale 24 giugno 82 ore 0 10 ha dichiarato al mattino successivo mercoledì durante il giorno Calvi non uscì mai di casa mi mandò invece presso la British Airways a prendere gli orari nazionali e internazionali cioè andai in taxi con il carico di richiamarlo ogni 15-20 minuti esattamente perfetto perché ti ha detto di richiamarlo ogni 15-20 minuti non lo so il motivo non l'ho chiesto io perché devo chiamarlo una roba io nel momento ho pensato perché stiamo in attesa che arrivi i Carboni o una telefonata per spostarsi o una cosa del genere o non è che ho pensato il motivo io chiamavo e basta chiamavo chiedevo se è Novitale mi diceva no mi chiedeva sempre fra quanto tempo arrivi gli davo delle indicazioni non so fra mezz'ora un'ora via di seguito senta lei sa se abbia fatto delle telefonate caldi quel giorno ma telefonate le ha fatte sicuro a chi di quello che so io ho il ricontato diretto costante con sua figlia più di tutti e e quindi telefonò alla figlia quel mercoledì io non ho assistito la telefonata però ha telefonato sicuramente alla figlia perché me lo disse lui ecco che cosa le disse esattamente sul punto eh non me lo ricordo adesso mi ha visto che chiamò sua figlia in Svizzera che doveva farla partire per l'America roba dei generi così mi diceva guardi io voglio ricordare che il 28 7 82 pagina 5 è seguente lei ha dichiarato verso l'ora di pranzo sì e comunque dopo mezzogiorno il Calvi mi incaricò di andare a comprare qualcosa da mangiare e mi diede delle sterline quindi verso l'ora di pranzo comunque dopo mezzogiorno ritornati dopo meno di mezz'ora ed il Calvi mi disse che nel frattempo aveva telefonato alla figlia a Zurigo in Svizzera sollecitandola a raggiungere la moglie negli Stati Uniti d'America il Calvi mi disse che non trovava pace che non voleva che la figlia stesse in Svizzera e che avrebbe dovuto richiamare dopo 15 minuti per conoscere le date per per conoscere le determinazioni della figlia e sapere se effettivamente sarebbe partita per gli Stati Uniti ricordo che il Calvi aggiunse che la figlia non voleva lasciare il fidanzato e che lui aveva suggerito di portarlo con sé in America la figlia aveva risposto che sia lei che il fidanzato avevano degli esami scolastici da fare molto importanti e del Calvi aveva osservato che tutto sommato non c'erano problemi giacché entrambi a conoscenza dell'inglese ed in grado di fare gli esami in America magari anche perdendo un anno mentre Calvi mi raccontava queste cose io predisponevo la tavola per mangiare e mangiamo qualcosa per la verità prima di iniziare a mangiare il Calvi richiamò la figlia Zurigo non seguì la telefonata perché stava preparando la tavola e poi il Calvi parlava a bassa voce com'era uso fare allorché ci mettemmo a mangiare mi raccontò di aver appreso dalla figlia il fidanzato non poteva partire avendo il passaporto scaduto per cui la figlia sarebbe partita da sola per l'America successivamente mangiamo ieri quel giorno Calvi telefonò anche ad altri allora ricordo queste dichiarazioni le confermo adesso le ricordo perfettamente quindi lei ha collocato queste telefonate mercoledì 16 mercoledì sì mercoledì 16 io però le devo far rilevare che la figlia Anna Calvi le pagine 52 seguenti della trascrizione del 20 giugno 2006 ha dichiarato ha collocato meglio queste telefonate il giorno seguente cioè giovedì 17 e con riferimento proprio a queste tematiche lei facendo proprio riferimento a questa partenza e non ha affatto parlato di telefonate intervenute il 16 giugno a riguardo in particolare Anna Calvi ha detto io sentì il 17 giugno mio padre tre volte quel giorno alle 8 verso le 10 e mezza mi telefonò e gli risposi che il mio fidanzato non aveva il passaporto poi alle 12 12 e 30 diciamo tarda mattinata ecco allora perché lei ha collocato quelle telefonate che hanno lo stesso contenuto tra l'altro di cui ha parlato la figlia un giorno prima rispetto a quando si sono verificate sempre ho fatto confusione non lo sappiamo quando si sono verificate lo dice Anna Calvi sentiamo adesso lui cosa dice io adesso io posso rispondere così non posso rispondere così io le ho dette però adesso che sia stato il giorno mercoledì o giovedì o venerdì io so che è stato così però non è che stavo lì a contare i giorni o roba del genere posso avermi fatto una confusione di data nient'altro però il contenuto delle telefonate era quello che lo ho detto che era martedì o mercoledì o giovedì però il contenuto era quello io non ho individuato il giorno che me l'ha detto questo tutto qua andiamo a fare la pausa chiedo scusa signor Presidente con una domanda per completare il punto allora lei ha detto che ha ricevuto l'incarico di uscire dopo mezzogiorno e che nel frattempo aveva telefonato alla figlia Calvi questa è la sua dichiarazione che le ho contestato e che lei ha confermato in queste circostanze allora io le devo far notare che le sue dichiarazioni con riferimento al 16 giugno con riferimento a queste tematiche non sono rispondenti alla realtà perché se noi guardiamo le telefonate che sono state effettuate il 16 giugno il 16 giugno risulta una sola telefonata effettuata da Calvi fra le 8 e le 9 del mattino ed una telefonata prima delle ore 12 quel giorno non sono state fatte altre conversazioni quindi non è possibile che Calvi abbia fatto quelle telefonate il 16 giugno allora siccome lei il 28 luglio del 1982 ha collocato mostrando di avere vivacità di ricordo quelle telefonate il 16 giugno vuole spiegare perché ha detto una cosa falsa non ho detto assolutamente il falso questo è verità questo che ho detto semplicemente ho detto un giorno palai come potevo ricordare anche sempre dico che ero in stato di detenzione e praticamente non ero in stato rilassato come sono oggi che posso dare più chiarimenti comunque la data non ricordo se era mercoledì se era giovedì questo non posso essere preciso come potevo essere preciso assolutamente lui me le ha dette queste cose qua se dopo era mercoledì o giovedì io non posso avere una certezza matematica lui me le ha dette queste cose ho capito adesso che l'ho fatto presente che è impossibile che le abbia fatte quelle telefonate non le escludo che sia stato impossibile io le ho ricevute di lui questa notizia altrimenti non avrei potuto sapere tutte queste cose che è stata confermata di Anna Calvi meno come me lo fa capire lei adesso sì perché risultano le telefonate certo non tanto per seguire la parola di Anna Calvi quanto perché i giorni 17 risultano quelle telefonate sì però non è che io ha detto lei certo però signor pubblico ministero non è che io gli davo a chiedere lui cosa faceva lui faceva tutto di sua spontanea volontà se lui mi raccontava una cosa me la raccontava perché la voleva lui raccontarmela ma non è che io facevo il curioso di sentire cosa lui mi racconta cosa dei suoi affari anche perché erano le partite del campionato del mondo stavo davanti alla televisione più tranquillo anche se durante il giorno mi diceva Silvitor venga qua facciamo due chiacchiere cose del genere io le faccio anche presente che lei ha dichiarato anche che mercoledì Calvi l'ha mandata a comprare gli orari internazionali nazionali e internazionali sì c'è qualche motivo per cui lei ha associato il giorno 16 dicendo queste cose con la telefonata dicendo queste cose con le telefonate che ha fatto ad Anna Calvi con questo acquisto non ricordo posso far confusione come faccio a ricordare è impossibile va bene possiamo fermarci facciamo una pausa a benzo dentro il quartitore praticamente eravamo fermi alle 16 di giugno mercoledì 16 di giugno nel corso di quella giornata ricorda qualcosa altro cosa accadde sì il 16 di giugno mi ricordo che la sera avevamo avevamo incontrato Carboni sì ecco vuole dire dove l'avete incontrato praticamente lui ci aveva chiamato che doveva arrivare la mattina il pomeriggio adesso non posso essere preciso arrivava a Londra e successivamente ricevemmo ancora una telefonata che alloggiava al Hilton se non vado erato a un hotel comunque fiammere l'appuntamento verso le 6 adesso non so dico le 6 per dire un orario circa comunque per dire che era nel pomeriggio tardo prendiamo un taxi io e Calvi e si dirigiamo all'albergo dove alloggiava Calvi con le due sorelle io pensavo di entrare dentro però Calvi se non vado erato mi pare che nemmeno è sceso giù dal taxi sono andato dentro a chiamare Flavio e abbiamo proseguito con le due sorelle a Airpark che era a poca distanza lì scendiamo tutti tutti e quattro in ordine all'orario ci vuole può essere un po' più preciso in ordine alle modalità di fisazione di questo incontro sì era l'ora di cena ecco così non so dico 7-8 non posso essere non ricordo questo momento non posso ricordare l'orario esattamente comunque era la sera nel pomeriggio tardo ecco lei il 28 luglio 82 pagina 7 dichiarato e verso le 17-18 inglesi il Calvi considerò come mai ancora non si facesse vivo nessuno ed in particolare il Carboni circa l'orario in cui ciò avveniva posso dire questo con riferimento all'incontro l'orario di incontro che era di sera ma vi era ancora luce di urna e nel corso ecco ci vuole descrivere come si è svolto questo incontro quanto è durato che cosa è avvenuto praticamente siamo giù siamo sedi su del taxi già nel taxi ha cominciato praticamente Calvi fare delle lamentelle praticamente il punto principale allora era l'appartamento dove noi allogiavamo attualmente e se viamo verso il parco camminando tutti i quattro assieme a un certo punto anzi tutti i cinque non quattro perché era Calvi anche con noi a un certo punto io mi fermai su una panca con le due sorelle a parlare del più del meno i quali mi dicevano di dove sono arrivati il giro come è andata tutto quanto e Flavio continuava a passeggiare con Calvi per parecchio tempo penso un'ora non meno questo è quello che accade quindi siete rimasti sempre assieme sempre assieme a una distanza massima di 30-40-50 metri da grande perché loro camminavano quindi da quando vi siete incontrati in serata all'Ilton e poi diciamo durante la comune permanenza siete stati assieme insomma sempre a vista d'occhio sempre sempre quindi nessuno se ne è andato via no assolutamente tutti assieme tutti assieme sì senta durante quel giorno ecco fino a quando non chiamò Carboni per fissare l'appuntamento Calvi era uscito era rimasto in casa cosa aveva fatto no non è uscito no no non è uscito non è uscito no io sono uscito per prendere il mangiare poi volevo chiedere questo con riferimento all'alloggio ecco lei ricorda cosa abbia detto Carboni ma Carboni non sapeva nemmeno di quello che ho capito io Carboni non sapeva nemmeno dove eravamo noi non sapeva niente non sapeva lui perché di quello che ho capito questo alloggio posso anche essermi sbagliato aver capito male l'alloggio l'aveva trovato a Kunz lui non sapeva niente di questo del posto nessunissima cosa per quanto attiene all'individuazione di un nuovo alloggio disse qualcosa sì diceva che praticamente lui è venuto qua per trovargli questa questa casa come praticamente una casa abbastanza modesta di poter avere questi incontri cioè era venuto per cercare una casa modesta sì per trovare una casa decente per poter lavorare calvi per consentirgli di lavorare esattamente senta quanto tempo hanno parlato calvi e carboni se lo ricorda io dico un'ora può darsi anche un'ora e mezza con lei pagina 9 del verbale 28.7.82 ha dichiarato passò circa mezz'ora e di lui si alzarono e vennero verso di noi credo che la conversazione tra calvi e carboni sia durata non meno di mezz'ora quindi lei parla in due occasioni di mezz'ora può darsi che era anche mezz'ora adesso io dico un'ora però potrebbe essere anche mezz'ora come 40 minuti io non sono stato là a vedere il tempo a parte che mi passava il tempo molto velocemente in quanto ero quella mia moglie richiedevo informazioni come questo quella insomma le solite cose che si parla niente di quindi carboni diciamo Emanuela Kleinzi Michela Kleinzi durante questo intervallo in cui si è andati assieme non si allontanarono no no camminavano sempre la vicino di noi erano là nell'aria praticamente sempre a vista l'occhio va bene senta quel giorno calvi aveva i baffi quel 16 sì li aveva però appena appena cioè non aveva i baffi delle fotografie assolutamente aveva appena assenuati aveva già praticamente tagliati lui ecco lei quando è stato sentito lei ha parlato del fatto che aveva i baffi per esempio pagina 30 ottava giornata seconda inchiesta e anche nelle occasioni precedenti aveva parlato sempre di baffi pieni cioè non aveva parlato di questo dato non aveva dato un'indicazione ma i baffi li aveva però non pieni assolutamente non avevo dato delle indicazioni però i baffi cioè avevo un leggero filetto di baffi senta senta e poi diciamo cosa avete fatto una volta esaurito il colloquio esaurito il colloquio io pensavo nemmeno così avevo intuito che si andava a cenare questa era l'intenzione di Carboni di andare a cenare tutti assieme però questo proprio ero io là presente si aspettava andare a cenare perché era ora di cena e Calvi disse no disse a questo punto io in quell'albergo non entro perché sono mi conoscono non posso entrare in quell'albergo noi ritorniamo a residence io gli chiedo ancora una volta quindi la terza volta lei sa se Carboni e Emanuele durante quell'incontro siano tornati in albergo ma loro sono andati via a piedi io non lo so quindi alla fine dell'incontro all'infine dell'incontro sono andati via a piedi noi abbiamo preso un taxi per conto nostro lei ha sempre detto questo in effetti non si sono mai allontanati ha detto no assolutamente posso confermarlo ricordo molto bene pagina 36 ottava giornata secondo l'inchiesta inglese per esempio allora lei è in grado di dirci quando terminò l'incontro a che ore? no impossibile adesso non ricordo forse all'ora posso aver detto ma adesso non ricordo assolutamente pagina 36 ottava giornata secondo l'inchiesta inglese la domanda quindi l'incontro terminò prima delle 10 lei risponde sì dove avete dormito quella notte? a residence a residence perché avete dormito in quell'alloggio e non siete andati in un qualsiasi altro albergo della città o della periferia di Londra visto che era veramente squaldo quel posto ho parlato di topaia di posto per gente di colore gente che si muoveva andare e veniva esatto non lo so noi che decidevo potevo io decidere di cambiare all'oso o di trovare un alloso anche perché non avevo la possibilità e non conoscevo assolutamente la lingua chi poteva farlo poteva farlo solamente Caldi però Caldi non accenò minimamente di spostarsi da soli Carboni disse qualcosa con riferimento al pernottamento vostro no a me o a tutti e due ha chiesto informazioni su questo resident lui praticamente è caduto delle nuve non è meno così è stato dicendo io non so niente mi meraviglio che sia così squalido che sia un resident non una casa difatti noi siamo partiti via di Innsbruck noi eravamo sicuri il 100% di alloggiare una casa una villa o una cosa del genere una cosa molto lussuosa insomma una cosa decente ecco più che lussuosa ecco lei questa cosa che avrebbe detto Carboni la dice solo oggi non risulta nelle precedenti dichiarazioni e per di più le devo contestare che a pagina 6 del verbale 712-90 lei dice dopo l'incontro ad Hyde Park siamo rientrati nei rispettivi alberghi e non so neanche io rendermi conto sul perché anche quella notte io e il Calvi dormimmo al Chelsea a Clovis ricordo solo che secondo quanto detto da Carboni quella sarebbe stata l'ultima notte che avremmo dormito al Chelsea esatto è vero quindi le disse questo non le disse altre cose non risulta nemmeno delle altre dichiarazioni no come mai oggi questo ricordo è un ricordo che adesso sto percorrendo tutti quei giorni mi viene praticamente delle memorie che allora non so il motivo perché non l'ho mai deposto senta per quanto attiene quel che accade il giorno seguente giovedì 17 giugno 82 ci vuole dire cosa avete fatto che giorno scusi il giorno seguente cioè giovedì 17 giugno 82 giovedì 17 giovedì 17 la mattina adesso non ricordo esattamente so che Flavio insomma ci siamo sentiti anche con le ragazze non ricordo bene se io sono uscito con lui a fare colazione o se è uscito da solo questo non lo ricordo se lei mi aiuta magari potrei confermarlo il fatto è che io ho preso un tac e mi ha dato di soldi calvi perché non avevo nemmeno non avevo né biancheria né niente ormai era già ero anche stanco e stufo e non vedevo l'ora di partire dice vai con le ragazze e apprenditi qualcosa e l'unica cosa mi fa chiamami frequentemente insomma chiamami ogni tanto ecco così è stato un accordo come io feci più volte e lo chiamavo e con le ragazze mi recai all'albergo dove l'inton se non vado erato e mi aspettavano quelle due borse praticamente mi hanno detto che avevano rilassato l'albergo ed è lì sempre con il stesso taxi proseguimo al centro a comprarmi delle cosette qualche maglietta qualche cosa un spazzolino non so almeno io adesso non ricordo precisamente senta e quanto tempo è rimasto fuori quando è rientrato poi si sono rientrato so che io ho mangiato anche qualcosa fuori con le ragazze abbiamo fatto sia e preso un caffè anche mangiato qualche panino durante la mattinata tra mezzogiorno e luna così forse anche prima non ricordo gli orari ma dico indicativo mezzogiorno lei ha parlato delle 12 delle 13 ecco come un rario di rientro sì esattamente così Calvi che cosa ha fatto durante il pomeriggio durante il pomeriggio ricordo che le ragazze allora quando ritorno ritorno io alla resident volevo che le ragazze salisse con me e con Calvi però loro non volevano saperne dice no no io là dentro non entro perché hanno praticamente assistito ai discorsi che si facevano di sto qua no in quello residente noi non mettiamo piedi una cosa l'altra dato che era una cosa breve come aveva detto Carboni doveva essere cose nelle prime ore del pomeriggio dovevamo spostarsi andò in un bar dove noi alla mattina anzi io gli ho indicato il bar dove si faceva colazione però successivamente non so in che occasione sono state là non volevano praticamente che continui le consumazioni ho detto guarda non si può stare Michela parlava abbastanza bene inglese Manuela no però Michela hanno dovuto cambiare e così sono andato io che facevo la spoglia tra il residente e il bar li ho messi in un pub vicino al residente circa una cinquantina 70 metri 100 metri lo so modo li aspettavano là ho capito ecco senta lei diciamo vedo gli estremi di quella contestazione sull'orario pagina 11 verbale 28 luglio 82 dove dice successivamente saranno state le 12-3 ci abbiamo preso un taxi e ci siamo portati nei pressi del residence esatto allora le disse qualcosa a Calvi nel corso di quella giornata ma me lo disse più verso sera mi disse qualcosa ecco che cosa le ha detto ma la sera mi ha detto parecchie cose si è parlato un po' di tutto si è parlato della casa delle ragazze di Carbone che chiamava pareva che lì per lì avrebbe dovuto trovare avrebbe sistemato la questione come un alioso dopo è andato praticamente che non è riuscito fare niente un po' di tutto cioè in generale si parlava si parlava sempre ogni giorno non è che solo quel giorno si parlava quindi Calvi devo intendere che si confidava con lei beh qualcosa sì anche perché non sapeva nessuno io guardavo la televisione e diceva Silvano cosa sai sempre davanti la televisione venga qua facciamo compagnia e roba del genere io le devo contestare però che lei ha dichiarato cose completamente diverse in fase di indagine in particolare a pagina 2 del verbale del 2 giugno 1983 lei dichiara e ribadisco quanto appena dichiarato negando di aver avuto confidenza alcuna dal Calvi confidenza non so di confidenza che si parlava lei lo ha dichiarato di non aver mai avuto confidenze negando di aver avuto confidenza alcuna dal Calvi il 2 giugno dell'83 ma è vero come mai come mai invece oggi ci dice che si parlava di tutto che le ha parlato si parlava di tutto si parlava le stesse cose che si parlava tutti i giorni non è che io che se faceva Sena Muta e 24 ore sono 24 ore assolutamente no si parlava del più e del meno però lui dei suoi affari non ha fatto mai nessunissima confidenza questo è vero però tutto ciò non vuol dire che non si parlava delle ragazze o cosa ho fatto giù che maglietti ho comprato cose del genere assolutamente io ho detto che non ha fatto nessuna confidenza riguardo i lavori suoi o gli affari suoi se vogliamo meglio dire intendevo questo io Sena come mai Flavio Carboni dice invece di aver avuto da lei delle confidenze su cose personali di Calvi e sui suoi rapporti con Paul Marcinkus ma così ha detto qualcosa ha detto di Marcinkus ha detto qualche qualche battuta ha fatto però non è che lui mi ha raccontato che Marcinkus era a pranzo a cena o roba del genere guardi io faccio presente anche questo che pagina 2 il 2 giugno 83 le dice escludo tassativamente che Calvi durante il nostro breve soggiorno londinese nel giugno 82 mi abbia fatto alcun cenno in relazione ai suoi affari bancari e da questioni economiche in genere non ho mai sentito il Calvi parlare di suoi accordi economici con Marcinkus e di operazioni in genere del Banco Ambrosiano e ancora poi dice prendo atto delle dichiarazioni rese in contrario dal signor Fabio Carboni e ribadisco quanto ho appena dichiarato è vero non mi ha fatto mai nessuna non si è mai parlato di conti suoi di banca o roba del genere assolutamente non me l'ha mai detto non l'ho mai detto questo io Carboni però ha dichiarato il contrario ha detto di aver avuto delle confidenze da lei sul punto le confidenze che mi diceva non so ho conosciuto Marcinco ho conosciuto questo ho conosciuto l'altro però tutto qua non è che lui mi diceva che affari aveva con Marcinco assolutamente Carboni dice anche che lei gli ha fatto delle confidenze è che venga a dirle che confidenze l'ho fatto io non lo so se mi avrebbe fatto delle confidenze le avrei detto Guardi Carboni dice pagina 2 il confronto del 16683 confermo che appresi dal ditto che i calvi durante il soggiorno londinese ebbe a farmi delle confidenze anzi e gli accenni le sue cose personali in particolare le sue ricchezze di proprietà all'estero in Sud America e via di seguito Sì questo è vero mi ha detto che aveva delle proprietà in Sud America ma se queste sono confidenze dico sì allora sì è vero poi lei dice in questo verbale sempre confermo invece che il calvi non mi fece altri tipi di confidenze con riferimento ai suoi affari passati e presenti Carboni invece si mostra prodigo di indicazioni anche di aver ricevuto da lei comunque andiamo avanti ci vuole dire che cosa lei ha dichiarato Calvi cosa le avrebbe dichiarato Calvi nel corso di quel 17 giugno ma Calvi quel 17 giugno ricordo bene così nel pomeriggio quando io sono rientrato poi abbiamo mangiato i resti del giorno del giorno prima un pizzino di formaggio due cosette perché non voleva scendere assolutamente mangiare quel giorno non lo so il motivo però non mi è lasciato nemmeno andare a prendere delle cose o se vado errato forse ho fatto prendere un po' di qualcosa da bere o roba del genere ma non da mangiare assolutamente ricordo bene che non abbiamo l'anno più non si riesceva a mettere sotto i denti nulla neanche un panino siamo arrivati il giorno venerdì 17 no si venerdì giovedì 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 17 il pomeriggio noi stavamo aspettando sempre qualche notizia buona ha cominciato praticamente a sistemare le valise mettere via che cosa significa delle tutte le valise delle indicazioni buone si arrivava praticamente la notizia che Flavio avrebbe trovato questo appartamento questa casa questo nuovo allozzo e a che ora ve l'avrebbe detto questo grossomodo in che momento della giornata diciamo delle tre tre indicativo sempre tre quattro poteva essere gli orari così allora lui ha tirato su tutta la roba che aveva in camera perché lui quando siamo arrivati aveva messo tutte le valise le aveva aperte aveva messo fuori aveva un sacco di medicine mi ricordo su Sgabello vicino medicine camice vestiti due o tre vestiti sempre scuri ricordo molto bene qualche maglia qualcosa così l'ha disteso un po' dappertutto per tutta la camera un po' sulle sedie un po' sull'eto praticamente messe tutta la roba nelle valise e le chiuse le chiuse praticamente non sapevo se le aveva chiuse a chiavi o se erano senza chiavi questo non noi che sono stato là a guardare cosa stava facendo anzi ho visto che faceva le valise questo sì sì però la domanda era un po' diversa era tesa a sapere quello che Calvi l'avrebbe riferito quella sera almeno sulla base di quello che ci dice lei ma quella sera in particolare mi ricordo quando sono ritornato l'ultima volta delle ragazze che l'ho visto diciamo così cambiato l'ho visto nervoso più agitato le ho detto ma non è che l'ho detto anche non ricordo posso aggiungere delle cose che non ho detto assolutamente l'ho visto che era quella e è venuto fuori mi fa ho detto già sto particolare a Londra avevo già perché nessuno qua me l'ha mai chiesto no? gli ho detto mi dico ma cosa è perché è così nervoso non so e lui questo era verso sera ricordo molto bene mi dice Noè è solo però Noè che mi ha dato una spiegazione molto molto corretta molto chiara dice Noè è solo che sono stato inesonorato però ho anche si è ammazzata la mia segretaria basta quindi allora Calvide avrebbe detto che è stato esonerato e che la segretaria si è ammazzata si è ammazzata queste due cose le ha detto così me le ha detto quindi lei se lo ricorda bene questo prego se lo ricorda molto bene abbastanza sì certo lo ricordo questo me l'ha detto ho capito almeno mi pare di aver capito così dice Nobasta che sono stato esonerato ho avuto ancora la disgrazia della segretaria ho capito allora vediamo un po' quindi è stato esonerato le ha detto da cosa ah non lo so non lo sa può darsi che anche me l'ha detto può darsi che l'ho anche detto cioè Noè che quel momento là stavo tanto a a chiedere delle cose io non le chiedevo mai le cose a lui o me le raccontava io non potevo avere la confidenza di dirle chiederle delle cose mi dica questo mi dica quello se lui me le raccontava io le stavo lì a ascoltare altrimenti non mi interessava assolutamente ho capito ecco io vorrei farle presente questo che nel corso della nel corso delle sue dichiarazioni lei aveva detto innanzitutto con riferimento alla co-rocker una cosa completamente diversa da quella che ci dice oggi e che lei disse di ricordare tanto bene con tanta chiarezza perché pagina 46 l'ottava giornata del processo inglese alla domanda se Calvi se ha mai sentito Calvi fare riferimento alla morte della sua segretaria lei ha risposto no no e allora Calvi e allora ha detto va bene che lei ha tanto mentito ma ci vuole dire se Calvi gliel'ha detta o non gliel'ha detta questa cosa visto che lei fu perentorio nella circostanza nel 1983 nel dire di no che non gliel'aveva detto mentre oggi è stato così fermo e convinto di aver sentito Calvi dirla invece di aver saputo e di aver avuto la notizia e di aver avuto questa disgrazia lui me l'ha detta questa qua gliel'ha detta quindi ha mentito nel processo inglese ma io il processo di lì era anche il mio avvocato a Damiano il processo gliel'ho detta questa qua adesso non so perché non lo riporta ho capito io questa cosa qua è stata sempre detta gliel'ho detta davanti al coroner mi ricordo molto bene ho detto questa frase Vittor lei insiste nel dire questo che l'ha detta al coroner io le faccio presente che non l'ha detta ha detto il contrario la domanda ha risposto di no gliel'ho contestata si ho visto però non l'ha mai detta questa cosa capisce anzi ha detto il contrario comunque ovviamente lei può mentire vedo che si sa destreggiare bene non vedo il caso perché doveva mentire una cosa vediamo veniamo all'altro aspetto e anche qui è interessante soffermarci allora quando lei diciamo fu sentito il 17 dicembre 1985 nel corso di un confronto con Flavio Carboni allora in questa circostanza e lei dice le leggo il passo pagina 4 vi è qualche particolare del quale non ho parlato in precedenza quindi lei non aveva mai parlato in effetti almeno in questi termini poi vediamo vi è qualche particolare del quale non ho parlato in precedenza un po' perché mi è sfuggito ed un po' dei miei e un po' dei miei timori dei quali ho più volte detto giacché ora mi ritorna alla mente desidero farle presente anche per dimostrare la mia assoluta e sincera volontà di collaborare con la giustizia questo lo fa con l'autorità milanese si tratta in particolare di un aspetto riguardante l'ultima sera trascorsa da me e Calvi a Londra il 17 giugno 82 come è noto mentre il Carboni si affannava a cercare una casa per Calvi io continuavo a fare compagnia al Calvi stesso presso il Residence Cloister Chelsea di Londra facendo ogni tanto la spola con il vicino bar dove stavano ad aspettare le sorelle Clancy ad un certo punto nel corso della serata tornando nel Residence trovai Calvi molto turbato non era più il Calvi che avevo lasciato poco prima gli chiesi che cosa mai fosse successo ed egli piuttosto confuso mi disse di avere saputo che era stato esonerato poco prima dal consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano che si era riunito a Milano dalle sue cariche il Calvi concluse dicendo sono finito sono finito io cercai di rimpuorarlo ma lui continuò a mormorare tali parole né in questo verbale né in altri lei fa alcun riferimento alla notizia relativa alla morte della segretaria e in questa occasione parla dell'esonero e aver saputo dell'esonero dal consiglio di amministrazione del Banco che si era riunito in Milano dalle sue cariche esattamente quindi conferma questa dichiarazione certo che la confermo perché non dovevi confermarla sì allora io però le devo contestare che a pagina 6 nel verbale del 10 luglio 1982 alla domanda a parte quanto ha già riferito in ordine al suo soggiorno londinese con Calvi vi è ancora qualche altro elemento a riguardo che può far presente questa è la domanda e lei il 10 luglio 1982 presenti l'autorità giudiziaria milanese e anche l'autorità inglese lei dice ritengo di avere detto tutto quanto a mia conoscenza e sino a quel punto lei non aveva fatto alcun cenno a notizie sull'attività del consiglio di amministrazione della revoca dei poteri di Calvi ecco io le vorrei chiedere come mai diciamo ha avuto questo riaffiorare di ricordi successivo bene adesso sono in alto stato allora ero detenuto e praticamente ero già in sede di isolamento di parecchi mesi la mia mente il mio animo era ben differente da allora da adesso allora ero ben differente e certe cose purtroppo quel momento può sfuggire si pensa ben altre cose poi le ho contestato anche che lei aveva negato di aver avuto qualunque confidenza da Calvi beh confidenza non me le fate mai non è una confidenza questa per me non sono confidenze cose che non vedo confidenze uno quando si dice una cosa che non si deve sapere questa è una confidenza ma questa qua è una cosa una cosa penso era una cosa normalissima non è una confidenza per me dopo dipendi ognuno può decidere se è una confidenza o no sul fatto che Calvi non si era confidato non si confidava con lei lo dice anche il 13 dicembre del 2003 ha dichiarato che Calvi non si confidava in sintonia a quanto lei aveva dichiarato il 2 giugno 83 ma Calvi non mi raccontava niente dei suoi affari privati si parlava tutto il giorno però non è che mi raccontava dei suoi conti della sua banca e roba del genere assolutamente no mi diceva delle cose mi raccontava di sua figlia più di tutto parlava di sua figlia perché del suo figlio non me l'ha mai parlato di fatto io neanche non sapevo che aveva però non è che io andavo a chiedere a Calvi se aveva una figlia o due figli o tre figli quello che io praticamente apprendevo di Calvi lo diceva lui spontaneamente io non facevo mai domande e neanche non potevo farle non ero in grado di poterle fare le domande a lui perché era lui quello che decideva quello che doveva fare o cosa fare non è che io potevo dirgli cosa doveva fare lui assolutamente ero là per fare compagnia e non vedevo l'ora di tornarmene a casa ero già stanco per il mio viaggio doveva durare semplicemente mezza giornata e andato avanti una settimana lei ha detto e lo ha confermato nell'85 che aveva saputo che era stato esonerato poco prima dal Consiglio di Amministrazione del Banco Ambrogiano che si era riunito in Milano sì va bene io però devo contestarle che nel corso del processo inglese pagina 44 e pagina 50 dell'ottava giornata lei aveva dichiarato che Calvi gli aveva detto della revoca del Banco Ambrogiano e che non era sicuro se la riunione fosse già intervenuta o se dovesse ancora avere luogo questa è una cosa molto diversa ecco e allora c'è stata aveva saputo che c'era stata questa riunione o che non c'era stata lui mi ha detto che c'era stata questa riunione che è stato esonerato io dopo non lo so io non ho che ho avuto le notizie dell'Italia questa notizia mi ha data lui adesso io può darsi che l'ho messa in un modo differente di quella però il succo della notizia era che lui è stato esonerato di Presidente basta io non è che sono stato lì anche perché non mi interessava non ero il corrente di come sono oggi di sapere fare le domande come cose che lui me l'ha detta io praticamente l'ho appresa e basta è finito là non è che ho fatto commenti e neanche non ho chiesto informazioni ulteriori questa è una cosa importante secondo lei adesso sì però allora no per me era una cosa non davo non davo peso a queste cose perché era fuori del mio mondo non c'entravo niente con queste cose qua a me lui veniva esonerato che rimaneva ai fini che risultati avevo per me rimaneva le stesse cose non cambiava tanto guardi lei prima della seconda inchiesta inglese nella quale non ha mai parlato la notizia del suicidio con Rocker lei è stato sentito sul tema 16 volte 16 volte il 23 giugno 82 due volte il 24 giugno 82 il 10 il 20 il 28 luglio 82 il 22 dicembre 82 tre volte il 23 dicembre 82 il 24 dicembre 82 il 4 il 28 gennaio 83 il 2 giugno 83 e due volte il 16 il 16 giugno 83 che è prima della deposizione che lei rende a Londra come mai non l'ha dichiarato in queste occasioni sì che ne ha avute di possibilità o perché non lo so mi sarà sfuggito come che sfuggisse tantissime altre cose anche se questa è veramente una cosa forse la più importante se fosse vero in quale veste allora lei diciamo fu sentito nel processo inglese in quale veste non lo so come testimone fu sentito come testimone lei sa se Calvi dopo aver saputo notizie sull'attività del consiglio di amministrazione le abbia detto qualcosa sul nuovo alloggio sul quale si doveva trasferire dopo che mi ha detto queste cose qua ha parlato ben poco lui il dialogo che era precedentemente è finito diciamo così lui continuava a camminare avanti e indietro vestito oltre di questo stava sempre comodo stava tranquillo mai con la camicia era vestito quel vestito e continuava a camminare avanti e indietro di una stanza all'altra senta le disse che non era più necessario rivolge una domanda specifica al nuovo alloggio questo non lo so non mi ricordo adesso potrei dire sì o no ma se lei mi aiuta guardi a pagina 50 della trascrizione dell'ottava giornata del processo inglese lei dice non disse questo no non disse questo penso che sia quella volta ero sicuramente penso che sia così non è che io ho dialogato molto nel momento alla sera con lui quindi dall'83 all'85 lei recupera anche un ulteriore ricordo cioè il fatto che Calvi avrebbe detto sono finito sono finito nel corso della seconda inchiesta inglese questo lei non lo aveva riferito che cosa le ha consentito di recuperare questo ulteriore ricordo sul punto sono cose sempre che mi vengono praticamente ricordi che non avevo praticamente neanche tuttora non posso ricordarmi tuttora mi vengono praticamente in mente come riesco a ricordare così dico le cose andiamo avanti senta sempre il 17 di giugno quella sera ecco Carboni prima di di arrivare ecco ricorda se si sia messo in contatto con voi telefonicamente si lui nella giornata nel pomeriggio ha fatto adesso non ricordo da due a tre quattro telefonate ne ha fatte ecco prima di arrivare prima di arrivare ha telefonato Carboni ha anticipato la sua venuta questo non ricordo però lui stava in contatto con noi o rispondeva Calvi o rispondevo io anzi il telefono era più vicino di me che vicino di Calvi senta lei risulta aver dichiarato pagina 7 del verbale 71290 di R nel pomeriggio del 17 giugno 82 intorno alle 17 il Carboni ci telefonò parlando con me e con Calvi dicendo che aveva trovato il nuovo alloggio tanto che ricordo che Calvi preparò la sua valigia subito e si cambiò pronto per il trasferimento quindi lei colloca questa telefonata che evidentemente non è l'ultima intorno alle 17 intorno alle 17 si intorno alle 17 potrebbe essere anche le 16 ma comunque era così quindi alle 17 Carboni telefona e dice che aveva trovato l'alloggio esatto? si cioè il 17 è un'ora indicativa però non è certezza matematica che era il 17 potrebbe essere anche le 16 so che ha chiamato è vera questa telefonata è anche vero che lui ha detto che era lì per lì per trovare questo appartamento o un nuovo alloggio più che appartamento ecco diciamo l'ultima telefonata che arrivò invece quando avvenne e chi l'ha ricevuta? non ricordo penso che l'ha ricevuta io o lui adesso non riesco oppure abbiamo parlato tutti e due l'ultima l'ultima sì l'ultima è quando io sono sceso giù non ricordo quella precedente quella in cui è sceso giù quando Carboni ha anticipato la sua avvenuta sì che era quello che ha detto delle sede ore 17 no successivamente eh non ricordo allora guardi io le faccio presente sì in epoca molto vicina ai fatti dopo circa una settimana pagina 4 verbale 24 giugno 82 ore 010 e dichiara il Carboni richiamò verso le ore 19 per dire che ci avrebbe raggiunto entro 40 minuti perché era dall'altra parte della città dopo circa due ore quindi torna alle 21 invece il Carboni telefonò dalla portineria per dirci di scendere il Calvi e poi continua questa dichiarazione lei la ribadisce a pagina 33 della nona giornata della seconda inchiesta inglese la ribadisce alla lettera perché quel verbale viene letto e lei lo conferma e lo conferma tuttora quindi lo conferma quindi Carboni arriva intorno alle 21 io dico che era più tardi io ho detto 21 per dire un'ora però era già scuro praticamente stava facendo scuro io adesso non ricordo l'ora del tramonto di Londra però era così allora guardi lei pagina 7 del verbale del 712 90 è stato molto puntuale al riguardo e dice di una cosa sono certissimo anche se è passato tanto tempo e cioè che poco dopo il tramonto esatto esattamente che l'arrivo di Carboni avvenne poco dopo il tramonto intendo dire che dopo il tramonto possono essere trascorsi 10 20 30 minuti e non di più esatto va bene sì quindi questa si la confermo quello che ha dichiarato esattamente il tramonto era le 21 e 20 21 e 20 21 e 21 era così era così diciamo non oltre non oltre le 10 prima delle 10 ecco diciamo le 10 dopo poteva essere 5 minuti prima o dopo adesso noi che stavo con l'orologio non so neanche se è quello l'orologio diciamo con 30 minuti dopo le 21 e 21 arriviamo a 10 minuti alle 10 era così comunque torno a quell'ora sì senta quando arriva Calvi o meglio quando arriva Carboni alla Ol che cosa succede praticamente prendiamo sta telefonata che Carboni o era arrivato sta per arrivare adesso io penso che ha chiamato della Ol ecco diciamo questa telefonata lei dove anticipa la sua venuta lei la colloca in precedenza verso le 19 no no arriva quando è arrivato Carboni io dico Carboni è arrivato a Residence sì è arrivato a Residence esatto ricevemo una telefonata non ricordo se l'ho presa io o se l'ho presa Calvi non sono potrei averla presa anche io non lo so adesso racconti come sono andate le cose poi vediamo sì praticamente prendo questa telefonata che mi è stato detto praticamente sono qua o sto arrivando una cosa del genere adesso non io penso che ha detto sono qua ma scendete giù Calvi io dico guarda adesso non so se l'ho detto se mi ha detto lui adesso questo qua potrei dire delle cose assolutamente anche non non esattamente come sono andate dice no io a questo momento non ci penso minimamente di scendere giù per parlare con Carboni dirgli a Carboni di salire dico Presidenti siamo qua tutto il giorno che stiamo aspettando Carboni è arrivato se andiamo giù per sistemare questa cosa dice no 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 io non voglio assolutamente sendere giù di Cacarboni di salire io come sono steso giù o in contemporaneamente o era giù adesso si tratta frazione di secondo praticamente si siamo incontrati da ora io non so se lui è arrivato quel momento o se è arrivato qualche minuto prima il fatto che eravamo tutti due io se andavo giù per le scale o lui è entrato o era là questo non ricordo comunque ci siamo trovati là nel stesso momento gli ho detto lui era al corrente di tutto come stava perché gli ho detto che lui dava ceni di nervosismo una cosa all'altra dico Flavio vieni su perché lui non intende ascendere gli ho fatto presente anche nel frattempo gli ho fatto presente che le ragazze erano nelle vicinanze perché me le aveva chiesto le ragazze dove sono dico guarda sono qui di fuori in un bar nelle vicinanze e lui dice andiamo delle ragazze o abbiamo detto andiamo delle ragazze non mi ricordo io penso che è stato praticamente lì per lì insomma deciso di andare delle ragazze che erano praticamente già di ben dieci ore o via via di là che aspettavano da un bar all'altro e sul marciapiede io dico non vuoi salire su guarda che io purtroppo non riesco più tenerlo dico questo qua comincia a camminare una cosa all'altra dico vieni su tranquillizzarlo siamo andati siamo usciti fuori siamo andati delle ragazze le ragazze erano lì per andare via difatti siamo arrivati là stavamo ritornando in Austria perché avevano i bagagli appresso Flavio mi disse che non aveva mangiato niente che voleva mangiare un panino non ricordo adesso se lui mi ha detto se non ha mangiato insomma fatto che ha preso un panino e lì per lì stava per chiudere il bar ci hanno messo fuori praticamente non ci siamo seduti niente e sì siamo fermati sul marciapiede davanti a questo pub e Flavio ha cominciato a mangiare questo panino e praticamente le ragazze erano diciamo così un pochino un po' alterate in quanto erano anche stanche stufe forse anche Flavio no forse anche Flavio era stanco l'ho visto che anche lui era abbastanza giù di corda così come le ragazze e gli ho detto cosa fai dice lo chiamo io gli do io una telefonata non preoccuparti penso io di tranquillizzarlo per telefonicamente questo è il suo racconto senta un po' quindi di chi fu l'iniziativa di lasciare il Chelsea a Cloister quella sera certamente l'iniziativa era sua non mia io non potevo io non contavo niente non contavo io non è che potevo decidere di lasciarlo o di andare da una parte o dell'altra io praticamente non potevo mai farlo queste cose qua non potevo neanche non mi è mai permesso di fare io non è che potevo dire a Flavio andiamo delle ragazze andiamo di Calvi è lui che decideva cosa fare come potevo io decidere senta ma lei ha insistito con Carboni per farlo salire io gli ho detto la situazione gli ho spiegato la situazione non ho insistito niente di dare delle ragazze quanto meno di salire io gli ho detto la situazione come era attualmente guardi allora io le devo contestare il 7 dicembre del 90 pagina 7 lei dichiara spontaneamente lei che lo dice devo far presente che il Calvi poco prima dell'arrivo di Carboni mi aveva detto che ormai dato che si era fatto tardi non intendeva per quella notte trasferirsi in un altro alloggio appena incontrato Carboni nella hall dell'albergo lo invitai per l'ennesima volta a salire su per incontrare Calvi dicendogli che io non ce la facevo più a stare con lui dato che era da ore che si lamentava per il suo mancato arrivo Carboni mi rispose che quella sera non aveva voglia di parlare con Calvi ed invitandomi ad uscire dall'albergo con lui mi disse che l'avrebbe chiamato l'indomani mattina ricordo che io insistetti perché Calvi era su in camera che aspettava di incontrarlo ma il Carboni confermò che intendeva andare via e mi disse di non preoccuparmi quindi da queste dichiarazioni che sono diciamo sostanzialmente in linea con quello che lei ha sempre dichiarato sul punto l'iniziativa di andare via dal Celsia Cloister è stata una indicazione del Carboni e lei ha insistito fortemente per farlo salire certo io l'ho detto guarda che io non riesco più a tenerlo è nervoso ti stava aspettando e lui praticamente io penso adesso questo è il mio solo faccio una mia supposizione che lui praticamente non poteva presentarsi perché non aveva trovato niente sì no il punto è questo mi scusi cioè lei ha insistito o non ha insistito io gli ho detto io l'ho fatto presente non è che io l'ho insistito con la forza io l'ho fatto presente che doveva salire a tranquillizzare Calvi scusi lei però qui ha parlato a più riprese di insistenza sua ma sì ho insistito ho detto guarda devi venire su a tranquillizzarlo io non ce la faccio più a tenerlo e questo comincia nervosirsi non ti vede tutto il giorno cioè due parole le ho detto così senta ma lei ha insistito per farlo salire anche quando vi fu la telefonata che venne fatta dalla hall no non ho detto niente io cioè lui ha detto sendete giù e basta non è che si è detto sali tu salgo io sendo io niente praticamente ha detto sono qua e sendete giù però guardi sempre quel verbale pagina 7 risulta una cosa che appare diversa pagina 7 ADR ricordo perfettamente che risposi io al telefono e su insistenza di Calvi invitai il Carboni a salire nel nostro alloggio Carboni si rifiutò dicendomi invece di scendere giù non mi ricordo se mi disse di scendete oppure scendi ricordo che io insistetti ricordo ricordo che io insistetti perché così mi chiedeva Calvi ma dopo un tira e molla reciproco decigi di scendere giù io quindi anche qui lei afferma che lei ha insistito per farlo io ho detto a Flavio sto ripetendo già due o tre volte ho detto che io ho insistito a Flavio dirgli o adesso non ricordo comunque di incontrare Calvi ecco questa è la verità Senta Carboni ha dichiarato una cosa diversa ha detto che è stato lei addirittura a prenderlo sotto braccio quasi con la forza per portarlo via insomma io purtroppo a Flavio non avrei mai potuto prenderlo con la forza assolutamente anche se eravamo se godevo di una certa amicizia era io non posso assolutamente quella forza non si è fatto mai nessunissima cosa assolutamente lo scludo categoricamente non è stata quella forza è stato praticamente messo al corrente di come stavano le cose la decisione lui poteva decidere di salire o di venire io non le ho detto niente lui poteva decidere io solamente le ho detto la situazione che si svolgeva attualmente qual era delle ragazze e di Calvi lui ha preferito andare delle ragazze perché erano su marciapiede tutto là ho capito senta io le faccio presente che lei ha avuto contestate anche in fase di indagine oltre ad averle sentite qui probabilmente le dichiarazioni del suo coimputato e lei dice ADR dopo aver ricevuto lettura le dichiarazioni rese da Flavio Carboni il 21 dicembre 1989 nella parte in cui Carboni descrive il suo incontro con me nella hall del Celsia Cloister escludo in modo categorico che le cose si siano svolte in quel modo non è vero che Carboni mi incontrò nella hall in stato di agitazione perché le ragazze stavano ancora aspettando e che fui io a mettergli fretta nel raggiungere le sorelle Clarenzi perché ero preoccupato per loro effettivamente esisteva anche il problema delle ragazze ma era ben secondario rispetto a quello relativo alla necessità che io prospettai insistentemente al Carboni come ho sopradetto dell'incontro urgente con Calvi ribadisco pertanto che fu il Carboni a dirmi che non intendeva parlare con Calvi quella sera e che voleva raggiungere le ragazze al bar è quello che sto dicendo tutto il tempo senta lo le chiedo non è che avete mentito entrambi su questa circostanza che vi siete accordati per andare via e far prelevare Calvi no assolutamente lo scudo categoricamente no è vero poche interesse avevo io di fare queste cose per cosa senta un po' c'è qualcuno che dice si chiama Cecil Gerald Kummer il 31 gennaio 90 il quale dice sono quasi sicuro che gli episodi da me descritti siano avvenuti la sera da giovedì 17 giugno 82 per le seguenti ragioni 11 giugno il mio compleanno ed andando a riguardare la mia agenda di quest'anno ho potuto constatare che nei giorni di mercoledì 16 e giovedì 17 risulta la frase da me scritta drinks ricordo che quando da me detto nell'apidavit avvenne il secondo giorno in cui offrì il drinks ai miei amici quindi colloca sulla base di questo ricordo mnemonico la visione di Calvi che se ne va intorno alle 10 va bene l'orario in cui Carboni era arrivato vede Calvi andare via con due persone questa dichiarazione viene riferita anche da Joan Rodis Fux la quale dice che questa persona gli riferì la circostanza due o tre settimane dopo che era accaduta e allora io le chiedo questo è proprio sicuro che le cose quella sera andarono in quel modo o invece voi avete fatto andare via Calvi con qualcuno? No io assolutamente no non è vero non è vero vorrei comunque intervenire su queste circostanze la circostanza a cui fa riferimento il pubblico ministero di Cecil Kummer non è supportata da nessun riscontro obiettivo anche perché Cecil Kummer è morto quindi non so come si faccia ad indicare una circostanza con tale indice di certezza questo lo dirà poi lei nella sua ringa possiamo fare la sentenza adesso aspettiamo la fine poi lo dirà certo io le ho dato lettura delle dichiarazioni e intende aggiungere qualcosa su quanto ha dichiarato no sono quelle dichiarazioni io non posso aggiungere niente perché non so nemmeno chi sia questo che le ha fatte capito e anche lui questa dichiarazione lei l'ha detto l'ha letto adesso che dice sono quasi sicuro dunque no è sicuro sono quasi sicuro quasi sicuro è una cosa sicuro è un'altra questo è un detto loro non l'ha ascoltata bene la dichiarazione perché egli afferma che guardando l'agenda nei giorni di mercoledì 16 e giovedì 17 risulta la frase da me scritta drinks ricordo che quando da me detto la fidavit avvenne il secondo giorno di cui offri il drinks ai miei amici il secondo giorno è giovedì 17 non solo ma anche nella fidavita aveva scritto giovedì 17 comunque resta il fatto che lei ci ha descritto cosa è accaduto il il 15 giugno quando voi siete arrivati la sera e cosa è accaduto il 16 giugno del dell'82 e ci ha indicato e confermato anche gli orari quindi è evidente che il dato non può che essere quello comunque queste sono delle considerazioni lei ha dato la risposta alla domanda senta io vorrei chiederle una puntualizzazione ulteriore che è questa con riferimento alla telefonata che avvenne non dalla Hall ma prima quando Carboni ha annunciato di arrivare cioè la telefonata delle 19 e all'arrivo dopo un paio d'ore intorno alle 21 ecco nel corso di questa telefonata le disse qualcosa Carboni in ordine alla all'alloggio cioè le disse se aveva trovato o meno l'alloggio ma di quello che adesso ricordo di quello che me non ricordo se ricordo bene sempre purtroppo sì aveva detto che l'alloggio era quasi o stava per concludere o l'aveva trovato o individuato adesso non posso essere sicuro le parole esatte quelle che ha detto stava trovando sto alloggio ecco io le devo far rilevare tuttavia che risultano delle dichiarazioni diverse da lei rese in passato sul punto in particolare a pagina 12 del verbale del 28 luglio 82 lei dice Carboni non ha detto qual era stato l'esito della ricerca dell'alloggio e da pagina 49 della deposizione della seconda inchiesta lei dice per il momento non era riuscito a trovare un appartamento erano circa le 9 di sera sì quindi la sua indicazione è che mentre prima alle 17 nella telefonata Carboni aveva detto che aveva trovato l'alloggio che aveva individuato come le ho ricordato in precedenza che lei ha confermato in questa seconda in questa diciamo telefonata che in questa telefonata non era stato non risulta che fosse stato trovato l'alloggio posso rispondere? prego praticamente Flavio non ha mai detto ciò le chiavi si spostiamo lui sempre diceva sto individuando sto cercando ho praticamente delle buone probabilità non ha mai almeno io non mi è stato mai detto Flavio ha trovato l'alloggio stava sempre cercando era delle possibilità di avere l'alloggio però non mi ha mai detto che aveva le chiavi che si spostava senta quando voi siete lì nella hall e andate via diciamo che Carboni la porta via la decisione di Carboni secondo quello che lei ci racconta avete usato voi il telefono della hall o del foyer cioè dell'atrio della strada attesa per dire a Calvi guarda che si sta andando via ci vediamo dopo vieni anche tu no assolutamente lei però era sceso per far salire Carboni secondo quello che io sono sceso Calvi mi ha detto sendi su e salite tutti e due sopra vi aspetto qua io non sendo queste sono le parole testuali che mi ha detto Calvi lui non voleva sendere senta ci vuole spiegare perché lei andò con Carboni ed abbandonò Calvi che io poi ripeto la parola perché lei lo ha abbandonato Calvi e perché sarebbe andato con Carboni ci sono delle ragioni che l'hanno indotta a tenere questo comportamento ma io tanto è suggestiva che nel momento in cui si chiede perché ha abbandonato Calvi con un giudizio ex ante non è possibile immaginare che Calvi poi fosse sparito quindi va apposta in maniera diversa non si può parlare di abbandono di una persona dopo che il fatto è successo oggi allora se retrocediamo nel tempo dobbiamo dire perché vi siete allontanati ma non abbandonati chiediamo perché andò con Carboni a luogo beh io andò con Carboni perché era mia moglie oltre di questo avevo una bambina di un anno e mezzo e secondo non ho abbandonato Calvi mia moglie era sul marciapiede distante 2000 km 3000 km di casa sua Calvi era in un albergo in una stanza dunque non ho abbandonato nessuno io mi sono assentato un po' di tempo non ho abbandonato nessuno poi non era il motivo che io dovevo abbandonarlo era a prescindere del fatto che non è stata la mia intenzione di andare prima delle ragazze però le ragazze erano veramente in grande difficoltà senta però io devo contestare che a pagina 6 della non aggiornata lei dice alla domanda risponde io avevo fame e per questo ci è andato e varie circostanze che sono andato però non è che Calvi è stato abbandonato Calvi era in un albergo perché se io se una persona è in un albergo non è abbandonata se io mi sono assentato un po' di tempo assolutamente adesso possiamo parlare perché Calvi è sparito però se Calvi non spariva tutte queste domande non venivano fatte o se pariva in circostanze differenti questo è il fatto purtroppo io non potevo sapere che allontanandomi un'ora a mezz'ora a tre quarti d'ora Calvi spariva come potevo saperlo Calvi non è stato abbandonato in un albergo che sia stato brutto sporco o differente però era un albergo in una stanza un albergo con una protoneria con delle persone alla olle e tutto quanto senta lei ha detto che aveva fame quindi anche questa era una ragione per la quale lei andò con Carboni esatto ma non è il fatto che io è certo che era fame non si mangiava mai con lui non si poteva andare a pranzo non si poteva andare a cena non si poteva andare sicuramente avevo fame dopo una settimana che ho fatto un pranzo anzi una cena uno può avere anche fame dopo quattro giorni non si è mangiato mai niente non è stata una buona ragione che io sono andato perché avevo fame potevo stare ancora ancora una notte anche senza mangiare sono state quattro o cinque giorni potevo stare ancora un giorno non è che morivo per questo di fame ecco sono andato perché in quel momento abbiamo deciso di recuperare il ragazzo ho deciso Flavio di recuperare prima le ragazze visto che lui aveva ero in una loggia e loro erano su marciapiede in una città che nemmeno conoscevano come non la conoscevo nemmeno io ecco io le faccio presente che lei ha detto che aveva pranzato quel giovedì con le ragazze prima di rientrare ho detto e le ha detto il precedente si ho detto che ho mangiato qualcosa non ho detto che ho pranzato ho detto che ho mangiato e poi le faccio presente che a pagina 41 della scrizione 13-12-2003 lei ha dichiarato che aveva mangiato del formaggio che si era a posto si un pezzettino di formaggio ho mangiato quello che le mazzurri del giorno precedente è vero se questo qua un pezzo di formaggio che uno è a posto non so per 24 ore va bene così sì te lo dico subito alla pagina 41 l'ho detto scusi un attimo pagina 41 trascrizione 13-12-2003 allora senta con che mezzo giunse Carboni chiedo scusa prima volevo dirle questo volevo contestarla prima di andare avanti solo per questione di metodicità delle cose in ordine a questa ultima telefonata ricevuta a Residence quando Carboni annuncia il suo arrivo per sapere con chi ha parlato Carboni ecco lei dice a pagina 12 lei dice a pagina pagina 12 verbale 28 782.2 allorché ricevetti questa telefonata era sera poi pagina 7 verbale 712.90 ricordo perfettamente che risposi io al telefono poi ci sono anche altre dichiarazioni di tipo diverso e allora diciamo ritornando al punto del mezzo quindi lei ha detto con un taxi si è venuto Carboni con un taxi ecco io vi faccio presente che a pagina 78 e 80 la trascrizione 1312 2003 lei ha detto che è venuto in macchina si in macchina un taxi con la macchina con un taxi senta lei ha notato un'auto di lusso parcheggiata di fronte al Cessia Cloister davanti era sempre pieno di macchine io non so che macchina di lusso io non ho fatto nemmeno caso se era una macchina di lusso o no era pieno di macchine sempre proprio davanti all'entrata era pieno di macchine non è che era un marciapiede era sempre delle macchine un'auto di lusso in particolare la ricorda quella sera no ecco c'è il test Cecil Cumber Cecil Gerard Cumber che ha dichiarato che vi era una auto di lusso parcheggiata di fronte all'ingresso diremmo così di servizio dal quale sarebbe uscito poi Calvi presente lei non la notò questa vettura? io non ho fatto caso di macchine di lusso una media cilindrata è già una macchina di lusso giù di lì insomma non è che io notare una macchina particolare una limusine o faccio per dire limusine o via di là no assolutamente ho visto delle macchine però non ci ho fatto proprio caso di una gran macchina di lusso non ne ho visto proprio sui baffi ecco qualche domanda allora Calvi è stato trovato in piccato senza baffi no questo è un dato pacifico ecco quando è che vennero tagliati questi baffi e da chi? i baffi si erano tagliati lui personalmente lui la mattina quando io mi sono alzato la mattina del giorno giovedì 17 io lo vedi la prima volta senza baffi fu la prima volta senza baffi completamente senza baffi completamente già prima precedentemente lui si stava praticamente accorsando i baffi non aveva i baffi come si è presentato a Trieste senta io le faccio presente che nelle dichiarazioni del 23 pagina 2 verbale 23 giugno 82 pagina 24 secondo le chieste inglesi non aggiornata pagina 4 verbale 24 giugno 82 o che 0 a 10 pagina 10 verbale 28 7 82 pagina 4 verbale 28 1 93 lei non ha mai parlato di questa riduzione dei baffi che gli sarebbe stata fatta e ne parla solo il 2 giugno 1983 dove introduce questa graduale riduzione dei baffi nelle 5 occasioni precedenti non aveva mai parlato di questa cosa allora ci vuole spiegare per quale motivo e in che termini hanno influito su questa sua indicazione le diverse dichiarazioni di Carboni il quale ne aveva il quale ha dichiarato che il 16 giugno Calvi era senza baffi quando vi incontraste ad Adipark aveva una persona che gli stava vicino tutti i giorni e notava una riduzione di baffi talmente forte che aveva appena appena un filetto aveva non aveva un baffo folto come io quando lo vedi per la prima volta i baffi lui completamente si rilevò la notte tra il tra il 15 e il 16 giugno io la mattina del 16 giugno del 17 giugno mi scusi ho fatto un po' la notte tra il 15 del 16 giugno il 17 giugno si la mattina del 17 giugno lui praticamente io mi ricordo esattamente anche lui ho detto ma cosa ha fatto si è tagliato tutti i baffi si è levato via tutto lui mi ha risposto questa domanda qua nella vita mia 60 anni disse la prima volta che mi levo i baffi praticamente noi con questo Cotto voleva dire che è nato qui i baffi voleva dire che è la prima volta che si è levato i baffi ecco senta io le devo contestare anche che a pagina 129 131 trascrizione 13 12 2003 lei ha dichiarato fino al 17 fino al 17 aveva gli stessi baffi che aveva a Trieste posso avere aveva i baffi però non aveva completamente tirato via tutti i baffi questo è il fatto guarda sono sue dichiarazioni lei dice che a Trieste fino al 17 Calvi aveva gli stessi baffi che aveva a Trieste chiaro ho capito ho capito che cosa io dico io voglio dire solo precisare sono e sono certamente è data così lui la notte tra le praticamente l'ultima notte che abbiamo fatto la notte del 16 lui se le ha levati via completamente e dopo se le aveva accorciati durante il viaggio infatti le ragazze quando lui è andato al pub che loro non hanno visto si sono accorti che era senza baffi me l'ha detto ma cosa si è fatto si è levato via i baffi e me l'ha detto Michele dico sì questa notte la mattina mi sono alzato era senza baffi ecco questa anche questa cosa è nuova non l'aveva detta in precedenza va bene chissà quante cose non ho detto però questa questa è ma sul discorso dei baffi che è un discorso importante il pubblico ministero lo sa e ci infatti sta facendo qualche domanda quando nasce la contestazione secondo quelle che sono le regole deontologiche il pubblico ministero ha diritto di fare la contestazione e contesta quella circostanza ma è pacifico che successivamente il Vittor abbia chiarito questa situazione dei baffi quindi fatta la contestazione è inutile procedere con altre mille contestazioni su quel punto lui ha detto tantissime volte successivamente che il giorno prima i baffi erano diventati un filo il giorno dopo la mattina del 17 se li è tagliati completamente però in precedenza aveva detto una cosa diversa in precedenza sì per cinque volte questo vuole far notare far notare già insomma quindi c'è un altro punto avvocato se mi lascia andrò avanti dovrei cercare di finire ma così ecco allora il punto è questo e adesso le devo chiedere lei sa se il pomeriggio del 17 giugno Calvi sia uscito dalla stanza da solo sì per andare dove infatti volevo andare io dice no no voglio andare io voglio andare io delle ragazze a parlare con loro è dato io neanche non ricordavo questo fatto dopo piano piano facendo mente locale mi sono ricordato che lui mi aveva chiesto che voleva andare lui tranquillizzare ecco tra virgolette lui sapeva dov'era perché conosceva bene noi passevamo davanti questo dove erano loro tutti i giorni tutti i giorni quei due giorni che siamo stati là senta io le devo contestare invece che lei ha dichiarato delle cose diverse intanto ne facciamo una a pagina 13 del verbale del 28 782 lei ha dichiarato quel pomeriggio una volta se ben ricordo il Calvi mi lasciò una volta su nel residence e mi disse che lui scendeva giù nella hall per quanto potei capire il Calvi mancò 10-15 minuti o qualcosa del genere sì esattamente è andato giù nella hall è andato anche a delle ragazze ma lei questo non lo ha dichiarato vedremo altre dichiarazioni dove dice che non è mai uscito quel pomeriggio va bene ho detto che avevo ero praticamente in stato di confusione non potevo ricordarmi tutto anche perché ero depresso ero avvelito ero distrutto ero praticamente certe cose mi sfuggiva di mano non riescivo tenere sotto controllo totale la situazione non è che lo facevo oppositamente di non dirlo perché è assolutamente anzi di contrario senta io le faccio presente che il test Frank Kingsley Upcock che lavorava al bar diciamo gestiva il bar ecco ha dichiarato di avere visto al bar per circa un'ora arrivato verso le 19 19 e 30 Calvi e che nella circostanza aveva i baffi il giorno 17 il giorno 17 parliamo ecco lui fornisce delle indicazioni che inducono a ritenere che sia avvenuto quel giorno in ogni caso lei ci ha detto che il 16 Calvi non è mai uscito da solo nel pomeriggio il 15 ci ha detto che non è mai uscito guarda caso un testimone al bar lo vede e lo vede con full mustache cioè con i baffi pieni cioè proprio come veniva riportato dalle foto che sono state diffuse il test Smith ci ha detto che ci sono state due fotografie pubblicate sui giornali e in entrambe le fotografie Calvi veniva ripreso con i baffi interi quindi questo test ci dice che lo vede lo vede con i baffi lo vede con i baffi nel bar del resident giusto? esatto sì io le scudo categoricamente che non poteva si è confuso con qualche altra persona perché lui è stato giù 15 minuti e non ora e non era le 17 penso che era molto prima era le 19 il bar apriva le 18 e quindi lo ha visto successivamente questo lo ha dichiarato in varie occasioni 30 giugno 92 poi il 5 aprile 2005 mi pare che abbia dichiarato che sia anche intrattenuto al bar Calvi sì sì c'è la dichiarazione comunque ce l'ho fatta presente andiamo andiamo avanti non solo ma anche Kumber quella sera quando vede Calvi uscire ha ancora i baffi e io le dico quindi come vede sono diverse le fonti che inducono a dubitare di quello che lei dice lei come risponde sul punto? io rispondo che non so nessuna cioè nessun interesse di dire se avevi baffi dicevo avevi baffi non li aveva dico non li aveva e l'hanno detto anche le ragazze mi hanno detto abbiamo fatto questo ricordo allora perché adesso purtroppo in seguito a questo ho perso mia figlia e anche la Michela in seguito a queste cose mi hanno detto che era arrivato senza baffi poi non vedo il motivo se avevi baffi le avrei detto che avevi baffi perché dovrei dire che non avevi baffi non li aveva assolutamente non li aveva se i testi li hanno visti hanno fatto confusione con qualche altra persona salvo verifica comunque le dichiarazioni rese da entrambe le sorelle Kleinzi non risulta che le stesse abbiano detto che Calvi non aveva i baffi non lo so io questo qua io so mi ha detto adesso non ricordo bene perché purtroppo i rapporti sono andati in seguito a Calvi si sono rotti con l'Austria sono parecchi anni che io non posso neanche telefonare ultimamente hanno cambiato solo che ho fatto una telefonata hanno cambiato tutti i numeri non so più come ritracciare neanche mia figlia senta quanto tempo vi siete trattenuti in questo bar dove siete andati con Flavio quando abbiamo in bar pochissimo so 10 minuti 15 minuti il tempo di ordinare un panino e il tempo di prepararlo ecco poi avevano una gran fretta perché il bar era in chiusura senta io le faccio presente lei ha dichiarato nella pagina 5 del verbale 1782 una cosa che appare diversa cioè come ho già riferito nei precedenti interrogatori che mi intrattenni circa mezz'ora con il Carboni in un bar in cui si trovavano già le due sorelle autriache quindi in quella occasione ha dichiarato che insomma il tempo era un po' più consistente ma sicuramente era stato più consistente perché siamo arrivati là noi che lui come siamo arrivati ha prima ordinato il panino e poi dato a parlare con le ragazze e poi ha ordinato il panino il tempo di fare questo panino prendere il panino abbiamo io non ricordo se ho preso non so qualcosa da bere non ricordo bene erano sedute là il tempo di pagare il conto e uscire adesso non so quanto tempo potrebbe essere 10-15-20 minuti può darsi anche mezz'ora quella volta ho detto mezz'ora possibilmente penso che è stato 20 minuti mezz'ora ecco senta lei sa dire a che ora siete usciti dal bar no impossibile senta io le faccio presente che all'epoca era esistente una licensing act cioè una una normativa una normativa che prevedeva l'obbligo della chiusura dei bar entro le ore 23 appena il pagamento di una sanzione pecuniaria di una fine e il sequestro del locale questo questo diciamo l'aiuta per collocare del tempo l'orario in cui siete usciti dal bar ma il bar praticamente l'ho detto sempre l'ho detto noi che lo dico oggi l'ho detto quando avevo la memoria più il bar stava in chiusura il bar si hanno messo fuori ricordo che Flavio ho uscito quel panino in mano infatti si è anche un po' incavolato dice guarda qua mi hanno dato un panino e mi hanno messo fuori e dunque se era stato più su per giù se era verso le 11 però lo dico adesso perché lei mi fa presente però io non sapevo che era le 11 ero in chiusura del bar dopo se è stato approfondito la chiusura del bar che veniva fatta alle 11 se era veramente giù di lì era verso le 11 senta un po' vediamo su quello che ha mangiato o non ha mangiato Carboni ecco Carboni che cosa ha ordinato e sa se avesse già mangiato in precedenza io non ho chiesto queste cose lui è ordinato lui è nato dentro ho parlato con le ragazze e siamo andati il banco eravamo il banco là vicino delle vicinanze e ha chiesto un panino ma l'ha mangiato questo panino o no? ma io penso che non so perché quando quando si hanno messo fuori era un po' incavolato non so ho visto che dava di morsi però adesso non è stato là a vedere parlavo con Michele che era un po' incavolata non è che ho visto se l'ha finito tutto o no senta io le faccio presente che a pagina 41 della trascrizione 13 dicembre 2003 era dichiarato io quando siamo andati là io dico guarda che noi due abbiamo già mangiato un pezzettino di formaggio io sono a posto infatti io non ho preso niente e lui che ha preso un panino e che dopo praticamente non ha neanche mangiato non so forse dice no devo mangiare non ho cenato dopo in ultimo appariva che io di quello che ho sentito aveva già cenato prima quindi lei apprende che Carboni già aveva cenato quella sera lui mi pare che aveva detto che aveva già mangiato qualcosa non sono sicuro adesso ce le dico queste cose così però non ricordo questi particolari so che ha preso il panino questo me lo ricordo perfettamente ricordo che ci hanno messo fuori che aveva venuto fuori praticamente quel panino in mano dice neanche un panino si può mangiare in pace e roba del genere veramente lei non aveva detto che aveva portato fuori il panino dice che l'aveva lasciato va bene io adesso andiamo avanti una volta usciti dal bar che cosa avete fatto? Flavio praticamente cercava un cercava un taxi parecarsi al nuovo aloso che adesso io non ricordo neanche mi ha detto che aveva un numero che doveva spostarsi dell'albergo che gli aveva indicato non so che albergo però ancora tuttora non conosco la destinazione dove è andato Flavio come mai non siete andati al Cessi Cloister a parlare con Calvi? perché lui ha detto che voleva parlare per telefono non voleva incontrarlo nel corso del quanto tempo siete rimasti dopo essere usciti dal bar quanto tempo siete stati assieme quanto avete passeggiato che cosa avete fatto? noi praticamente siamo andati su una via di scorrimento che diciamo non è della parte del del residence ma è tutta la parte opposta è una via di scorrimento dove oramai era dato l'ora che si è fatto tardi davanti il resident si doveva chiamare un taxi per poterlo prendere penso o cosa del genere noi siamo andati a prendere il taxi anzi Flavio e tutti quanti tutti i quattro ci avviamo diciamo così all'opposto del residence a prendere il taxi lei ricorda se vi siete fermati vi siete seduti su una panchina a leggere un giornale no non si siamo fermati su una panchina nessunissima parte dove stavamo aspettando il taxi Flavio ha tirato fuori un giornale dicendo guarda qua siamo a posto guarda qua si parlano sui giornali siamo sui giornali ormai siamo così diciamo non so rovinati ecco adesso questa parola forse la dico io lui l'ha detto in differente modo senta com'era Carboni quella sera in particolare quando siete usciti dal bar Carboni era vederlo così che io lo conoscevo molto bene era stanco era demoralizzato senta peccato che lei quando è stato sentito ha dichiarato pagina 260 la trascrizione 13 dicembre 2003 che era molto euforico uforico mi pare una cosa molto diversa tra il fatto di essere stanco e di essere molto euforici o no? si lui era molto uforico quando sono venuti due inglesi che ha cominciato praticamente a scherzare con quelle ragazze prenderle per mano tirarle avanti e indietro e là praticamente si era di altro umore si si era molto fa 260 guarda lei ha dichiarato esattamente lui rideva ballava in strada con il giornale e questa è la verità e lo può confermare le due ragazze noi ci siamo fermati la sera della sparizione con il giornale che diceva guarda qua cosa mi scrive di me questo questo e faceva il balletto ma è la verità e poi più sotto quindi era particolarmente euforico Carboni in questo molto e anche qualcosa di diverso rispetto a quello che ci dice oggi un Carboni che danza è un Carboni euforico praticamente che faceva il balletto altro che rovinati il balletto non lo faceva Carboni ma lo faceva i due inglesi ubriachi Carboni non faceva il balletto nemmeno quando andavamo in discoteca non ha fatto mai un ballo non lo ha fatto stava sempre seduto là guardi che ripeto che sono le sue parole non è una sintesi ho fatto confusione però questo questo e faceva il balletto ma è la verità è una trascrizione comunque magari sono le sue parole ovviamente lei può dire ciò che vuole insomma non è questo che io volevo dire perché Flavio nemmeno noi purtroppo i bei tempi si andava in discoteca però Flavio non ha fatto mai nessun balletto si immaginiamo se Flavio si mette a ballare a Londra in mezzo della strada mi pare un po' alle 11 di sera mi pare un po' fuori modo assolutamente no cioè è stata l'interpretazione ho detto io mi sono espresso male comunque non è così la cosa che era eforico quando sono comunque a questo proposito riguardo al balletto qui c'è anche un errore di trascrizione perché si parla di ha cominciato a ballare con le ragazze in realtà e hanno cominciato a ballare con le ragazze quindi è eforico lo dice il pubblico ministero e Vittor dice molto puntini puntini molto che non si sa io glielo ripeto anche perché voglio dire questo comportamento dei balletti lo incontreremo anche successivamente non è un fatto nuovo anche in un momento successivo leggo testualmente in modo che sia chiaro indagato no dice dice no non preoccuparti di qua non preoccuparti per lui era tutto cioè uno che è morto per lui non era nessun problema ah ecco dice il PM c'è un ufficiale IPG che interviene dice era molto tranquillo lui Vittor dice lui ah lui rideva ballava in strada con il giornale cioè Carboni rideva ballava in strada con il giornale e questa è la verità lo può confermare le due ragazze noi ci siamo fermati la sera della sparizione con il giornale che diceva guarda qua cosa mi scrive di me questo questo e faceva il balletto ma è la verità quando l'hanno messo sul giornale mi pare è arrivato anche due inglesi non so ubriachi e via di seguito poi hanno cominciato a ballare andiamo avanti quando hanno messo il giornale mi pare è arrivato anche due inglesi non so ubriachi ha cominciato a ballare con le ragazze due ragazzi che avrà avuto forse vent'anni ma questo quando a Londra lei dice a Londra il giorno della sparizione di Calvi PM quindi era particolarmente euforico Carboni questo Vittor molto cioè IPG molto puntini puntini esatto e poi dice un'altra cosa e anche a Zulig era tranquillo cioè non si comprende bene in questa trascrizione se era tranquillo o era euforico però parla del ballo prima di parlare dell'arrivo degli ubriachi quindi non c'è possibilità di equivoco con gli ubriachi insomma contrariamente a quanto avete sostenuto voi è stato un ballo generale poi se sia vero o meno ce lo deve dire lui però non è interpretabile in modo diverso la trascrizione no c'è un errore di trascrizione sui verbi sui soggetti che non si accordano sì ma quando ha parlato di balletto che era prima dell'arrivo degli ubriachi quindi non poteva essere plurale ma era giustamente singolare allora ho visto allora io volevo se mi permette volevo precisare noi che Flavio praticamente è stato praticamente qui due ragazzi io forse ho spiegato male forse ero in condizioni come sto dicendo sempre noi che Flavio è arrivato là sull'angolo a aspettare il taxi tirato fuori giornale e comincia a ballare sarebbe una roba insomma una logica che non scuole assolutamente e i due ragazzi che volevano ballare quelle ragazze tutto qua ma noi che Flavio si è messo a ballare Flavio aveva il giornale in maglio e mi diceva guarda qua guarda qua ma noi che io indicavo Flavio ballerino alle 11 di sera a Londra questo qua assolutamente no ecco questo voglio precisare praticamente Flavio Flavio non ballava neanche in discoteca figuriamoci se ballava se ballava a Londra su un angolo dove si stava aspettando un taxi una cosa proprio fuori dei di ogni logica il nastro della della trascrizione è difficile da rintracciare si può si può sicuramente ascoltare penso che si possa tentare se abbiamo il dubbio cioè il dubbio lasciano gli avvocati non lo so poi voglio dire se sia vero o meno ripeto non è lui che ce lo può dire però il problema presidente per chiarezza spesso il signor Vittor non accorda il soggetto col verbo ecco questo e allora è probabile che in questo contesto un po' sgrammaticato la trascrizione che deve essere fedele è stata fatta in questo modo però si può se vogliamo sentire il nastro sentiamolo però ci sono tutti i verbali trascritti ci sono di queste forme un po' sgrammaticate ecco è una cosa la forma sgrammaticata è una cosa il contenuto del ma il pubblico ministero lo sa questo insomma in realtà avvocato io sono pronto a procedere nei confronti del perito del consulente tecnonominato se lei dice che c'è un falso lo fa presente io immediatamente procedo evitiamo queste inutili polemiche non ha parlato di falso sta cercando presidente chiedo scusa io ho letto testualmente poi se vuole essere messo in discussione lo facciano nelle sedi opportune mi permetto di dire dottor Tescaroli io non voglio dire che facciamo altre domande poi se il pubblico ministero è in grado di trovarci il nastro lo metto certamente a disposizione delle parti ci vuole un attimo a sentirlo sappiamo il punto più o meno allora senta ci vuole dire com'era Calvi quella sera quel giovedì quel giovedì 17 alla sera? sì ho già detto che era era arrabbiato già tutto il giorno pariato dell'appartamento quella sera era agitato e nervoso anche lo dimostra che non ha voluto sender giù per incontrare carbone ecco senta io le dico però vedi devo contestare a pagina 90 91 trascrizione 13 12 2003 dice che era agitato era nervoso non so per quale motivo esatto quindi del motivo non lo sa se non era il motivo che è stato esonerato posso supporlo però non è che mi ha detto sono nervoso sono cioè non è che lui il pomeriggio non è che lui ha parlato quel giorno tanto con me non è che dialogava tanto era fatto le valise camminava avanti indietro stava sempre investito come che dovrebbe non so nemmeno io adesso io non voglio aggiungere delle cose che non posso posso solo pure immaginazione non è che lui mi raccontava non è che lui mi dava le spiegazioni di cosa doveva fare o cosa pensava lui parlava in generale di tutto quanto mi parlava della figlia della moglie dell'America di qua del Nicaragua però parlava in generico non è che mi raccontava esattamente come mi disse devo incontrare due persone molto importanti però non mi ha detto devo incontrare Tizio o Caio mi diceva devo incontrare due persone molto importanti che non posso incontrarle qua fine non è che potevo approfondire il discorso anche perché non avevo la confidenza che era così passati trascorsi appena qualche giorno di poter entrare dentro cioè farmi dire delle cose penso che lui assolutamente non mi avrebbe anche se io chiedevo sono sicuro che era un tipo molto così riservato non mi avrebbe mai detto senta io le faccio presente che il test che avevo ricordato in precedenza Frank Kingsley Atcock il 4 aprile 2005 pagina 2 ha dichiarato quindi in orario lo abbiamo visto intorno alle 19 19.30 20 ha dichiarato Calvi mi apparde rilassato non impaurito e non preoccupato era molto calmo quindi è una cosa completamente diversa allora vuol dire che era tutta un'altra persona perché se dice che aveva i baffi che era calmo vuol dire che non era Calvi perché Calvi mi permette un momento Calvi non poteva essere calmo e tranquillo dopo due zone che eravamo lì che non si trovava la casa che era esonerato e che era un uomo tranquillo impensabile vuol dire che ha sbagliato persona scusi lei sapeva l'importanza ad Adcock no le ripeto se lei deve fare delle opposizioni bene altrimenti non può intervenire continuamente per dire delle sue idee che non ci interessano lei può intervenire solo per opporsi alla domanda del pubblico ministero poi tutte le sue considerazioni le farà nel momento in cui farà la sua allora io mi oppongo a questa domanda si oppone a che cosa mi oppongo alla domanda perché Adcock non lo possiamo sentire e questa è la verità l'opposizione respinta andiamo avanti allora senta lei ricorda se Carboni avesse con sé ecco no le stavo formulando una domanda cioè lei sapeva che Calvi era così preoccupato lei ha detto che aveva saputo che era stato esonerato quindi in condizioni per non essere assolutamente tranquillo e lei con Carboni lo lasciate lì al ristorante all'albero scusa certamente non poteva essere calmo Calvi solo di pensare era già praticamente fuori bondo la prima notte dopo due notte che eravamo là o tre giorni non poteva essere calmo Calvi e la decisione di andare delle ragazze è stata presa così lì per lì al momento e adesso è venuto fuori perché Calvi è sparito altrimenti tutte queste cose qua tutte queste domande se Calvi rimaneva in camera spariva dopo due giorni non sarebbe praticamente posto nessuno Calvi era nervoso è normale che era nervoso era nervoso solo per il posto dove abitavamo noi dove doveva dormire e se questa persona qua dice che era tranquillo che aveva i baffi vuol dire che non era Calvi perché provi a pensare qualsiasi persona di noi senza l'importanza di Calvi era in quelle condizioni di un resito in quegli anni non poteva essere tranquillo dunque non lo so non voglio raggiungere altre cose lei ricorda se Carboni avesse con sé prima di andarsene di prendere il taxi l'indirizzo dell'albergo dove andava non so se aveva l'indirizzo o un numero di telefono comunque aveva qualcosa me lo va anche a tirare fuori un pezzettino di carta e dice ecco vado qua però non è che io ho potuto non so vedere il numero la direzione non lo sapevo perché altrimenti lo avrei chiamato ecco dopo essere usciti dal bar quanto tempo avete passeggiato quanto tempo siete stati assieme dal bar al momento che che Carboni prese il taxi sì un'altra mezz'ora forse anche qualcosa di meno circa siamo là insomma non so adesso non ecco guardi io le faccio presente che il 27.11.97 lei ha dichiarato pagina 41.42 poi si è messo a leggere un giornale che era un articolo su Calvi su una piazzetta esatto un angolo di una casa io penso tutto insieme un 40 minuti è quello che sto dicendo può darsi mezz'ora può darsi un'ora esatto è quello che sto dicendo adesso e Carboni era stanco è vero ha detto bene Carboni dava le sensazioni così io che lo conoscevo quella dava le sensazioni di essere stanco capito però l'uno è che mi ha detto che è stanco e roba del genere aggiungo io questo io ho la sensazione che vedevo una persona stanca però non era tutto ciò non poteva camminare senta vediamo un po' all'utilizzo delle chiavi da Chelsea Cloister chi è che teneva le chiavi della stanza 881 dove voi avete alloggiato le chiavi quando eravamo in camera erano messe vicino su un comodo adesso non ricordo bene esattamente erano là a portata di mano e quando si scendeva quelle poche volte che si è sesso giù chi andava giù prendeva le chiavi sì e quando uscivate chi è che le aveva io le chiavi non ricordo perché io quando sono sesso giù quella mattina con le ragazze le teneva a lui perché io ricordo che bussavo ogni volta la porta per entrare non le portavo mai penso che le aveva prese lui penso ma non potrei averle anche io ma sicuramente le aveva lui sicuramente le aveva lui però non posso essere sicuro ecco lei ha dichiarato pagina 4 al verbale 712 90 quando siamo usciti insieme ero io che tenevo l'unica chiave della stanza numero 881 che la reception ci aveva messo a disposizione quando uscivo da solo non prendevo la chiave e per farmi aprire da Calvi che cosa faceva? dovevo bussare è vero adesso mi ricordo esattamente quando siamo usciti un'unica volta che siamo usciti assieme o due volte le chiavi penso che le tenevo io lui adesso non ricordo esattamente però ricordo molto bene le volte che sono sesso a prendere il manzare che sono uscito con le ragazze dovevo lui mi ha detto quando vieni bussa e mi chiedeva chi è io dissevo Silvano anzi dissevo Vittor e mi apriva la porta perché lui mi conosceva come Vittor ecco c'erano dei segni convenzionali che dovevo utilizzare ma io gli davo tre colpetti così sulla porta gli facevo senta lei sa se delle persone durante la vostra permanenza abbiano bussato alla porta del vostro appartamento tranne la cameriera no veniva la mattina di fatti lui non voleva nemmeno che entrasse dentro gli passavo fuori qualche mondizia qualche pezzo di carta così arrotolata dentro però nemmeno le faceva entrare ecco oltre alla cameriera diciamo lei quindi la cameriera non le faceva entrare no quando eravamo noi no no mi pare di no adesso non lo ricordo posso essere sicuro se entrava dentro un pezzettino però lui era nella camera diciamo così più nascosta senta lei ha dichiarato pagina 82 trascrizione 27.11.97 e oltre alla cameriera che bussava e dopo bussavano qualche altra qualche altra persona ecco io volevo sapere chi altri aveva bussato e quando ma questo qua penso che ha bussato adesso non ricordo vagamente questa cosa ha bussato qualcuno non ricordo bene la mattina della gente che camminava perché era pieno di stanze ha tantissima gente questo resident penso che ha bussato qualcuno però non lo ricordo adesso non potrei dire come è stata questa circostanza senta e il giovedì pomeriggio qualcuno ha bussato giovedì sera giovedì intorno alle 19 giovedì 17 no no che mi ricordo no non credo senta lei aveva comunicato a qualcuno che per entrare nella stanza di Calvi vi era questo segno convenzionale di bussare tre volte no non ho parlato con nessuno anche perché non ho visto nessuno io tranne le ragazze quelli a mezz'ora tre quarti d'ora non ho visto nessuno lei lo ha detto a Carboni non credo glielo ho detto lei ha detto può darsi a pagina 120 si però non lo escludo che posso anche averlo detto se lui mi ha chiesto qualcosa ma può darsi ecco quando è uscito il 17 sera giovedì lei ha portato con sé le chiavi no no allora se lei non ha portato con sé le chiavi come spira che sul corpo di Calvi non sono state trovate le chiavi l'appartamento del Chelsea Cloyster come faccio a saperlo sentate non sarà respirazione a questo fatto Calvi usciva senza di lei se Calvi usciva si Calvi è uscito senza di lei una volta sola che ricordo non so se è uscito la mattina quando io mi sono assentato per i 4-5 ore con le ragazze questo so che è uscito fuori quella mattina a far colazione ho capito io le dicevo questo poi ci ritorniamo con calma a pagina 119 della trascrizione 13-2004 lei dichiara Calvi non usciva se non in compagnia sua perché aveva paura si io ho detto non so se lui è uscito è uscito un po' merito anzi dopo ho saputo che è uscito lui mi ha detto che andava giù agli aresepsi però lui non gradiva di uscire fuori da solo infatti non voleva neanche andare al ristorante allora ammesso che Calvi sia effettivamente uscito il 17 da solo sicuramente la mattina è uscito a far colazione questo sono sicuro il 100% allora Calvi aveva paura Calvi era utilizzava questi accorgimenti per far entrare delle persone nella stanza e come spiega il fatto che Calvi sia uscito il 17 sera questo non lo so però io so che quando siamo arrivati all'aeroporto quando siamo arrivati a Londra era una macchina mandata di Kunsa a prelevarci e lui non voleva nemmeno aspettare qualche minuto aveva dovuto pagare due taxi anche uno si è venuto senza di noi perché non voleva aspettare dice non posso non posso farmi vedere sono molti colleghi di lavoro banchieri che prendono l'aereo non posso farmi vedere da nessuno non voleva farsi lui non voleva farsi riconoscere praticamente aveva paura che qualcuno lo riconosca non so i motivi adesso io ignoravo allora tutta questa tragedia senta una volta che lei è rientrato alla residence dopo aver lasciato Carboni e le due Clancy che cosa fece? io arrivai al residence presi l'ascensore salì sopra bussò la porta il solito segnale però sentivo la televisione aperta sentivo confusione della televisione però non ricevete nessuna nessuna risposta nel frattempo che praticamente ho perso un po' di tempo perché pensavo che è stato il bagno pensavo che non senti perché la camera un po' distanza non era che la distanza era sempre lo stesso appartamento ho detto non so sta facendo qualcosa si è buttato in letto ho cominciato a bussare più forte ho sentito squilare il telefono ho sentito però io non potevo entrare poi lei è entrato nella stanza e sei entrato con quali modalità? poi io sono sesso giù ho guardato al ristorante ho detto forse questo qua visto che abbiamo perso un po' di tempo ho sesso giù a cercarsi e roba del genere però io sono andato ho guardato praticamente l'intorno se riuscivo a rintracciarlo sono un'altra volta salito sopra ho fatto la stessa operazione della prima bussando la porta abbastanza forte non ho avuto risposta sono sesso giù sia la prima volta sia la seconda facendomi chiamare la stanza però l'esito era negativo nessuno mi ha risposto a quel punto ho cercato di mettermi in contatto con qualcuno che parlava italiano perché non riescivo a comunicare non riescivano a capirmi quello che io volevo finalmente è arrivata una persona il quale gli ho detto come stava la cosa e questi qua non voleva sapermi di darmi la chiave né di aprirmi la porta abbiamo perso un po' di tempo finalmente siamo arrivati in camera mi hanno aperto la porta però dice se adesso vuoi stare qua devi darmi un documento altrimenti io non posso lasciarti qua su e io ricordo che avevo l'unico documento avevo la carta d'identità gli ho dato la carta d'identità e rimanevo io rimanevo lì senta lei diciamo per avere la chiave non bastava che mostrassi i documenti io ero là per questo ma non volevano sapere non volevano darmi la chiave non le volevano dare la chiave senta però le cose infatti il caso vuole che praticamente sono loro venuti su aprirmi la porta io ho chiesto le chiave loro non volevano assolutamente darmi sono loro venuti ad aprirmi la porta io gli ho detto non posso entrare questo qua io ho praticamente venuto adesso non ricordo esattamente se era un uomo o una donna questo non lo ricordo mi pare che era un uomo non mi ricordo chi era una donna e che parlava italiano mi è venuto ad aprire la porta dopo vari tentativi allora il punto è questo che per entrare lei diciamo le erano state chiesti i documenti no? sì e lei ha detto che questi documenti non ce li aveva e che ce li aveva in camera può darsi che li aveva in camera non escludo questo allora quando lei si è fatto accompagnare e si è fatto aprire da un uomo sì lei ha cosa ha fatto i documenti li ha mostrati certo se non li mostravi i documenti non mi lasciavano non volevano lasciarmi non potevo stare lì senta a lei furono chiesti i documenti no? lei ha detto che non li poteva mostrare perché ce li aveva in camera mi sono stati chiesti i documenti però non so se mi sono stati i documenti chiesti al momento della OIL oppure se mi è stato adesso non ricordo bene questo particolare o se mi è stato chiesti i documenti una volta aperta la camera per poter rimanere in camera non ricordo questo fatto perché lei diciamo ha dichiarato di non aver potuto aprire la porta alla camera in quanto il suo inquilino non rispondeva alle chiamate perché era sprovvisto delle chiavi ora per avere le chiavi lei dalla recezione avrebbe dovuto esibire i documenti no? lei ha detto che i documenti non ce li aveva e che ce li aveva in camera esatto probabilmente è stato così allora io le chiedo come mai allora quando l'è stato aperto lei ha mostrato i documenti? dopo gli ho mostrato i documenti dopo successivamente dove ce li aveva questi documenti a dove li ha presi? li ho presi in tasca in un paio di pantalioni quelli che portava addosso? adesso non ricordo precisamente se era quelli o quelli che erano posati sulla sedia perché vede il punto è questo che il test Anthony Sorrai Fernando colui che le ha aperto il portiere ha detto che poi questi ha detto che lei ha estratto dal suo portafoglio una carta di identità italiana dopo aver cercato e non aver trovato i documenti in stanza che aveva quindi lei si è fatto aprire e ha estratto il suo portafoglio che aveva addosso e gli ha mostrato la carta di identità io adesso non ricordo i fatti però non avevo nemmeno il portafoglio non avevo senza cioè non avevo il portafoglio dietro quel momento perché io non sono uscito non sono senso per uscire sono senso per salire e per questo ero sprovvisto di documenti in realtà però lei i documenti ce li aveva addosso questo non lo ricordo però non credo perché se avrei avuto addosso il documento li avrei mostrato nel momento quando chiedevo perché io non è che lui è venuto su assolutamente non ricordo esattamente i fatti come si sono svolti però le cose sono andate così io le faccio presente questo che le dichiarazioni di Anthony su Ray e Fernando che sono state ribadite anche nel corso della seconda inchiesta sono nel senso per cui lei diciamo dopo aver guardato fatto finta di guardare nell'armadio non aver trovato i documenti estrasse dal suo portafoglio la la carta di identità che già aveva addosso quindi lei aveva la necessità di far risultare che non c'era nessuno in stanza e che qualcuno lo constatasse no assolutamente poi non è vero che ho guardato gli armadio perché gli armadio non ce n'erano non c'era nessun armadio dunque questo qua è impossibile che io abbia guardato in un armadio perché non c'era armadio che armadio potevo guardare io posso averli tirati fuori del portafoglio del portafoglio mio di un paio di pantaloni questo si però non dell'armadio assolutamente non ce ne sono armadie dentro però se sono state fatte le fotografie sicuramente si vede che non esiste nessun armadio il punto è un po' questo abbiamo le dichiarazioni della persona con cui lei parlò Dolores Calvello il 30 giugno 82 a quale ha riferito che lei disse che se avesse potuto entrare nella stanza avrebbe fornito il documento di identità e ha detto che lei non ce l'aveva ed Anthony Sorei Fernando ha dichiarato che dopo essere entrato nella stanza e estrasse dei pantaloni che indossava la carta di identità quindi è un po' strano questa sua condotta o no? No io ho tirato fuori i pantaloni ma non credo che ho tirato fuori i pantaloni che indossavo o parlo meno posso averli anche tirati fuori però vuol dire che non mi sono stati chiesti i documenti al momento quando io ho fatto aprirmi la porta questo è il fatto adesso non ricordo specificamente questo fatto però se io quando loro mi hanno chiesto io ho usato i documenti adesso non ricordo il fatto comunque io sono osseso senza documenti sicuramente sono osseso senza portafoglio anche perché non dovevo uscire e doveva salire carboni e dunque può darsi che è stato un equivoco però non vedo il motivo che io non potevo eseguire i documenti se li avevo addosso a quel momento guardi la signora con cui lei parlò che conosceva l'italiano signora Dolores Calvello non conosceva parlava l'italiano si alzava appena appena lei ha dichiarato risulta così dagli atti ha riferito che lei disse siccome lei è stato chiesto il documento per poter avere la chiave va bene che se avesse lei ha detto alla signora se avesse potuto entrare nella stanza avrebbe fornito il documento di identità questo lei ha dichiarato alla signora la quale lo ha riferito il 30 giugno dell'89 quindi poi lei il documento lo mostra e invece estraendolo dai suoi pantaloni di miei pantaloni adesso io non ricordo se erano i pantaloni che praticamente vestivo quel momento o se erano un paio di pantaloni che erano là adesso non ricordo esattamente questa circostanza comunque il fatto è che io i documenti giù non mi hanno mai chiesti mi hanno chiesti quando siamo arrivati all'appartamento e alla camera in quanto lei mi disse se mi fai vedere il documento posso lassarti altrimenti no e io le ho fatto vedere il documento ho capito quello che dice senta lei ha parlato del fatto che Calvi doveva incontrare due persone a Londra lei sa chi erano queste persone i nomi di queste persone vennero fatti? no i nomi non li aveva fatti però sa se li ha incontrati Calvi io non lo so se lui ha parlato per telefono questo non posso dirlo perché lui bene o male qualche telefonata ne faceva anche perché non riuscivo mai non riuscivo a capire quando parlava perché parlava molto sottovoce ma di quello che avevo capito io erano due grossi finanzieri però questo è solo allora come spiega che Cumber ha dichiarato che giovedì sera due persone bussarono alla sua stanza verso le 19 e che queste stesse due persone erano poi intorno alle 22 con Calvi mentre stavano prendendo l'alloggio di servizio questo non lo so perché il Consiglio dice questo come si chiama dice queste cose io non ricordo che due persone assolutamente due persone può aver bussato qualcuno alla mattina il pomeriggio non ricordo e assolutamente quanto meno che erano due persone lo escludo categoricamente senta durante il soggiorno londinese Calvi mostrava di avere paura ma Calvi aveva paura di farsi vedere di farsi notare questa era la paura sua non voleva essere conosciuto voleva passare per una persona cioè voleva star tranquillo ho capito lei ha dichiarato che la pagina 3 del vervare 24 giugno 82 ore 20 ricordo che Calvi mostrava di avere paura di qualcosa anche se alla porta bussava la donna delle polizie mi chiedeva di andare ad aprire poi non mi ha fatto confidenza è vero di fatti ricordo aveva paura in sostanza aveva paura posso anche aggiungere un'altra cosa quando noi abbiamo dormito a Innsbruck la prima notte e alla mattina è venuto a bussare la porta perché si doveva lasciare la stanza lui era si è praticamente diciamo così girato del lato a posto quando ha aperto il favito apre lei la porta lui praticamente non voleva farsi aveva paura di essere conosciuto questo dico io dopo non so che paura poteva averle lui lui aveva paura sì chiaro lei sa se Calvi si chiudesse all'interno quando c'era quando eravate in stanza chiudesse la porta all'interno ricorda se chiudesse con una sbarretta non ricordo se era sbarretta questo non non sono presente il 2782 ha dichiarato usava sempre chiudersi all'interno con una sbarretta di cui era munita la porta ma se l'ho detto vuol dire che è vero comunque in questo momento non 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 c'ho la visuale che si chiudeva dentro è sicuro senta lei sa se eh abbia posizionato la scrivania alla porta d'ingresso della stanza per bloccarla no era una scrivania un tipo di comò nella stanza sua perché anche là mi pare che era una stanza era messa già davanti era messa mi ricordo proprio il suo visuale della stanza sua perché mi chiamava dice vittor venga qua che facciamo due chiacchiere una cosa l'altra e praticamente penso che era una porta era messa cioè noi che l'ha messa lui era così predisposta alla camera sì no ma dico la stanza d'ingresso cioè la porta d'ingresso alla stanza cioè no alla stanza all'appartamento lei ha visto se ha notato non so dai segni della moquette per esempio oppure se ha visto che lo faceva quando lei era dentro se Caldi aveva posizionato no no assolutamente no dormivo io in quella stanza a parte non c'era niente da poter mettere davanti assolutamente ecco guardi il test Cumber pagina 3 e 4 per vale 16 marzo 90 ha dichiarato che gli è stato riferito dalle donne della pulizia che avevano notato nella moquette segni di spostamento della scrivania dal posto dove normalmente era sistemata fino a dietro la porta di ingresso lei è possibile che non l'ha mai notato no io non l'ho vista mai usare poi la moquette era distrutta erano segni di una scrivania segni di tutti di tutti i generi erano solo la moquette era una moquette molto vecchia una stanza cioè era proprio in degrado completo l'appartamento dove noi vivemo quel periodo senta ha molte domande ancora da fare perché se no chiudiamo se non è se riusciamo a finire bene altrimenti forse forse ancora un pochino c'è perché insomma è meglio sospendere insomma come ritiene tanto si come argomento l'abbiamo chiuso insomma si si l'argomento l'abbiamo chiuso riprendiamo dopo domani cerchiamo di iniziare per tempo va bene poi il controesame che previsioni si possono fare si prevede che siano molto lunghi oppure non so avvocato greco cerchiamo di finirlo per dopo domani insomma va bene va bene grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.